Buongiorno a tutti, possiamo accomodarci, possiamo chiamare il processo. Salvini Matteo, già presente e non comparso, Avvocato Giulia, buongiorno, presente. Per le parti civili, Proattiva, Open Arms è assente, Avvocato Arturo Salerni, presente, buongiorno. Acambi Aminat, assente, Avvocato Mario Antonio Angelelli. Cielo sostituisco io, Avvocato Silvia Calderoni, chiedo scusa, Presidente, volevamo dare atto anche della presenza di Oscar Camps e alle gare rappresentanti di Open Arms. Va bene, prendiamo alto. Subito dall'Avvocato Maria Giulia Fava. Mark Reich-Kreus, assente, Avvocato Giuseppe Nicoletti, presente. Anocte Kingsley, assente, Avvocato Gaetano Mario Pasqualino, presente. Sandai Endurance, assente, Avvocato Gaetano Mario Pasqualino, presente. Osservatorio Antidiscriminazioni Nuredin, assente, Avvocato Gaetano Mario Pasqualino, presente. Arci Sicilia, assente, Avvocato Michele Calantropo, è presente. Associazione Cooperazione Internazionale Sud-Sud, assente, Avvocato Giorgio Pisagna, presente. Mediterranea Saving Humans, è presente il Dottor Luca Cesarini, in rappresentanza del Presidente dell'Associazione Mediterranea, ed è difeso dall'Avvocato Gaetano Fabio Lanfranca, che è presente. Associazione Nazionale Giuristi Democratici, assente, Avvocato Armando Sorrentino, è presente. Associazione Accoglierete per la Tutela dei Minori Non Accompagnati, assente, Avvocato Corrado Giuliano. Sostituito per delega orale dall'Avvocato Daniele Ciancinino. In realtà sono sostituto processuale, ora che mi ricordo, sì. Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, assente, Avvocato Giovanni Annaloro, presente. Associazione Cittadinanza Attiva Sicilia, assente, Avvocato Eliana Maccarone. Assente, sostituita per delega orale dall'Avvocato Ilenia Grotta D'Aurea. Buongiorno. Lega Ambiente Nazionale, assente, Avvocato Daniele Ciancimino, presente. Lega Ambiente Sicilia, assente, Avvocato Daniele Ciancimino, presente. Comune di Barcellona, assente, Avvocato Mario Antonio Angelelli, sostituito dall'Avvocato Calderoni. Godwin Igodaro, assente, Avvocato Silvia Calderoni, presente. Onie Kuni Fidelis Sazuka, assente, Avvocato Silvia Calderoni, presente. Emergence Life, assente, Avvocato Silvia Calderoni, presente. Comune di Palermo, assente, Avvocato Giuseppe Natale, è assente. Oria Fom Lorenz, assente, Avvocato Francesco Robba, è assente. La Ubi Elmedì, alias La Ubi Maid, è assente. Avvocato Gabriele Lipani, è assente. L'Avvocato Maria Giulia Fava. Perfetto. Il processo veniva oggi per la discussione del Pubblico Ministero. Se non ci sono istanze o richieste, possiamo dichiarare chiusa l'istruzione dibattimentale, indicare come utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento e invitare il Pubblico Ministero a discutere. Grazie, Presidente. La nostra discussione sarà divisa in tre parti. Quanti siamo cioè i rappresentanti della pubblica accusa e quanti sono i capitoli, non a caso, della memoria conclusiva che depositeremo alla fine dell'udienza. Ci occuperemo quindi in ordine, prima della ricognizione della cornice normativa di riferimento nazionale e sovranazionale, poi della ricostruzione giorno per giorno dei fatti entro cui si intersecano le azioni e le omissioni addebitate al Ministro, infine procederemo alla lettura unitaria delle norme e dei fatti per verificare la sussistenza degli elementi costitutivi dei due delitti contestati. Il sequestro di persone in danno di 147 persone è il rifiuto di atti di ufficio. Sarà una discussione che ci impegnerà qualche ora e per questo riteniamo di dedicare poco spazio a questo nostro momento introduttivo se non per inquadrare da subito il contesto delle condotte. Un contesto ormai notorio, caratterizzato dalla marcata dicotomia tra i diritti fondamentali delle popolazioni migranti e la necessità per il Paese di far fronte alla gestione dei flussi migratori che lo attraversano. Un contesto in cui vengono in rilievo beni entrambi meritevoli di apprezzamento, ma solo uno, il primo, ha nella graduatoria ordinamentale un peso maggiore dell'altro sì da non poter essere bilanciati tra di loro. Né per dimostrare l'equivalenza e quindi la possibilità di un bilanciamento può essere agevolmente invocato il bene della difesa dei confini. Tale difesa nella gran parte dei casi, infatti, non serve a salvaguardarci da assalti armati o eversivi che mettono a repentaglio le istituzioni e i beni primari dei cittadini. Tale difesa non serve nemmeno a ridurre il numero dei morti di cittadini stranieri, meno partenze e meno morti, si è affermato in questo processo. L'innalzamento dei confini, infatti, non evita i morti, ma semplicemente consente a chi sta da quest'altra parte di non vederli e di non contarli. Quando poi questi flussi migratori giungono sul territorio nazionale, non per volontario transito ma in seguito ad operazioni di soccorso, la normale prevarenza dei diritti fondamentali diventa anche urgenza di prevalenza. Urgenza che va valutata, però, secondo i parametri oggettivi della legislazione sovranazionale e non con l'occhio a suo efatto alle tragedie dei barconi capovolti. Occhio che in qualche modo abbiamo riscontrato anche in questo procedimento, dove si è prospettato che un natante di legno di 12 metri che si trovava in alto mare con 55 persone a bordo senza salvagente, navigasse in sicurezza, come se l'alzarsi in piedi di un bambino il capriccio di un'onda non avesse potuto farlo ribaltare. Certo, la prevalenza e l'urgenza di prevalenza non possono risolversi per il nostro ordinamento giuridico in dettami di mobilismo per lo Stato che intenda salvaguardare anche altri interessi. Però a questo punto non si tratta più di bilanciare, ma di contemperare. Contemperare con lo sguardo attento alle leggi di rango superiore che lo stesso Stato si è dato o che ha recepito dalla comunità internazionale. Ed è proprio questo l'ambito del nostro processo. Il Governo Conte, il Governo Conte 1, come fatto notorio ma com'è emerso in maniera particolare in questo dibattimento, col suo contratto di governo prevedeva di sensibilizzare l'Europa, schermata dal regolamento di Dublino, per ottenere un'equa ridistribuzione dei migranti. L'allora Ministro dell'Interno, responsabile in tale sua qualità dei seguimenti più importanti del procedimento amministrativo per la gestione delle operazioni di soccorso in mare, parliamo appunto di procedimento amministrativo, ha ritenuto di poter squilibrare le unità di misura dei beni giuridici in gioco in favore dei porti chiusi, quali corollario del bene della difesa dei confini e quali strumento di pressione degli Stati membri. Dapprima ha costruito intorno a sé un sistema di regole già malfermo rispetto alla normativa interna internazionale, ci riferiamo agli accordi del tavolo tecnico del 2019, della direttiva del 2019, del Decreto Sicurezza Abissa dello stesso anno. E poi, di fronte all'inevitabile fallimento di quel sistema, che scontrandosi con le norme primarie non poteva evitare che la Guardia Costiera salvasse le vite in mare, né che i naufraghi trovassero terra, ha ritenuto non di rivedere quel sistema, ma di avventurarsi in atti non solo amministrativamente illegittimi, ma anche penalmente rilevanti, interrompendo così il nesso causale tra il proprio operato e il progetto politico di quel Governo. E' questa dunque la trama del nostro processo. Una questione di diritti, una questione di regole incapace di rispettare i diritti e soprattutto una questione di condotte che superano le stesse regole incapace di tutelare i diritti. Passo per la prosecuzione la parola al collega Ferrara. Sì, grazie. Al procuratore aggiunto. Come anticipato, l'oggetto della prima parte del nostro intervento sarà quello della ricostruzione del quadro giuridico internazionale e interno che riguarda la nostra vicenda. Perché nella materia del soccorso in mare, nella materia dell'intervento a tutela dei diritti fondamentali degli individui che vengono messi a rischio nel momento in cui decidono di attraversare spesso in condizioni drammatiche il mare, vengono in considerazione molto più che in altre la normativa internazionale. E questa disamina è fondamentale per fugare immediatamente alcuni equivoci di fondo. Cioè, il quadro in cui operiamo è quello degli eventi cosiddetti SAR o search and rescue o ricerca e soccorso, come li vogliamo chiamare. Ogni altro inquadramento giuridico che pure si è tentato all'interno di questo processo contrasto all'immigrazione clandestina, favoreggiamento all'immigrazione clandestina, condotte di arrivo illegale, non ha nulla a che vedere con l'oggetto di questo processo. E questo è stato già chiaro in quello che ha scritto il Tribunale per i Ministri nella sua relazione. Qui siamo in presenza di tre eventi SAR, quelli effettuati di tre salvataggi in mare effettuati dall'Open Arms l'1, il 2 e il 9 agosto 2019 e un quarto evento SAR, addirittura per come l'ha costruito il Tribunale, vale quello che si verifica nelle acque territoriali italiane al ridosso dell'isola di Lampedusa dal 14 agosto in poi nel momento in cui finalmente viene consentito all'Open Arms l'accesso a seguito del provvedimento del TAR che sospende il cosiddetto decreto porti chiusi. Lo dice espressamente il Tribunale Ministeriale, ripeto, che scrive di per sé occorre configurare un ulteriore sopravvenuto evento SAR che non consentiva allo Stato italiano di sottrarsi ulteriormente alle proprie responsabilità. Eventi che vengono interrotti e vengono conclusi solo nel momento in cui interviene, purtroppo ancora una volta spesso in sostituzione come viene accusata di fare un provvedimento e la magistratura vale a dire un decreto di sequestro adottato dalla Procura della Repubblica di Agrigento all'epoca competente sui fatti che interrompe l'iter criminoso che consiste nel non rilasciare il place of safety all'Open Arms per definire le operazioni di soccorso. Questo in termini generali ma quali sono le norme di diritto internazionale consuetudinario che trovano applicazione nel caso di specie norme che dal diritto consuetudinario hanno poi trovato rango costituzionale nell'ordinamento italiano affermando un obbligo di soccorso in mare che del resto è espressione di un principio risalente risalente probabilmente all'Ilia all'Odissea cioè il principio per cui occorre dare terra ai naufraghi questo è un principio chiave ed è fondamentale prima di ogni altro cioè il principio che nel momento in cui vi è una persona in pericolo in mare perché il mare è una situazione di pericolo e lo abbiamo visto anche con situazioni di cronaca un po' diverse di questi giorni di questi mesi anche proprio molto vicini a noi il mare è una situazione di pericolo e come tale richiede un soccorso richiede un obbligo di soccorso e non è un caso che l'obbligo di soccorso in mare è rimasto immutato da sempre dice una delle convenzioni chiave in virtù di una tradizione marittima ancestrale del diritto internazionale del mare e addirittura se già citiamo un testo come la convenzione di Bruxelles del 23 ottobre 1910 sull'unificazione di alcune regole in materia di assistenza e di salvataggio marittimi troviamo che nella convenzione di Bruxelles del 2010 è previsto un obbligo di soccorso anche del 1910 è previsto un obbligo di soccorso per il salvataggio del nemico cioè quindi laddove anche in una situazione di guerra laddove in caso di una situazione di conflitto armato vi è un rischio che deriva da determinate situazioni che richiedono un salvataggio marittimo anche il nemico ha diritto ad essere salvato a conferma proprio della universalità dei beneficiari e della sua portata pressoché illimitata il diritto internazionale ovviamente si è molto evoluto dal 1910 o dall'odissea e si è progressivamente rafforzato attraverso l'introduzione di una serie di convenzioni internazionali che nel nostro ordinamento trovano una copertura costituzionale perché come diceva il procuratore aggiunto prima di me qui abbiamo un bilanciamento tra diritti diversi abbiamo un primo diritto che è quello dello Stato alla tutela dei suoi confini e alla tutela della sovranità ma abbiamo diritti che ormai negli ultimi 50, 60, 70 anni da quando il tema dei diritti umani ha trasformato in meglio direi le nostre le nostre democrazie i nostri sistemi giuridici il tema dei diritti umani è quello che risulta prevalente su ogni altro diritto è un bilanciamento tra da un lato la tutela dei confini da un lato la tutela della sovranità nazionale e quello dall'altro quella della tutela dei diritti dell'uomo in termini di tutela dei diritti fondamentali la vita la salute la libertà personale tutti come vedremo garantiti da una serie di norme di carte internazionali che ricevono copertura giuridica costituzionale chiaramente prevale a favore di questi ultimi per ovvi motivi che verranno evidenziati a breve e questo dell'altro è stato evidente anche in una serie di pronunce di organi internazionali sia giudiziari che non giudiziari che esamineremo alla fine di questo intervento ma qual è la regolamentazione del soccorso in mare cioè il principio del soccorso in mare era un principio risalente a un certo punto chiaramente si ci rende conto che occorre adottare una serie di specifiche convenzioni internazionali sia di ambito più ristretto territoriale sia di ambito generale al fine di regolamentare questi obblighi tra gli stati al fine di introdurre un dovere di cooperazione tra gli stati e di collaborazione e questo da ultimo è stato riconosciuto in un documento che ha un valore fondamentale vale a dire il patto globale per le migrazioni adottato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2018 con risoluzione 73-195 approvato ben 152 stati tra cui l'Italia in cui si richiede ancora una volta proprio in relazione alle tragedie che si verificano all'interno del mar Mediterraneo cioè di questo mare su cui la Sicilia è un canale fondamentale di transito su quella che attualmente è considerata la rotta di migrazione più pericolosa del mondo vale a dire la rotta centrale del Mediterraneo si richiede dicono le Nazioni Unite una cooperazione per salvare le vite umane sottolineando che anche nelle operazioni di search e rescue dei migranti l'obiettivo primario è proprio la tutela della vita umana paragrafo 24 lettera quali sono queste principali convenzioni in materia di soccorso in mare e qual è la loro portata all'interno dell'ordinamento interno ribadisco la loro portata la ricaviamo da due articoli chiave della nostra carta costituzionale l'articolo 10 e l'articolo 11 l'articolo 10 che richiede che lo Stato italiano l'ordinamento interno si uniforma le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e l'articolo 11 che prevede un obbligo che prevede una limitazione della sovranità necessaria a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni tenuto conto di tale cornice normativa lo Stato italiano è dunque vincolato al rispetto dei principi di diritto internazionale universalmente riconosciuti tra i quali quello che impone ogni Stato l'obbligo di salvare la vita di chi si trovi in pericolo in mare obbligo che prevale su ogni altra norma nazionale o tra Stati finalizzato al contrasto dell'immigrazione naturale irregolare tale principio trova esplicita codificazione in una serie di trattati e di convenzioni che sono stati ratificati allo Stato italiano e che in forza della regola internazionale del pacta sunt servanda assumono ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione quindi sono tre le norme chiavi costituzionali che fanno sì che il sistema del soccorso in mare è un sistema di tutela primaria e che riceve una tutela e che riceve un riconoscimento costituzionale e assumono nella generichia delle fonti questo rango primario quali sono le tre convenzioni chiave di cui tanto abbiamo discusso nel corso di questo procedimento la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare la cosiddetta convenzione unclos di Montego Bay ratificata in Italia con legge 689 del 94 che all'articolo 98 sancisce che ogni Stato deve esigere il comandante di una nave che batte la sua bandiera nella misura in cui sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave l'equipaggio i passeggeri presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo proceda quanto più velecemente possibile al soccorso delle persone in pericolo se viene a conoscenza il loro bisogno di aiuto nella misura in cui ci si può ragionalmente aspettare da lui tale iniziativa la seconda è la convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 74 la convenzione SOLAS ratificata all'Italia con la legge 131 dell'80 che afferma l'obbligo del comandante di una nave che si trovi nella posizione di essere in grado di prestare assistenza di procedere con tutta rapidità alla loro assistenza se possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso capitolo 5 regolamento 33 e da ultima la convenzione di Hamburgo sulla ricerca e soccorso la cosiddetta convenzione SAR del 79 ratificata in Italia con la legge 147 dell'89 e il regolamento di attuazione con il DPR 662 del 94 che al punto 2 punto 1 punto 10 prevede che le parti si assicurano che venga fornita assistenza ad ogni persona in pericolo in mare fanno ciò senza tener conto della nazionalità o dello statuto di detta persona né delle circostanze nelle quali è stata trovata le convenzioni lette congiuntamente le tre convenzioni per questo sono state necessarie tre convenzioni perché progressivamente vedremo come la situazione si è modificata in relazione al soccorso in mare e per questo le convenzioni che hanno imposto precisi obbligo agli stati firmatari oltre a cui ovviamente l'Italia una volta adottate sono state recepite nell'ambito dell'International Maritime Organization la cosiddetta IMO che riflettono il citato principio consuetudinario dell'obbligo del soccorso in mare secondo cui nessuna richiesta di soccorso in mare deve rimanere senza risposta l'aspetto fondamentale è quello del procedimento di cooperazione tra stati finalizzato a migliorare il raggiungimento dell'obiettivo del salvataggio di individui in pericolo abbiamo visto cosa prevede l'articolo 98,2 della convenzione UNCLOS secondo cui ogni stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso abbiamo visto che la convenzione SOLAS e la convenzione SAR cercano di regolamentare meglio questo obbligo di collaborazione e non è un caso che significativi emendamenti alle convenzioni vengano adottati nel maggio 2004 perché nel maggio 2004 emendamenti che poi sono in vigore dal 2006 perché a seguito di un evento che riguarda un container norvegese a cui l'autorità SAR australiana aveva chiesto di intervenire in un'operazione di ricerca e soccorso nei confronti di un'imbarcazione indonesiana mi sembra una cosa che sembra molto simile al nostro sistema dove abbiamo navi di nazionalità diverse che cercano di accedere in un posto diverso in un territorio diverso le autorità australiane comunicano che le acque territoriali australiane erano chiuse l'imbarcazione tuttavia comunica che ha necessità di recarsi in Australia per il deterioramento della situazione a bordo perché la nave correva il rischio di naufraggio perché i naufraghi più di 400 persone erano in una posizione di pericolo l'autorità australiana comunica che se non fossero stati rispettati gli ordini l'equibaggio sarebbe stato indagato e arrestato per traffico di migranti poi interviene una nave militare australiana che conduce le persone a bordo e li conduce in Nuova Zelanda questi eventi di questo tipo richiedono di modificare le norme internazionali perché con gli emendamenti del 2006 nel momento in cui gli stati si rendono conto del rischio del diniego da parte degli stati coinvolti a questo tipo di situazioni adottano una serie di modifiche per far sì per far sorgere invece obblighi ben precisi a carico degli stati proprio in forza di quel principio chiave dell'obbligo di salvare le persone in pericolo uno di questi elementi chiavi è quello della individuazione delle cosiddette zone SAR ne abbiamo parlato tanto queste famose zone SAR nel corso del dibattimento le cosiddette zone SAR sarebbe search and rescue o zone di ricerca e salvataggio per tale ragione la convenzione SOLAS cioè quella sul salvataggio richiede l'adozione della convenzione SAR proprio al fine di standardizzare le attività di coordinamento funzionali alla cooperazione tra gli stati in vista del soccorso la convenzione SAR prevede tre momenti chiave uno è l'istituzione della zona SAR stessa a questa istituzione e qui gli stati nel Mediterraneo l'hanno fatto tutte ricordiamo che la zona SAR non coincide con le acque territoriali è una zona molto più ampia arriva quasi fino a 90 miglia dalle acque territoriali quindi che sono normalmente le classiche 12 miglia dalla costa a questa zona SAR seguono all'istituzione seguono due ulteriori fasi operative l'allertamento cioè quella in cui viene inviato e ricevuto un messaggio di soccorso con la valutazione della situazione di stress e vedremo cosa significa di stress in concreto e la terza fase che è quella del soccorso nella quale è inclusa grazie agli emendamenti del 2004 grazie alla nave norvegese che salvava dei profughi indonesiani che voleva arrivare in un territorio australiano viene prevista espressamente con la modifica con gli emendamenti la necessità che il salvataggio si completa con lo sbarco in un luogo sicuro da questo momento in poi il salvataggio non è più che io ho preso le persone in mare sulla nave sono al sicuro no da quel momento in poi parte integrante della procedura di soccorso in mare dopo il search dopo il rescue cioè dopo la ricerca e dopo il prelievo è che il migrante ha diritto e vedremo sulla base di quali norme a tutela dei diritti umani ha diritto di arrivare in un posto sicuro e vedremo qual è il posto sicuro questo fa sì che gli stati coinvolti nell'ambito delle SAR oggetto dell'intervento ricadano vengono a ricadere vengono a determinarsi una limitazione della loro sovranità trattandosi di zone di responsabilità e questa è una parola chiave di responsabilità vedremo come la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo della Corte di Giustizia il Comitato dell'ONU dei diritti umani ha progressivamente ampliato la giurisdizione dello Stato giurisdizione laddove nel momento in cui io Stato ho il potere di controllo su determinati soggetti devo garantire come prima cosa i loro diritti questo quando vi è una situazione di stress cos'è questa situazione di stress di cui tant'abbiamo parlato la convenzione SAR riproduce una nozione classica di distress la regola 1.3.11 dell'allegato precisa che la fase di pericolo è rappresentata da una situazione nella quale vi è luogo di pensare che una persona una nave o un altro congegno sono minacciati a un pericolo grave imminente e hanno bisogno di soccorso immediato come da regola 3 dell'allegato la situazione di stress si concretizza nel momento in cui le informazioni ricevute indicano chiaramente che una persona una nave o un altro congegno sono in pericolo quindi al di là delle zone di irresponsabilità che già sono un ampliamento notevole dell'obbligo dello Stato è determinante il momento in cui si ricevono informazioni sullo stato di pericolo perché da tale momento lo Stato coinvolto attraverso la segnalazione del comandante della nave in difficoltà non può più sottrarsi all'obbligo di soccorso qual è questa situazione di pericolo è una situazione per la cui è stata interpretata questo distresso questa situazione di pericolo come una situazione per la quale è necessario un intervento urgente in presenza di un pericolo grave e imminente che nella giurisprudenza che se ne è occupata e nell'interpretazione che se ne dà non è necessariamente connesso a una necessità fisica effettiva ma può dipendere da un complesso di elementi non è neppure necessario dice l'articolo 18 paragrafo 2 della convenzione di Montego Bay che sia un'estrema concreta gravità della situazione ma è richiesta una più generica pericolosità addirittura la commissione internazionale del diritto internazionale delle Nazioni Unite del 2001 ha detto che in un caso di distress lo Stato che interviene per salvare le vite umane anche commettendo un illecito viene scusato dall'illecito commesso proprio perché l'illecito viene eliminato dalla situazione stessa di pericolo perché tra il dovere di adempiere gli obblighi internazionali e altri legittimi interessi dello Stato poiché la situazione di distress richiede un intervento per salvare vite umane sempre potenzialmente a rischio su un'imbarcazione senza che abbia rilievo alla nazionalità il motivo del pericolo in questo caso anche comportamenti illeciti se finalizzati a salvare chi si trova in una situazione di stress sono giustificati come avviene il coordinamento tra gli stati al fine di garantire questo famoso post questo famoso place of safety in questo senso ovviamente rilevano gli emendamenti alle convenzioni SOLAS e alla convenzione SAR adottati nel contesto dell'IMO perché l'intenzione perseguita agli emendamenti come dice la risoluzione MSC 167 barra 78 è quella di garantire in ogni caso che un luogo sicuro venga fornito un termine ragionevole cioè l'idea è che non solo diciamo l'intervento deve garantire i profughi salvati i naufraghi salvati le persone in pericolo ma deve anche garantire che i comandanti delle navi che forniscono assistenza imbarcando le persone in difficoltà in mare siano liberati dai loro obblighi con un'ulteriore minima deviazione dalla rotta prevista per quel viaggio il principio cardine sono quindi fondamentalmente due la responsabilità di fornire un luogo sicuro o di garantire che venga fornito un post spetta al governo responsabile della regione SAR come in primo luogo ma ciascun caso dice il punto 2.6 degli emendamenti può comportare circostanze diverse questi emendamenti danno a tutti i governi coinvolti a tutti gli stati coinvolti la flessibilità di affrontare ogni situazione caso per caso al fine di assicurare che i comandanti delle navi siano sollevati la loro responsabilità prima possibile la risoluzione per questo individua una serie di linee guida alla luce delle quali ciascuno Stato dovrebbe disporre dei piani operativi e vedremo che l'Italia ha adottato chiaramente il piano operativo per intervenire nel caso di eventi SAR i piani operativi dovrebbero coprire gli incidenti in primo luogo che si verifica all'interno della propria regione SAR ma dicono la risoluzione se necessario dovrebbero coprire anche incidenti al di fuori della propria regione fino a quando l'IRCC responsabile della regione in cui viene fornita assistenza o un altro RC in una posizione migliore intervenga a gestire il caso accettandone la responsabilità in coerenza con questi principi la risoluzione individua il principio del cosiddetto centro di coordinamento di primo contatto stabilendo al punto 6 che il primo è responsabile per aver coordinato il caso per aver ricevuto per primo l'informazione del caso fino a quando l'IRCC o altra autorità competente non assumerà la responsabilità nelle linee guida regolamento 2 punto 1 punto 10 SAR e regolamento 33 punto 1 SOLAS si sottolinea che sussiste un obbligo per cui tutte le persone in situazioni di pericolo siano assistite senza ritardo e che ogni operazione di soccorso sia realizzata senza tenere conto della nazionalità o dello status di detta persona e delle circostanze nelle quali è stata trovata in sintesi gli emendamenti alla convenzione SAR che dal 2004 sono parte comune del nostro ordinamento con rilievo di fonte primaria stabiliscono che il migrante in mare è unicamente una persona da salvare e ai fini del suo soccorso non rilevano né il motivo per cui si trova nella situazione di pericolo né la nazionalità è rilevante la classificazione della persona in pericolo che potrebbe essere un passeggero potrebbe essere un membro dell'equipaggio potrebbe essere un migrante potrebbe essere anche astrattamente un trafficante di esseri umani o potrebbe anche essere astrattamente un terrorista che in quel momento si trova a bordo perché anche il terrorista o anche il trafficante di esseri umani secondo quelle che sono le norme di diritto internazionale non possono essere lasciati in una barca ma lo Stato interviene con le norme che gli sono proprie perché lo Stato è diverso dai criminali lo Stato interviene li salva e poi se del caso li processa il coordinamento delle operazioni di salvataggio quindi comprende l'indicazione di un place of safety è quello il momento fondamentale perché solo con lo sbarco in un luogo sicuro le operazioni di salvataggio si sono concluse il fattore tempo è un elemento essenziale perché dicono tutti gli emendamenti che deve avvenire in tempi irragionevoli e il relativo luogo deve essere indicato appena possibile questo principio del place of safety è stato modificato rispetto a quella che era l'originaria interpretazione dove vi era una presunzione che il place of safety fosse il posto più vicino il luogo sicuro invece a seguito degli emendamenti si è resi conto che spesso non è il luogo sicuro il place of safety non è il luogo più vicino soprattutto non è il luogo più vicino nel momento in cui i luoghi più vicini sono stati dove vengono costantemente violati i diritti umani dove le persone se vengono rimandate indietro vanno incontro a situazioni di tortura vanno incontro a essere tenuti in centri di detenzione che sono parificabili dai lager nazisti vanno incontro al rischio di essere di nuovo sottoposti a quegli stessi fenomeni di trattamento che hanno ricevuto durante il loro viaggio che le cronache e anche gli atti giudiziari anche istruiti da questo ufficio ci hanno più volte dimostrato invece il luogo sicuro è il luogo in cui le operazioni di soccorso si considerano terminate il luogo dove la sicurezza relativa alla vita dei sopravvissuti non è più minacciata è dove i loro bisogni umani di base come cibo riparo e necessità sanitarie possono essere soddisfatti il luogo dal quale possono essere organizzati trasporti verso la prossima destinazione o la destinazione finale dei sopravvissuti allegato alla convenzione SAR paragrafo 1.3.2.6.12 della risoluzione MSC è tutta la normativa internazionale in questo senso il regolamento UE del 2014 quello che disciplina l'attività di Frontex che rega norme per la sorveglianza e le frontiere marittime quindi da un lato abbiamo un regolamento che si occupa giustamente di regolamentare le frontiere marittime perché gli stati hanno diritto a regolamentare le frontiere marittime hanno diritto a controllare i flussi migratori hanno diritto a dettare delle regole per l'accesso nel loro territorio ma dall'altro istituiscono anche organi a tal senso Frontex l'agenzia dell'Unione Europea che si occupa proprio di questo ma nello stesso regolamento che ne disciplina il funzionamento l'Unione Europea dice che è un luogo che viene indicato come luogo sicuro il luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata possono essere soddisfatte le necessità umane di base e definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva normalmente quindi il POS diciamo così è il porto più vicino si era questa presunzione però questo è stato modificato tanto è stato modificato nel corso degli anni e allora dobbiamo rispondere a due domande che sono state oggetto anche di questo dibattimento la prima la nave di salvataggio può essere considerata un luogo sicuro come c'è stato più volte rappresentato nel corso di questo processo la risoluzione MSC e la interpretazione da giudici da pubblici ministeri da avvocati deve essere fatta sulla base di quelle che sono le norme che regolamentano questa situazione la risoluzione MSC dice che una nave ausiliaria non deve essere considerata un luogo di sicurezza solo perché i sopravvissuti non sono più in pericolo immediato una volta a bordo della nave anche se la nave è capace di ospitare in sicurezza i sopravvissuti e può servire come luogo temporaneo di sicurezza dovrebbe essere sollevata da questa responsabilità non appena possono essere presi accordi alternativi punto 6 punto 13 della risoluzione pertanto la nave può essere considerata un post temporaneo solo se risponde al requisito di fornire secondo le circostanze del caso concreto come dice la convenzione UNCLOS un idoneo luogo di sicurezza e quali sono queste circostanze la situazione a bordo della nave assistente le condizioni dei luoghi le disigenze mediche la disponibilità di trasporto di altre unità di salvataggio nella rappresentazione che verrà fatta nel proseguo di questa requisitoria vedremo quali erano le situazioni a bordo vedremo se vi era ragione di tenere ulteriormente 147 persone su una nave di 20 metri di lunghezza con due soli bagni a bordo e così via non immoro oltre su questo perché verrà esaminata in dettaglio ma che la nave non sia un luogo sicuro oltre alla risoluzione è un principio ormai consolidato il punto 6.14 addirittura stabilisce che anche le navi predisposte ad hoc per effettuare il salvataggio devono per essere consigliati luogo sicuro devono avere dei requisiti ben precisi pensiamo alle navi che venivano utilizzate durante il covid quando arrivavano i migranti per fargli effettuare la quarantena come sapete partita dal covid mentre l'arrivo prima dei migranti avveniva Lampedusa Portempedocle parliamo dei territori di nostra competenza nel momento del covid per ragioni legate all'emergenza sanitaria vengono individuate invece delle navi ma sono navi ad hoc sono navi in cui normalmente stazionano 5.000 croceristi non delle navi in cui ci sono 12 persone di equipaggio e vengono stipati 150 profughi lo stesso dice la definizione del manuale Yamsar in sostanza è solo la terraferma essere un post e questo lo ha ripetuto anche la Cassazione la Cassazione anche di recente con la sentenza 66-26 del 16 gennaio 2020 dice la Suprema Corte che non può essere qualificato luogo sicuro per evidente mancanza di tale presupposto una nave che oltre a essere in balia degli eventi meteorologici avversi non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorso ne può considerarsi compiuto il dovere di soccorso con il salvataggio dei naufraghi sulla nave e con la loro permanenza su di essa anche perché le persone a bordo dice la Cassazione devono avere anche la possibilità di esercitare il diritto alla presentazione delle domande di protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 51 operazione che non può essere certo effettuata sulla nave ma lo dice anche la risoluzione 1821 del 21 giugno 2011 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che dice che il place of safety non è solo il luogo che assicura la protezione fisica ma è un luogo dove vengono rispettati tutti i diritti fondamentali ma lo dice anche lo Stato italiano già dal 2006 perché la presidenza del Consiglio dei Ministri italiana sul Dipartimento della Protezione Civile italiano al punto 3 2.3 sull'assistenza a terra dice che è disposto che al ladere dell'intervento delle operazioni di ricerca e salvataggio condotte in male è necessario provvedere a terra a terra non dice sulla nave dice a terra l'organizzazione del soccorso sanitario l'assistenza alla popolazione interessata dall'evento prevedendo tra le altre misure attività di triage assistenza psicologica vigilanza igienico-sanitaria tutte misure che non possono essere evidentemente effettuate a bordo di una nave e così lo prevede anche lo stesso piano marittimo nazionale cui rinvio ma poi lo prevede anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza si watch cause riunite C14-21 e C15-21 depositati il 1 agosto 2022 dice che si riconosce un diritto dello Stato di approdo di compiere ispezioni sulla nave solo dopo che sono state completate tutte le operazioni di trasbordo e di sbargo delle persone alle quali i rispettivi comandanti hanno deciso di prestare soccorso peraltro la direttiva Rimpatri del 2013 stabilisce espressamente che viene qualificato come trattenimento illegittimo un confinamento da parte di uno Stato membro in un luogo determinato che lo priva della libertà di circolazione della libertà personale tenendo conto che i migranti si trovano a vivere in un perimetro estremamente ristretto e inadatto nonché in una situazione di isolamento rispetto al mondo esterno e di impossibilità di godere dei diritti umani ai quali sono titolari una nave non certificata per il trasporto di persone ma utilizzata per il salvataggio perché quello che ha fatto l'open arms ma lo può fare anche un mercantile e abbiamo visto i casi lo può fare anche un peschereccio nel caso di queste navi che di per sé non sono utilizzate per il trasporto di persone dice la Corte di Giustizia con la sentenza FMS FNZSA del 14 maggio 2020 il trattenimento in una zona di transio in un perimetro estremamente ristretto è una misura privativa della libertà del richiedente asilo anche perché è tenuto a vivere in un ambiente che non può abbandonare di propria iniziativa e quindi che la nave sia un posto sicuro possiamo dire con certezza che tutte le fonti normative danno una risposta negativa la seconda domanda è che invece se tutti i paesi possono essere considerati un posto sicuro e anche in questo caso la domanda è la risposta evidente no non tutti i paesi possono essere un posto sicuro perché non tutti i paesi hanno la stessa condizione di tutela dei diritti umani che per fortuna abbiamo in Italia abbiamo in Europa e in altri paesi dove vengono regole democratiche diverse e ma del resto i rapporti internazionali acquisiti in atti quello dell'ONU quello dell'Unione Europea quello dell'UNS C.H.R. stabiliscono che né la Libia né la Tunisia sono paesi in cui può applicarsi la normativa sul post non sono place of safety perché questo significa posto alla fine posti di sicurezza ma questo oltre a rinviare alle numerose deposizioni dei testi che ce l'hanno detto penso all'ex ministro Moavero penso all'ex ministro all'ex presidente del Consiglio Conte o al comandante De Falco lo dice anche l'attuale ministro dell'interno il ministro Piantedosi capo di gabinetto all'epoca dei fatti attuale ministro dell'interno lo dice che ha testimoniato le tragedie condizioni in cui vengono tenuti i migranti in Libia dice espressamente sì nei centri tenuti dei trafficanti c'è ampia letteratura che nei centri tenuti dei trafficanti in Libia è preferibile che non finiscono le persone le condizioni sono sicuramente di centri illegali quelle tenute dai trafficanti dai trafficanti ma infatti mai nessuno ha stabilito che la Libia da parte nostra non abbiamo mai consegnato ai libici delle persone dicendogli di portare puntini puntini nel senso in tel senso il rapporto Libia del 2022 del relatore speciale sui diritti umani che ha evidenziato tutte le gravi violazioni che avvengono che avvengono in Libia nello stesso senso la deposizione dell'ex ministro Moavero testualmente all'epoca la Tunisia non faceva parte di nessuna lista di stati a rendersi sicuri come del resto la Libia ha ugualmente le conclusioni del Consiglio d'Europa del 28 giugno 2018 più volte citate dall'imputato nel corso delle sue dichiarazioni spontanee come una normativa che gli avrebbe consentito l'adozione di provvedimenti del tipo di quelli che invece si ritengono illegittimi dove cosa succede in queste conclusioni del Consiglio d'Europa del 2018 viene detto di accrescere il sostegno a favore della Guardia Costiera Libica perché tutte le navi operanti del Mediterraneo devono rispettare le leggi applicabili e non interferire con le operazioni della Guardia Costiera Libica ma in alcun modo in nessun di questo testo che è facilmente reperibile sul sito del Consiglio d'Europa indicato anche in nota nella nostra memoria in nessuna parola di questo testo si considera Libia un posto sicuro anzi si ribadisce la necessità di intensificare gli sforzi per porre fine all'attività dei trafficanti in Libia per contrastare la perdita di vita umana che ne deriva da questo in sostanza una cosa è considerare Libia un posto non sicuro e finire l'indicazione del POS ed altro è evitare che in mare si creino situazioni di conflitto tra più organi che intervengono e questo è il senso di questo delibere del Consiglio d'Europa cioè come era avvenuto in passato che non vi fosse il rischio che la guardia costiera libica si sparasse addosso con le guardie costiere italiane come è successo questa è la ragione non certo di considerare la Libia un posto sicuro ma del resto una breve digressione su che cosa è la guardia costiera libica l'abbiamo visto anche in questi giorni e notizia di questi ultimi giorni qualche settimana un paio di settimane fa che un'esecuzione è avvenuta a Tripoli del direttore dell'accademia della guardia costiera libica il noto trafficante Abduram al mila del detto Bigia che era già oggetto di indagini da parte di questo ufficio con l'emissione di un mandato d'arresto internazionale che non è mai stato eseguito per mancata collaborazione da parte dell'autorità libica che era inserito nella black list delle Nazioni Unite come uno dei maggiori trafficanti uno dei trafficanti più feroci e più spietati della zona di Zahia che è quella da cui partono in maggior misura i migranti che nonostante questo suo curriculum coinvolto in un numero impressionante nella gestione di centri di detenzioni illegrali prima è il comandante della guardia costiera libica di Zahia e poi viene promosso a comandante dell'accademia navale libica cioè di quella che forma la guardia costiera libica e che per questo viene giustiziato diciamo da qualcuno che evidentemente in questi giorni a Tripoli nonostante andasse in giro con una considerevole protezione che non ha però impedito quello che doveva quello che è successo ecco si è sostenuto che l'Open Arms doveva restituire tra virgolette i migranti alla guardia costiera libica la verità è che lo sbarco in un luogo sicuro è un obbligo di risultato alla luce degli emendamenti introdotti nel 2004 delle linee guida che hanno modificato dalla convenzione SAR lo stato che resta destinatario dell'obbligo di soccorso sia nel fatto che le persone devono essere portate in un luogo sicuro poiché ogni caso è unico punto 6 punto 15 della convenzione SAR va tenuto conto del numero delle persone a bordo dell'insufficienza di acqua e cibo di assistenza medica la sicurezza delle persone dell'equipaggio e così via lo stesso regolamento UE 656 del 2014 chiarisce che le misure adottate ai fini di un'operazione marittima sono attuate in modo da assicurare in ogni caso l'incolumità delle persone intercettate o soccorso quindi l'operazione di soccorso non si conclude con il mero intervento in una situazione di pericolo ma solo con la fase di sbarco e in questo complesso meccanismo qual è il ruolo dello stato di bandiera perché più volte abbiamo sentito a dibattimento che viene un obbligo della Spagna in quanto stato di bandiera dell'open arms di intervenire la risoluzione e anche qui dobbiamo basarci su quello che dicono le norme non possiamo applicare un principio base siccome la nave spagnola deve intervenire la Spagna siccome la nave per fortuna la nave non era neozelandese altrimenti doveva intervenire la Nuova Zelanda e quindi dovevamo portare i migranti dal Mediterraneo fino all'oceano Pacifico invece le norme ovviamente si rendono conto della necessità di regolamentare queste situazioni prevedono degli obblighi dello stato di bandiera come giusto che sia e la risoluzione MSC 167-78 stabilisce che il luogo sicuro deve essere individuato anche in modo tale che il trasporto delle persone verso tale luogo non comporti per la nave assistente un eccessivo disagio va contemperata con le esigenze autorità dei diritti umani e l'articolo 98 della UNCLOS continua a prendere in considerazione il luogo più vicino abbiamo detto escludendo quindi che la nave debba essere ricondotta debba essere dirigersi verso lo stato in cui batte bandiera la stessa convenzione SAR non dispone una primaria responsabilità dello stato della bandiera nell'individuazione luogo sicuro che invece dice espressamente risoluzione A.1 A.1138 slash 31 adottata dall'IMO il 4 dicembre 2019 dice che lo stato della bandiera ha l'obbligo di adottare leggi rinconamenti e altre misure volte a garantire che una nave sia idonea al servizio cui è destinata adottandosi del caso le sanzioni amministrative adottandosi del caso i provvedimenti ma certamente non intervenendo per ovvie ragioni nella laddove non sia possibile ovviamente nella procedura di rilascio del post nella stessa nella stesso senso è la raccomandazione 2020 slash 1365 il 23 settembre 2020 tra gli stati membri con cui la commissione europea proprio a seguito della crisi migratoria dell'unione a partire dal 2014 ha sottolineato che proprio in riferimento agli eventi di soccorso effettuati da organizzazioni non governative che sussistono esigenze operative specifiche di coordinamento e cooperazione rafforzata tra le navi che trasportano le persone tratte in salve le autorità nazionali che riguardano gli stati membri in modi diversi alcuni stati coordinano le operazioni ricerca e soccorso altri diciamo le persone soccorse sono sbarcate sul loro territorio altri sono gli stati in cui hanno sede legale le organizzazioni non governative altri sono gli stati di bandiera delle navi usate per le attive ricerca e soccorso la commissione non indica una responsabilità principale dello stato di bandiera ma prevede una cooperazione rafforzata tra le ONG e gli stati membri tra cui lo stato della bandiera ma in tal senso ovviamente la questione è andata più volte alla corte di giustizia ma anche alla corte dei diritti umani la corte di giustizia nell'unione europea nella citata sentenza si watch ha stabilito che l'obbligo di soccorso non può essere delimitato né allo stato di bandiera né allo stato costiero e singolarmente lo stato italiano ha aderito a questa interpretazione ha aderito a questa interpretazione per negare la propria responsabilità come stato della bandiera della mare Ionio nella sentenza nel marzo 2019 nel caso della nave mare Ionio lo stato italiano ha sostenuto che non vi era una sua responsabilità come stato di bandiera Italia ai fini dello sbarco come atto finale del soccorso ma in quel caso ha sostenuto era lo stato del porto più vicino che non era l'Italia non ha detto siccome è intervenuta la mare Ionio siccome la mare Ionio è una nave italiana allora noi abbiamo l'obbligo di dare il post e del resto sul ruolo dello stato della bandiera mi sembra ci sembra che sia rilevante quanto ho dichiarato al ministro degli esteri Moavero che ricordiamo appunto all'epoca era il ministro che interloquiva proprio con la Spagna sul rilascio del post e che dice testalmente il ministro degli esteri spagnolo me l'ha ripetuto più riprese non c'è dubbio che non esiste una responsabile dello stato di bandiera in quanto della Spagna in quanto stato di bandiera della nave voi siete il paese più vicino perché dovrebbero venire da noi ma è la stessa cosa da sostituto d'Italia nel caso della Mare Ionio ma del resto e mi sembra che sia stato efficace anche cosa dice il comandante De Falco che è un soggetto qualificato sia per il ruolo svolto di ufficiale del capitale di porto sia perché era all'epoca senatore della Repubblica membro dell'aggiunta per le immunità autorizzazione a procedere dove dice in maniera lapidaria ma se la nave fosse stata panamensa la mandavano a Panama è chiaro che il principio propone nel caso del rilascio del POS e allora qual è lo stato competente a indicare il POS l'allegato convenzione SAR capitolo 3 paragrafo 3.1.9 dispone che la parte responsabile della ricerca di salvataggio dovrà esercitare la primaria responsabilità per assicurare che sia svolto il coordinamento e la cooperazione considerate le particolari circostanze del caso affinché lo sbarco sia effettuato al più presto come ragionamente praticabile tale disposizione mostra con chiarezza non solo che non è affatto escluso che in una zona SAR appartenente a un paese debba intervenire altri stati ma anche che altri stati subentrino allo stato SAR nei compiti di salvataggio e di sbarco in tal senso si richiama il caso PINAR-E dell'aprile 2009 in cui una nave di proprietà di una società turca battente bandiera panamense viene salvata nella zona SAR maltese Malta sosteneva che la nave avrebbe dovuto essere condotta nel luogo più vicino a Lampedusa mentre l'Italia riteneva che la responsabilità fosse di Malta proprio in quel caso risultò chiaro che uno stato come l'Italia non poteva sottrarsi all'obbligo di soccorso come dice la sentenza PINAR-E del 2009 nel quale era incluso lo sbarco in luogo sicuro per il fatto che un evento si verificava in una zona SAR di un altro stato per cui il principio qual è? che ogni stato a conoscenza di una situazione di pericolo mantiene l'obbligo di soccorso che si conclude con il rilascio del POS la portata ampia dell'obbligo di cooperazione tra gli stati viene evidenziata da numerose pronunce interpretative delle convenzioni internazionali la decisione della Corte CEDU del 25 giugno 2019 nel caso Rachete e altri contro l'Italia non esclude la giurisdizione italiana malgrado la nave battente e bandiera straniera fosse intervenuta nella zona SAR libica e l'imbarcazione si trovasse al momento del ricorso al di fuori delle acque territoriali italiane perché introduce ugualmente nella sentenza CEDU grande camera Nd Nt contro Spagna prevede una presunzione di competenza di ogni stato che riceve una segnalazione della situazione di pericolo vale a dire in quel caso la Spagna perché dice la CEDU non possono non è possibile ammettere uno spazio di non diritto all'interno del quale gli individui non siano soggetti a alcun regime giuridico che permette loro di beneficiare dei diritti e delle garanzie previste dalla convenzione ricorsi 86 75 15 86 97 15 paragrafo 109 la CEDU ovviamente è chiara nell'individuale del fatto che gli stati come primo obbligo hanno quello di intervenire hanno l'obbligo di salvare e sono gli stati che vengono coinvolti sulla base delle norme che ho detto ci ho detto sulla normativa internazionale ma qual è la normativa italiana in tema di immigrazione via mare e quali sono le competenze del ministro dell'interno la normativa italiana è stata frutta ovviamente di una serie di evoluzioni normative abbiamo le tre autorità amministrative chiave qui rinvio per la memoria che sono l'MRC l'NCC e il Dipartimento delle Libertà Civili e per l'immigrazione e poi soprattutto abbiamo ovviamente il ministro dell'interno il piano operativo del 2004 il piano operativo che recepiva la più volte citata risoluzione del 2004 veniva adottato con la direttiva SOP edita nel 2015 dal comando generale del corpo della capitania di Porto Guardia Costiera all'esio di un tavolo di coordinamento del contrasto dell'immigrazione via mare tenutosi nel 2015 presso il ministero dell'interno secondo quel tavolo del 2015 l'attività di soccorso in mare ove l'attività di soccorso in mare sia stata effettuata da Unità Navaria della Guardia Costiera italiana la richiesta di assegnazione del posto di essere presentata da MRCC all'NCC che a sua volta provvederà all'inoltro della medesima al Dipartimento per le Libertà Civili e per l'immigrazione del Ministero dell'Interno ufficio competente all'indicazione del posto tenendo in considerazione e avendo cura di limitare per quanto possibile la permanenza a bordo delle persone soccorse e far subire alle navi soccorritrici la minima deviazione possibile al viaggio programmato è ovvio che trattandosi di interventi di soccorso connessi a fenomeni migratori che hanno possa avere anche un effetto in relazione al fenomeno a possibili lesioni del bene dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica quindi la si inquadra all'interno del Ministero dell'Interno dove esiste appunto il Dipartimento per le Libertà Civili e per l'immigrazione nel 2018 si decide di cambiare questo sistema legittimamente come la linea politica di ogni di ogni governo e si decide proprio nel momento in cui l'odierno imputato diventa Ministro degli Interni e decide di modificare legittimamente la linea in materia di contrasto all'immigrazione all'immigrazione clandestina al fine di avviare un'interlocuzione con gli altri paesi dell'Unione Europea per una condivisione nella distribuzione e la redistribuzione dei migranti e lo modifica con il famoso tavolo tecnico di coordinamento del contrasto all'immigrazione illegale via mare del 12-2-2019 che è bene dire questo tavolo tecnico le norme le discussioni di questo tavolo tecnico non vengono mai riprodotte in un atto amministrativo formale ma di fatto e ce lo dicono tutti i testi che sono stati sentiti a dibattimento vengono per i seguimenti applicate perché considerate cogenti indipendentemente dalla loro formalizzazione si decide di spostare la competenza al rilascio del POS dal Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione all'ufficio di gabinetto del Ministro dell'Interno anzi al potere anzi alle competenti articolazioni del Ministero dell'Interno al fine di consentire l'avvio dell'istruttoria interna e la condivisione europea per l'indicazione delle località di sbarco e la dislocazione dei migranti la decisione finale viene attribuita direttamente al Ministro dell'Interno e questo è un elemento chiave nello spostamento della legittimamente della risposta alla problematica migratoria che però deve avvenire sempre nel rispetto di quei diritti umani e di quel bilanciamento di cui sto parlando da circa tre quarti d'ora quali sono queste competenti articolazioni del Ministero dell'Interno perché dice il tavolo tecnico la procedura prevede che MRCC Roma e inoltre NCC richiesta di POS soltanto qualora nell'evento di soccorso siano state coinvolte unità navali della Guardia Costiera e Mercantini con il coordinamento di MRCC Roma mentre qualora l'intervento di soccorso avvenga in acqua internazionali al di fuori dell'area SAR nazionale e le operazioni di soccorso siano state effettuate da navi battenti bandiera straniera senza il coordinamento dell'autorità SAR italiana qualora la situazione dovesse presentare aspetti connessi o l'immigrazione illegale e la nave si diriga verso le acque territoriale italiane MRCC tempestivamente fornirà all'NCC dettagliati elementi necessari a consentire l'adeguata valutazione del caso da parte delle competenti articolazioni del Ministero dell'Interno per l'adozione dei provvedimenti di competenza fondamentalmente cosa ci vuole dire questo tavolo tecnico che distingue due ipotesi intervengono gli italiani la Guardia Costiera o navi italiane seguo una procedura intervengono con una vista di un'altra procedura e già questo per come abbiamo visto non è compatibile con le norme internazionali ma soprattutto ci dice che nel momento in cui io qualifico l'evento come immigrazione clandestina e questo dalla ragione del perché il Ministero dell'Interno scrive sempre eventi di immigrazione clandestina e non evento SAR allora posso applicare questa diversa questa diversa questa diversa normativa e ancora di più nel momento in cui dopo il tavolo tecnico vengono adottati i cosiddetti decreti sicurezza in cui si individua definitivamente tra le competenti articolazioni del Ministero dell'Interno come diceva il tavolo tecnico la figura del Ministro dell'Interno con il suo unico ufficio con il suo ufficio di gabinetto con l'unico soggetto competente all'indicazione del post il carattere consolidato di questa prassi ci è stato confermato a dibattimento dal testo ai garroni dal testo ai mancini quindi testi in trane al Ministro dell'Interno dal Ministro Trenta dal Presidente Conte al Ministro Toninelli dal Ministro Lamorgese al Ministro Di Maio ma anche lo stesso imputato non l'ha negato che la competenza fosse sua nel rilascio o meno del post la Trenta per esempio cosa ci dice a chi spettava la decisione finale sull'autorizzazione allo sbarco alla designazione del post al Ministro dell'Interno all'epoca Matteo Salvini certo Presidente del Consiglio Conte il Ministro dell'Interno a mia conoscenza aveva la responsabile di questo procedimento amministrativo della concezione del post Luigi Di Maio all'epoca dei fatti quando siamo che apparteneva alla competenza a concedere il post al Ministro Salvini la testa Lamorgese che subentra con il Ministro dell'Interno conferma che anche lei conformamente a questa normativa era il soggetto competente al rilascio del post come diceva anche l'imputato non ha negato tra le sue competenze fino ad affermare che nella vicenda dell'Open Arms avrebbe lui stesso provveduto al rilascio del post qualche giorno dopo come verrà poi esaminata queste dichiarazioni più in dettaglio se non fosse intervenuto il progetto di sequestro della Repubblica di Agrigento né cercano di mutare questo quadro le dichiarazioni del Ministro attuale Piantedosi che ha cercato di diluire questo obbligo ma del resto è il Ministro dell'Interno l'interlocutore del Tribunale per i minorenni di Palermo quando gli chiede di fare sbarcare i minori è il Ministro dell'Interno l'interlocutore diretto della Procura della Repubblica presso i minori di Palermo quando gli chiede di fare sbarcare i minori ed è lui stesso l'interlocutore diretto del Presidente del Consiglio Conte quando gli chiede di fare sbarcare i minori minori che non avrebbero richiesto il POS perché vige un principio per cui il minore anche presunto tale anche presunto tale ma qua abbiamo perché poi i minori non erano presunti tali che dei 28 solo 8 non erano minorenni ma c'erano 20 invece li si tiene a bordo i minori in violazione di tutte le possibili normative internazionali e internazionali la Convenzione sul Fanciullo la legge Zanda la Convenzione a tutte le persone vulnerabili e così via e chi è l'interlocutore il Ministro dell'Interno e del resto la tendenza a centrare sul Ministro dell'Interno lo dice la conferma lo stesso Ministro Salvini con la direttiva 14 100 barra 141 del 18 marzo 2019 in cui dà precise indicazioni in merito alla qualificazione degli interventi di salvataggio di migranti italiani senza il coordinamento dell'autorità nazionale rinvio al testo della direttiva l'indicazione fornita al Ministro qual è in concreto che ogni nave che non è una nave italiana peraltro non è neanche così perché ricordiamo che c'era stato il caso in cui anche la nave italiana era stata bloccata penso alla Gregoretti penso alla Diciotti e così via ma parliamo di questo caso in questo caso cos'è che decide il Ministro Salvini decide che qualunque nave che salva dei migranti commette un cosiddetto passaggio non inoffensivo che è poi quello che ci dice la convenzione Unclos per eventualmente adottare dei provvedimenti a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica quindi sulla direttiva dice qualifichiamo ogni passaggio di una nave straniera come inoffensivo perché è pregiudiziare per il buon ordine e la sicurezza dello Stato e così possiamo adottare le norme finalizzate a limitare lo sbarco delle persone a bordo ma così non è perché il passaggio inoffensivo ha bisogno di dati concreti e noi abbiamo sentito tutti i testi tutti i testi qualificati il capo della squadra mobilica di Agrigento il prefetto di Agrigento il questore di Agrigento tutti i funzionari del Ministero dell'Interno i stessi ministri abbiamo chiesto a tutti ma voi avevate idea che vi fosse una situazione di offensività perché non inoffensivo questo significa c'erano terroristi a bordo c'erano armi c'erano materiale propagandistico c'erano prove che fossero trafficanti esseri umani nessuno ci ha detto questo quindi di per sé io qualifico come non inoffensivo un passaggio senza elemento concreto e così limito i diritti umani di chi si trova a bordo senza avere commesso alcuna situazione di offensività così come evidentemente Presidente e signori giudici il riferimento ai tentativi di redistribuzione non può funzionare come condotta limitativa dei diritti dei migranti intanto a sbarcare intanto a chiedere protezione internazionale nessuna norma la linea politica è giusto per seguire la linea politica ma chiaramente non vi può essere propria utilicità o subordinazione tra il rispetto ai diritti umani e fare ridistribuire i migranti prima si fanno ridistribuire ma del resto ce lo dice anche ci hanno detto il testo Moavero prima si fanno scendere l'ha detto anche il Presidente e poi si ridistribuiscono altrimenti si rischia di fare politica sulla pelle di gente che in quel momento sta soffrendo perché si tratta di gente che è da 20 giorni in mare che si trova in una barca che si trova in una nave che si trova con due bagni alla Turca e così via un aspetto chiave più volte si è detto ma qui noi stiamo sindacando un atto politico quindi un processo che sta a sindacare un atto politico come tale rischia di diventare un processo politico è pacifico che qui di atto politico non c'è nulla l'atto politico la modalità di emissione del POS è il proprio il classico atto amministrativo come tale oggetto di sindacato giurisdizionale sia da parte del giudice civile amministrativo penale gli atti politici secondo una residenente giurisprudenza del Consiglio di Stato sono quelli caratterizzati con presenza di due requisiti il primo di carattere soggettivo promanare da un organo di vertice della pubblica amministrazione tra quelli preposti all'indirizzo e alla direzione della cosa pubblica e ci sarebbe il caso il secondo di carattere oggettivo consistente nell'essere l'atto concernente la costituzione salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione Consiglio di Stato sentenza 6083 del 2011 la Corte Costituzionale già con la sentenza 81 del 2012 riduce gli spazi della escrezionalità politica che trovano il loro confine nei principi di natura giuridica posti all'ordinamento tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo quando il legislatore pretermina i requisiti di legalità la politica deve attenersi in ossegchio ai fondamentali principi dello Stato di diritto non vi è dubbio che la rilascio del posti in quanto diretto a incidere su posizioni soggettive non è un atto politico ma un atto amministrativo e del resto lo dicono anche le decisioni del Tribunale dei Ministri tra cui quella che ci ha portato a questo processo lo dice anche la nota sentenza del Gup di Catania più volte richiamata che ha poi adottato il proscioglimento nel caso di un'altra nave il Gup di Catania cosa dice tutto ciò che sta a valle dell'indirizzo politico generale vale a dire i singoli comportamenti omissivi o commissivi compiuti dagli esponenti politici del governo costituiscono una libera estrinsecazione del potere del singolo del singolo di Castero che vanno a interessare i diritti e gli interessi legittimi dei singoli individui per tale ragione non possono essere sottratti alla giurisdizione del giudice penale lo stesso dice il Tribunale dei Ministri lo stesso ce lo dicono poi gli altri che avrebbero dovuto essere gli altri coinvolti nell'atto politico il Presidente del Consiglio lo dice espressamente nel corso della sua deposizione adesso lo dico un po' volgarmente come per me era niente più che un rilascio del POS era niente più che una pratica amministrativa di competenza del Ministero competente quindi quale atto politico quale processo politico qua abbiamo un atto amministrativo come tutti gli atti amministrativi deve avere dei obblighi ben precisi se viola dei diritti soggettivi può essere sindacato sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista penale quindi quali potevano essere questi provvedimenti amministrativi previsti alla vigente normativa internazionale e nazionale i provvedimenti vengono modificati con i decreti sicurezza la possibilità di adottare il cosiddetto decreto decreto di chiusura dei porti ma questi provvedimenti questi provvedimenti per come intenzione la memoria cui rinvio sono palesemente in contrasto con tutte le convenzioni internazionali materie di soccorso in mano sono in contrasto con l'articolo 19 dell'unclos sono in contrasto con l'articolo 25 della convenzione di Montecobbei sono in contrasto con l'articolo 311 della stessa convenzione con la pronuncia della corte di giustizia nel caso Sea-Watch e del resto ricordiamoci che il Presidente della Repubblica in data 8 agosto 2019 quando promulga i decreti di sicurezza dice espressamente che individua delle rilevanti perplessità con riferimento alla violazione delle norme sull'immigrazione non è stato introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi alle condotte concretamente poste in essere alla ragione della presenza di persone accolte e bordo trasportate la limitazione dice il Presidente della Repubblica e il divieto di ingresso può essere disposto nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia tra cui ovviamente le convenzioni che abbiamo detto quindi se in generale lo Stato può chiudere l'accesso ai propri porti alle proprie frontiere non può farlo quando sorgono questioni umanitarie e di rispetto degli obblighi internazionali in materia dei diritti umani come confermato nelle rineguida del limo del 2015 dall'International Chamber of Shipping e dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifiuti come previsto anche dal protocollo di Palermo sul contrasto al traffico dei migranti cioè il protocollo di Palermo che è il protocollo annesso alla Convenzione ONU sul contrasto al crimine organizzato è quello che disciplina tra le altre cose le attività di contrasto al traffico di esseri umani e dice che anche nell'adozione di misure per la lotta al traffico di migranti quindi quando poi più forte il potere dello Stato che chiaramente interviene in maniera repressiva su queste condotte terribili di traffico di esseri umani tuttavia prevede l'obbligo di rispetto dell'incolumità e del trattamento delle persone umane a bordo tenendo debitamente conto della necessità di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico articolo 9 lettera B del protocollo in tal senso si pronunciano sulla illegittimizzazione sul contrasto con una misura di questo tipo ulteriori emergono una misura di questo tipo in contrasto con ulteriori fonti internazionali come per esempio la direttiva 2002 del consiglio del 28 novembre 2002 così come lo evidenzia il contrasto come il relatore speciale sui diritti umani dei migranti nel rapporto del 12 maggio 2021 e del resto anche il successivo articolo 11 ter come modificato del testo unico in migrazione detta norma non distingue a seconda che si tratti i soggetti soccorsi in unità navale italiane ovvero straniere e neppure peraltro vi è il rischio che un provvento di questo tipo determini un respingimento collettivo vietato sin dalla convenzione di Ginevra il cosiddetto principio di non reforma che più volte la giurisprudenza nazionale internazionale ha ritenuto un principio cardine nella disciplina dei flussi migratori quindi quali erano questi provvedimenti che le competenti articolazioni del ministro dell'interno dovevano adottare sulla base del tavolo tecnico eccetera sicuramente erano il rilascio del post perché aveva l'obbligo di rilasciarlo il post perché quando vi è una situazione di questo tipo il potere dello Stato interviene chi svolge una funzione pubblica interviene anche a tutelare i diritti di quei soggetti che ricadono sotto il suo controllo e in quel momento i migranti che si trovavano a ridosso a bordo dell'open arms ricadevano sotto il controllo dello Stato sicuramente erano i provvedienti in tema di protezione internazionale perché chi arriva da determinati paesi in un sistema come il nostro ha il diritto che gli venga riconosciuta o se ne ha diritto o che venga comunque esaminata la sua domanda di protezione internazionale sicuramente erano i provvedimenti che avrebbero dovuto fare sbarcare immediatamente i minori a bordo quelli quelli erano i provvedimenti di competenza delle competenti di articolazione del ministero dell'interno che avrebbero dovuto essere adottati non non adottarli e lasciare a bordo i migranti o i naufraghi o i coloro che erano stati salvati altre vado a chiudere molto velocemente altri due considerazioni uno sul principio del non respingimento che l'ho già comunque accennato è un principio chiaro quello della convenzione di Ginevra è un principio cardine universalmente riconosciuto la pietra angolare della disciplina giuridica sulla protezione dei rifugiati ovviamente è stato poi declinato in una serie di fonti normative ulteriori dell'Unione Europea del Consiglio d'Europa il principio chiaro è che non si possono respingere collettivamente le persone ma devono essere sottoposte ogni situazione deve essere analizzata e meno che mai si possono respingere come abbiamo visto in posti dove non vengono tutelati i loro diritti i loro diritti umani questo è stato espresso dalla convenzione di Ginevra ma poi dalla carta fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dell'articolo 19 che è dalla stessa corte costituzionale dalla nostra stessa carta costituzionale perché l'articolo 10 dice che lo straniero al quale si è impedito al suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge le libertà fondamentali sono quelle di quelli articoli 13 e 28 della nostra carta costituzionale quello status di rifugiato è uno status costituzionale che come tale prevale nella sua valutazione su ogni altro se poi non avrà diritto se poi verrà dimostrato che invece nel suo paese non aveva nessuno di questi rischi allora si adottoranno i provvedimenti amministrativi conseguenti e questo viene ancora una volta evidenziato dal capo dello Stato perché quando vengono emanati il decreto sicurezza bis col DL 113 del 2018 il presidente Mattarella scrive testualmente al governo avverto l'obbligo di sottolineare che in materia come affermato nella relazione di accompagnamento al decreto restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato pur se non espressamente richiamati nel testo normativo e in particolare quanto direttamente disposto all'articolo 10 della Costituzione e quando discende dagli internazioni assunti all'Italia l'articolo 10 è chiaro su questa tutela ma del resto nello stesso senso sono ripeto la convenzione contro la tortura la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea all'articolo 19 il patto sui diritti civili e poi diritti del 66 la convenzione americana dei diritti dell'uomo la carta africana sui diritti dell'uomo tutte norme tutte norme che ovviamente tutelano questo principio cardine che poi ha avuto anche un riconoscimento giurisprudenziale per esempio nella sentenza resa alla Grande Camera nel caso Irci e altri contro Italia in cui si afferma appunto che tutte le forme di controllo dell'immigrazione e dei confini devono comunque avvenire nel rispetto ai diritti umani un secondo profilo è quello dei minori migranti su cui comunque ho già detto tanto ripeto questo è un aspetto chiavo un aspetto ulteriore su cui non vi è proprio diciamo discrezionalità la convenzione di New York dell'89 già sui diritti del fanciullo ratificata in Italia con la legge 186 del 91 impone a ogni autorità nazionale di adottare provvedienti a misure tenendo conto dell'interesse superiore del minore è lo stesso la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani adottata a Varsavia nel 2005 lo stesso il Comitato ONU per i diritti umani del 2020 lo stesso la legge Zanda la legge nazionale che recepisce queste fonti internazionali che introduce il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati e in tal senso l'Italia è stata condannata dalla CEDU per esempio con la sentenza d'Arboe Camara contro l'Italia che ha accertato proprio nel trattamento dei migranti minori la violazione dell'articolo 8 che assicura il diretto a rispetto alla vita umana e familiare dell'articolo 3 che viete trattamenti umani o degradanti e dall'articolo 13 l'obbligo positivo è quello invece grava sugli stati di adottare procedure rapide per l'accertamento dell'età e nel momento del soccorso nella fase iniziale prima vengono predisposti gli accertamenti e in mancanza di documenti vi è una presunzione che la dichiarazione di minore età è fondata e non irragionevole quindi prima il minore si fa sbarcare prima possibile prima possibile lo Stato italiano il Ministro dell'Interno il Ministero dell'Interno sono informati che a bordo dell'Open Arms ci sono dei minori sin dal 1 agosto 2019 sono informati ulteriormente negli altri sbarchi sono informati quando è nelle acque territoriale italiane e ciò nonostante nonostante la richiesta del Presidente del Tribunale dei Minori nonostante del Procuratore dei Minori nonostante la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri che quindi fa pensare che non vi sia nessuna valutazione politica in tutto questo i minori continuano ad essere tenuti a bordo fino a quando alla seconda lettera come vedremo del Presidente Conte il Ministro dell'Interno dice che suo malgrado suo malgrado comunque i minori li farà sbarcare rinvio alle varie decisioni in tal senso e concludo con l'ultimo paragrafo che è quello per cui il soccorso in mare e la tutela dei diritti dell'uomo nelle deliberazioni degli organismi internazionali nelle corti internazionali hanno trovato un riconoscimento esplicito e progressivamente sempre più ampio e sono numerosissime non annoio ulteriormente il Tribunale leggendo che avrò modo di consultarle nella nostra memoria quel che è certo è che sussiste un principio chiave non discutibile che tra i diritti umani e la protezione della sovranità dello Stato anche ripeto addirittura nei confronti del nemico e sono i diritti umani che nel nostro ordinamento un ordinamento per fortuna democratico e che trova delle precise coperture costituzionali sono quelli che devono prevalere la limitazione della libertà personale è uno dei diritti umani fondamentali e quindi come tale non può essere legittimamente limitato dal potere di chi riveste una funzione pubblica sospendiamo cinque minuti e poi riprendiamo con il dottore Sarig riprendere e poi ce lo mandiamo tutti Presidente scusi sono l'Avvocato Pasqualino primitamente comunico l'Avvocato Nicoletti si è allontanato e lo sostituisco io va bene ne prendiamo altro pubblico ministero può continuare prego grazie grazie presidente abbiamo esaminato la cornice normativa in cui si inseriscono le condotte contestate nei capi di imputazione dobbiamo ora ricostruire in ordine cronologico la sequenza dei fatti che hanno portato poi la procura della Repubblica di Agrigento a emettere il decreto di sequestro preventivo di urgenza della nave open arms che ha assegnato l'avvio di questo procedimento penale la nave open arms battente bandiera spagnola utilizzata dall'ONG proactivo open arms fondata da Oscar Camps e all'epoca omologata per il trasporto di 19 persone salpa il 29 luglio 2019 dal porto di Siracusa nel corso della missione 65 il primo agosto del 2019 procede a una prima attività di salvataggio a seguito di alcune informazioni ricevute via mail da Alarm Phone altra ONG operante nel continente africano che segnalava una tanta in difficoltà in distress come abbiamo visto poco fa abbiamo acquisito agli atti la mail inviata da Mary Jacobs di Alarm Phone sia alle autorità libiche che alla Open Arms nella quale effettivamente si segnala la chiamata di emergenza ricevuta da una barca in difficoltà di cui è indicata l'esatta posizione con a bordo circa 50 persone e che testualmente aveva riferito che la barca imbarca acqua e che il motore è lento le persone a bordo dell'imbarcazione stanno chiedendo urgentemente aiuto a seguito di questa mail la Open Arms quindi il 1 agosto 2019 effettua in area SAR libica un primo intervento di soccorso di 55 persone di varie nazionalità 39 uomini 14 donne 2 bambini che si trovavano a bordo di questo natante in legno che viene definito in distress sia nel diario di bordo dell'Open Arms che poi in tutte le comunicazioni ufficiali di quei giorni il comandante dell'Open Arms Mark Reis Creus comunica immediatamente l'intervenuto soccorso tramite email sia alle autorità governative libiche che ai centri di coordinamento RCC italiano e maltese nel corso di questo dibattimento è poi emerso che anche un sommergibile della marina militare italiana il sommergibile venuti impegnato nell'ambito dell'operazione mare sicuro aveva in realtà ripreso l'imbarcazione in questione dopo l'intervento di soccorso dell'Open Arms e abbiamo acquisito il relativo materiale fotografico e video che documenta il barchino in questione non mi soffermerò su questa vicenda che analizzeremo meglio nel proseguio di questa nostra requisitoria ma già da quelle immagini e dalle relazioni dei vari consulenti dall'esame dei vari consulenti che abbiamo sentito in questo dibattimento è confermato che si trattava di un'imbarcazione in stato di pericolo quantomeno per l'evidente sovraccarico della stessa e il conseguente rischio di ribaltamento del mezzo lo scrivono i consulenti Magazzù e Megna nella relazione che abbiamo acquisito è l'aspetto della stabilità legato all'abnorme numero di migranti di persone a bordo quello da ritenere come maggiormente critico in quanto suscettibile di poter condurre in modo irreversibile all'ingavonamento e conseguente ribaltamento del mezzo nel caso sempre possibile di imprevedibili e incontrollati spostamenti a bordo degli occupanti o di eventuale incontro con moto ondoso sempre il primo agosto 2019 l'allora ministro dell'interno odierno imputato Matteo Salvini dispone nei confronti dell'Open Arms il divieto di ingresso transito e sosta nel mare territoriale nazionale ai sensi dell'articolo 11 comma 1 ter del decreto legislativo 286 del 96 che abbiamo citato prima decreto che viene controfirmato dagli allora ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti ruoli ricoperti da Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli nel decreto interdittivo possiamo leggere che l'Open Arms ha imbarcato i migranti a bordo di una tante in distress che il comandante ha effettuato l'intervento in totale autonomia che si profila quindi un'ipotesi di passaggio non inoffensivo ai sensi proprio dell'articolo 19 comma 2 lettera G della convenzione di Montego Bay sui quali ci siamo soffermati prima sempre secondo quanto si legge nel divieto d'ingresso ove la nave Open Arms si indirizzi in maniera arbitraria alla navigazione verso l'Italia dalle circostanze dell'intervento e dal complessivo modus operandi della stessa potrebbe desumersi l'intenzione di porre in essere un'attività volta al preordinato e sistematico trasferimento illegale di migranti in Italia aggiunge il decreto interministeriale l'attività dell'Open Arms avrebbe potuto determinare anche rischi di ingresso sul territorio nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica questa pericolosità viene sostanzialmente dedotta in maniera automatica dalla circostanza per cui le persone tratte a bordo dell'Open Arms sono cittadini stranieri privi di documenti d'identità e la cui nazionalità è presunta sulla base delle rispettive dichiarazioni questo automatismo ci è stato spiegato dallo stesso imputato in sede di esame all'udienza del 12 gennaio 2024 quando ha chiarito che il passaggio dell'Open Arms era stato considerato non inoffensivo perché così erano considerati automaticamente tutti i passaggi di imbarcazioni battenti bandiere straniere che avevano raccolto immigrati in acque non di competenza italiane e senza il coordinamento dell'autorità italiana e dice Salvini erano trattati tutti allo stesso modo io mi occupavo di sicurezza nazionale quindi per quello che mi riguarda le fattispecie riguardavano l'immigrazione clandestina quindi noi non ci ritenevamo assolutamente responsabili per episodi avvenuti in acque non italiane senza il coordinamento italiano lo stesso ministro Salvini ha precisato che non si erano avute in quella circostanza notizie specifiche su terroristi a bordo dell'Open Arms o su altri soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica lo ha precisato anche l'allora ministra della difesa Elisabetta Trenta che abbiamo sentito all'udienza del 2 dicembre 2022 su quel divieto d'ingresso Elisabetta Trenta ha riferito che in quel momento era stato concepito come un atto che scoraggiasse le organizzazioni non governative dal decidere di arrivare direttamente sempre in Italia e quindi concepiva una multa per queste organizzazioni che dopo aver ricevuto il divieto d'ingresso decidessero comunque di entrare in territorio italiano con specifico riferimento alla vicenda dell'Open Arms la ministra Trenta ci ha anche spiegato che aveva ricevuto solo il decreto da controfirmare già predisposto e firmato dal ministro Salvini che era il ministro competente alla sua emanazione e che come ministro della difesa lei non aveva ricevuto alcuna notizia in relazione a possibili e potenziali terroristi a bordo della nave sulla genesi di questo decreto interdittivo ha riferito anche il ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'epoca Danilo Toninelli che sul punto è stato molto chiaro quello era un momento in cui il governo di fatto era già finito dove non c'era più nessun tipo di interlocuzione da parte dei ministri certamente non da parte del sottoscritto con l'allora ministro dell'interno e la firma la sottoscrizione di quel decreto di ingresso fatta mi pare il primo agosto io sostanzialmente la feci una volta raggiunto dalle autorità di polizia col documento del decreto e la relativa firma quindi il primo agosto 2019 la Open Arms effettua un primo salvataggio di 55 migranti in zona SAR libica il ministro dell'interno emette un divieto di ingresso nelle acque nazionali italiane controfirmato dai ministri della difesa e dei trasporti il giorno successivo 2 agosto 2019 alle ore 4 e 26 l'Open Arms effettua in acque internazionali un secondo salvataggio questa volta di 69 persone a bordo di un gommone anche questo ritenuto in distress l'evento è stato descritto nel corso di questo dibattimento dai vari testi che abbiamo sentito dal comandante Creos dalla capomissione Montes anche dal soccorritore Francisco Gentico che in prima persona aveva avvicinato l'imbarcazione in difficoltà a bordo di una delle due scialuppe della Open Arms la Eco 1 sentita l'udienza del 7 luglio 2023 Gentico riferisce era un gommone azzurro che era sgonfio si vedeva che era molto fragile aveva persone sedute tutta attorno al gommone con una gamba dentro e l'altra fuori erano 69 persone c'erano due donne in stato di gravidanza dopo c'era una bambina di all'incirca 7 anni un bambino di 5 anni quando siamo arrivati là ci hanno detto che la bambina era svenuta poi c'era una persona che aveva una bruciatura molto molto importante c'erano tanti feriti tra cui una persona che aveva due spari nella caviglia con riferimento a questi primi due eventi di salvataggio dell'1 e del 2 agosto 2019 il comandante dell'Open Arms informa immediatamente le autorità libiche con riferimento al primo soccorso avvenuto in zona SAR libica RCC Spagna stato e paese di bandiera della nave RCC Malta sottolineando che il secondo evento si era verificato già in zona SAR maltese e IMRCC il centro di coordinamento italiano che sin dal 1 agosto viene notiziato dei soccorsi effettuati dall'Open Arms queste circostanze emergono documentalmente dal giornale di bordo dell'Open Arms che abbiamo acquisito dagli atti da tutte le mail che sono state inviate e ricevute dall'Open Arms che sono state tradotte a mezzo perizia in sede di udienza preliminare che abbiamo poi acquisito al fascicolo del dibattimento cosa rispondono le varie autorità informate dal comandante Creus la Libia non risponde Spagna paese di bandiera della nave risponde con email del 2 agosto 2019 delle ore 13 e 28 e invita Creus a mettersi in contatto con RCC Malta nella cui zona SAR si era verificato il secondo evento di salvataggio le autorità maltesi sin da subito declinano ogni responsabilità come spesso è accaduto nel corso degli anni affermando che non sono loro le autorità competenti né l'autorità di coordinamento e quindi rifiutano di occuparsi della vicenda la prima mail inviata da RCC Malta è quella del 2 agosto 2019 dell'ore 4 e 19 ma ne seguiranno molte altre nei giorni seguenti di identico contenuto nella stessa sera del 2 agosto 2019 per la prima volta il comandante Creus invia a RCC Roma una prima richiesta di post di place of safety per i 123 naufraghi in quel momento presenti a bordo indicando come porto più vicino quello di Lampedusa l'e-mail del 2 agosto 2019 dell'ore 22.50 attualmente abbiamo 123 persone a bordo che hanno bisogno di andare in un luogo sicuro il più presto possibile quindi considerato che Lampedusa è il porto sicuro più vicino alla posizione del soccorso vi chiediamo gentilmente di darci un post sotto il quadro giuridico in cui abbiamo fatto entrambi i soccorsi Creus avvisa di aver già chiesto il post anche a RCC Malta e di aver informato lo stato di bandiera così si conclude la giornata del 2 agosto 2019 nei giorni immediatamente successivi la Open Arms si mantiene in acque internazionali a sud ovest di Lampedusa in zona SAR maltese e reitera più volte le richieste di POS sia a Malta che all'Italia evidenziando il progressivo deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie a bordo lo fa con mail del 4 agosto 2019 delle ore 11 e 03 domanda e rilascio del POS a Malta che espressamente rifiuta con mail sempre del 4 agosto delle ore 13 e 35 con mail del 6 e del 7 agosto del 2019 la Open Arms invia ulteriori richieste di POS anche al Centro di Coordinamento Italiano sottolineando la presenza a bordo di diversi minori anche non accompagnati dei quali fornisce espressamente l'elenco allegato in un documento Excel che abbiamo acquisito agli atti e che è trasmesso a tutte le autorità competenti si legge nella mail del 7 agosto 2019 delle ore 8 e 15 a firma della Capomissione Montes dopo 5 giorni senza alcun POS abbiamo inviato l'elenco dei minori che abbiamo a bordo perché come sapete sono in una posizione vulnerabile e dovrebbero essere tutelati per legge pertanto secondo la legge internazionale sui diritti umani vi chiediamo di trovare urgentemente una soluzione a sua volta il centro di coordinamento italiano trasmette tutti i messaggi le mail le richieste di POS e le documentazioni allegate alle competenti autorità italiane e in particolar modo per quello che abbiamo visto prima al gabinetto del ministero dell'interno che a sua volta le veicola in tempo pressoché reale allo stesso ministro Salvini come confermato anche dall'imputato nel corso del suo esame a domanda del presidente ma lei di queste richieste di POS che venivano avanzate da Open Arms a Malta e all'Italia era al corrente sì sì c'era un costante carteggio le richieste di POS rivolte da Malta all'Open Arms rimangono però senza risposta né positiva né negativa per tutti i giorni successivi sino vedremo al 19 agosto del 2019 in questo frangente temporale un altro dato rilevante che merita di essere sottolineato è che l'8 agosto 2019 la Open Arms comunica ai MRCC anche il fatto che 89 dei migranti soccorsi avevano manifestato la volontà di richiedere asilo e protezione internazionale e trasmette in allegato le relative dichiarazioni debitamente sottoscritte anche in questo caso senza ottenere alcuna risposta sempre l'8 agosto del 2019 il procuratore della Repubblica e il presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo inviano una prima lettera indirizzata al ministro dell'interno ai ministri della difesa delle infrastrutture e dei trasporti rappresentando che il giorno prima il legale dell'Open Arms aveva presentato un ricorso segnalando che a bordo della nave c'erano 28 minorenni in condizioni di emergenza e pericolo di vita dei quali si chiedeva lo sbarco in Italia e si chiede quindi quale iniziative i ministri intendessero adottare a tutela dei minori leggo solo alcuni passaggi della lettera in questione l'allegato numero 12 della nostra originaria produzione documentale all'udienza del 23 ottobre 2021 si è appreso che il capitano della nave aveva dato comunicazione della presenza di minori stranieri non accompagnati a bordo dell'Open Arms nella tarda serata del 6 agosto 2019 e che non era stata ancora attivata dalle autorità italiane alcun tipo di procedura ad eccezione di tre evacuazioni mediche si rileva che le convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce e l'articolo 19,1 bis del decreto legislativo 286 del 98 impongono il divieto di respingimento alla frontiera e di espulsione dei minori stranieri non accompagnati riconoscendo loro invece il diritto a essere accolti in strutture idonee nonché di avere nominato un tutore e di ottenere il permesso di soggiorno evidentemente tutti questi diritti vengono elusi a causa della permanenza dei minori a bordo della nave Open Arms deve evidenziarsi come i predetti minori si trovino in prossimità della frontiera con lo Stato italiano impossibilitati a farvi ingresso per il divieto combinato il 1 agosto 2019 dalle autorità italiane al capitano della nave sul quale sono imbarcati e quindi in una situazione che equivale in punto di fatto a un rispingimento o di niego di ingresso a un valico di frontiera si chiede pertanto di conoscere quali provvedimenti le autorità intendano adottare in osservanza della normativa internazionale e nazionale sopra richiamata e siamo all'8 agosto 2019 questa lettera del Presidente del Tribunale per i minorenni e del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale rimarrà senza risposta fino a sette giorni dopo il 15 agosto 2019 quando il Ministro Salvini risponderà declinando ogni responsabilità come vedremo fra poco abbiamo detto dei primi due eventi sarro uno del primo agosto 2019 il secondo del 2 agosto 2019 un terzo evento sarro si verifica il 9 agosto 2019 quando l'Open Arms esegue un terzo salvataggio di un battello in distress con a bordo questa volta 39 migranti in questo caso in zona sarro maltese e sotto il controllo e il coordinamento di RCC Malta ce l'ha riferito la capomissione Anna Belmonte all'udienza del 13 maggio 2022 si trattava di un'imbarcazione di legno che era inclinata pericolosamente a quel punto abbiamo avvisato Malta attraverso il telefono satellitare poi dirà anche via mail Malta ci ha detto che se questo era il pericolo potevamo intervenire quindi potevamo imbarcare a bordo di Open Arms le persone in difficoltà di questo terzo evento ci ha riferito anche il soccorritore gentico anche in questo caso intervenuto in prima persona a bordo della scialuppa a soccorrere i naufraghi erano 39 persone in maggioranza magrebini si trovavano in uno stato scarso vomitavano uno faceva vedere la gamba di continuo perché diceva di avere sei spari fatti con la pistola molti di loro si trovavano lì a vomitare e una cosa che mi ricordo che uno di loro che ha fatto l'interprete diceva in continuazione che queste persone avevano bevuto l'acqua del mare chiedevano acqua di dare acqua e nella RIB noi abbiamo l'acqua solo per i soccorritori siamo a pagina 16 del verbale di udienza del 7 luglio 2023 con riferimento a questo terzo evento SAR coordinato da RCC Malta Malta si dichiara disponibile a accogliere solo i 39 naufraghi salvati in quell'ultimo terzo evento il comandante Creus ce lo ha spiegato in questo dibattimento rifiuta uno sbarco parziale ritenendo che avrebbe potuto provocare dei disordini tra i diversi gruppi di migranti soccorsi nei tre diversi eventi e avrebbe aumentato la tensione già elevata a bordo con evidente conseguente pericolo per la sicurezza della navigazione di cui egli era il solo responsabile sulla base del diritto internazionale del male dice Creus ho rifiutato di fare sbarcare i 39 migranti per evitare insurrezioni in concreto a bordo dell'open arms dopo nove giorni dal primo salvataggio e dopo aver effettuato diverse medevac c'erano situazioni di nervosismo fra i migranti che ritenevano ingiustificate le evacuazioni solo di alcuni rispetto agli altri paventando anche conflitti fra le varie razze presenti a bordo in quanto le ultime 39 persone erano nordafricane mentre gli altri erano di provenienza subsahariana conflitto che già si era profilato dalla prima notte il comandante della open arms quindi decide di tenere a bordo tutti i migranti soccorsi continuando nello stesso tempo a tenere informati RCC Malta RCC Roma le autorità spagnole a cui vengono indirizzate tutte le mail che si seguiranno nel corso di questa vicenda fra le tante possiamo menzionare la mail del 10 agosto 2019 delle ore 6 e 51 a firma Diana Belmontes noi ufficialmente rifiutiamo di trasbordare ora le 39 persone soccorse questa notte in quanto ci sono altre 121 persone a bordo già da 8 giorni e se facessimo questo trasferimento non ci sarebbe nessun modo per spiegare alle altre il motivo per il quale gli ultimi partiranno per primi e questo può creare una rivolta a bordo vogliamo evitare questa situazione e mantenere una navigazione sicura per tutte le persone a bordo possiamo rimanere nelle acque sarmaltesi in attesa di una nave di grande capacità per trasbordare tutti a partire più o meno da questo momento nell'evolversi della vicenda e con il passare dei giorni varie autorità nazionali e internazionali iniziano a intervenire sollecitando uno sblocco della situazione e essenzialmente la concessione del posto e lo sbarco dei migranti fra queste merita di essere segnalato l'intervento del garante nazionale dei diritti dei detenuti che il 9 agosto del 2019 scrive al comandante generale della guardia costiera italiana l'ammiraglio Giovanni Pettorino evidenziando proprio i possibili profili di responsabilità in capo alle autorità italiane derivanti dalla violazione dei diritti umani fondamentali dei migranti a bordo dell'open arms lo ha riferito lo stesso presidente dell'organismo Mauro Palma che abbiamo sentito all'udienza del 6 ottobre 2023 e che ha chiarito l'orientamento del garante per cui pur trattandosi l'open arms di una nave battente bandiera spagnola che in quel momento si trovava ancora in acque internazionali doveva ritenersi sussistente la giurisdizione italiana essenzialmente per due ordini di ragioni dice il garante dei detenuti la prima è perché la guardia costiera italiana era già intervenuta per prima a effettuare tre evacuazioni mediche azione scrive il garante indicativa di una presa in carico della situazione delle persone ospitate alla quale conseguiva una complessiva responsabilità per lo stato italiano trattandosi di una forma di esercizio della giurisdizione e quindi effettuando le medevac sostanzialmente l'italia era divenuta proprio lo stato di primo contatto con i conseguenti obblighi derivanti dal diritto internazionale che abbiamo visto poco fa la seconda ragione per cui per il garante sussisteva già la giurisdizione italiana era perché lo stesso divieto di ingresso del primo agosto 2019 rappresentava di fatto una forma di esercizio della sovranità e quindi della giurisdizione italiana sia sul comandante che sugli individui a bordo della nave e di conseguenza il dovere a essi tutti quei diritti derivanti dagli obblighi internazionali che lo stato stesso si è vincolato a rispettare e il garante va anche oltre e sottolinea due specifici profili di responsabilità configurabili nel caso di specie il primo la violazione del principio di non refulmante di non respingimento sancito dall'articolo 33 della convenzione di ginevra del 51 e dall'articolo 3 della CEDU scrive il garante a seguito del divieto di ingresso in acque territoriali emesso nei confronti della nave open arms per i migranti soccorsi si è determinato il rischio del loro ritorno nel luogo da cui sono partiti la Libia come indicato da numerosi osservatori internazionali e dichiarato dallo stesso ministro degli affari esteri Moavero la Libia non può essere considerata un porto sicuro pertanto un eventuale trasferimento verso quel paese delle persone soccorse li espone al rischio di trattamenti inumani e degradanti il secondo profilo di responsabilità ravvisato dal garante dei detenuti è la violazione del divieto di espulsioni collettive perché il divieto di ingresso che può essere visto come azione di respingimento delle persone soccorse è stato esercitato senza un preventivo esame nelle condizioni individuali delle stesse e quello che dicevamo anche prima vi erano migranti che avevano presentato la domanda di protezione internazionale quelle domande andavano quantomeno vagliate e valutate ai fini della loro possibile diciamo ricevibilità a parere di chi scrive il garante una tale condotta potrebbe integrare una violazione del divieto di espulsioni collettive previsto dall'articolo 4 del protocollo 4 della CEDU fra i vari profili di responsabilità il garante ravvisa anche la possibile violazione dell'articolo 19 1 bis del testo unico dell'immigrazione italiana che dice in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati come fa notare il garante come è ampiamente emerso nel corso di questo dibattimento finché l'open arms era in acque internazionali sono state effettuate anche numerose medevac numerose evacuazioni mediche la prima delle quali è stata effettuata proprio dalla guardia costiera italiana già il 3 agosto 2019 da personale dell'ufficio circondariale marittimo di Lampedusa in relazione a due donne in stato di gravidanza e un'accompagnatrice facendo effettivamente dell'Italia lo stato di primo contatto che vedevamo prima secondo la normativa internazionale con riferimento alle altre medevac rinvio alla memoria cito solo quello che ha detto la test Montes con riferimento al fatto che nel corso del passare dei giorni le stesse evacuazioni mediche diventavano un problema per la sicurezza a bordo inizialmente non c'era nessun problema perché si comprendeva perfettamente il perché ci fossero delle evacuazioni mediche con il passare dei giorni invece ogni volta che si realizzava un'evacuazione medica soprattutto alla fine c'era uno stato di alterazione diciamo che la situazione era attesa c'erano anche delle liti perché non si capiva il perché alcuni si e altri no proseguendo con la ricostruzione cronologica dei fatti arriviamo al 13 agosto del 2019 la mattina del 13 agosto sale a bordo dell'open arms Alessandro di Benedetto lo psicologo di emergency chiamato a valutare le condizioni psichiche dei migranti e a effettuare quello che lui stesso definisce un servizio di stabilizzazione della sintomatologia quindi un tentativo di riportare i migranti all'interno della cosiddetta finestra di tolleranza aiutandogli a trovare le risorse mentali per poter affrontare quella situazione emergenziale il dottore di Benedetto a seguito del suo primo accesso del 13 agosto riscontra numerosi disturbi di sterres post-traumatico nei naufraghi dolori fisici reazioni emotive di allerta o di rabbia incontrollata sintomatologie ansiosidepressive episodi dissociativi episodi di autolesionismo soprattutto nei minori ideazioni suicidarie dice lo stesso test di Benedetto all'udienza del 17 giugno 2022 nel colloquio con me molti riferivano questa cosa cioè meglio morire qui che non tornare in Libia a rivivere quello che abbiamo vissuto lo psicologo ha riferito che già nel corso del suo primo accesso del 13 agosto la condizione dei migranti stava raggiungendo livelli di sofferenza altissimi con conseguente rischio che nel brevissimo tempo si potesse perdere il controllo della situazione perché la situazione era ormai esplosiva e lo certifica nelle varie relazioni scritte che Open Arms trasmette sempre a IMRCC e che IMRCC veicola poi al gabinetto del Ministero dell'Interno il 13 agosto è anche il giorno in cui si verifica un peggioramento delle condizioni del mare che lo stesso psicologo di Benedetto ci ha riferito io ho lasciato l'Open Arms proprio perché le condizioni del mare erano proibitive mentre mi trovavo lì il 13 di agosto un elicottero maltese era venuto per fare un'evacuazione di un nucleo familiare ma non ci riuscì si calò il militare dall'elicottero ma è dovuto ripartire perché le condizioni erano impraticabili e proprio a causa del maltempo la Open Arms il 13 agosto avanza una prima richiesta di ridosso all'isola di Malta la mail è delle ore 6 e 18 a firma della capomissione Montes la richiesta per l'ennesima volta viene respinta dalle autorità maltesi con la famosa mail in cui Malta accusa la Open Arms di bighellonare senza intraprendere altre azioni e fa presente che con i venti previsti avete altre migliori opzioni a vostra disposizione molto più vicina a Malta dice Malta stessa che state scegliendo di ignorare cioè Lampedusa e Tunisia la mail è del 13 agosto 2019 delle ore 8 e 03 a quel punto la Open Arms prova anche a contattare la Tunisia chiede riparo a largo di Lampedusa nel frattempo interviene in questa ricostruzione cronologica è infatti un importante elemento di novità perché il 14 agosto del 2019 viene emesso il decreto del Tarlazio che accoglie il ricorso proposto dai legali dell'Open Arms e sospende in via cautelare l'efficacia del divieto d'ingresso transito e sosta nel mare territoriale nazionale del 1 agosto con riferimento al FUMUS del ricorso il Tarlazio sottolinea come lo stesso provvedimento impugnato quindi il divieto di ingresso fra le sue premesse riconosceva come la Open Arms fosse una tante in distress e quindi appariva poi contraddittorio ritenere che una tante in distress potesse configurare un'ipotesi di passaggio non inoffensivo ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di Montego Bay Sotto sotto il profilo del pericolo Mimora scrive tensualmente il Tarlazio sicuramente sussiste alla luce della documentazione prodotta la prospettata situazione di eccezionale gravità e urgenza tale da giustificare la concessione di consentire l'ingresso della nave Open Arms in acque territoriali italiane avuta notizia del provvedimento del Tarla quello stesso 14 agosto 2019 il Ministro dell'Interno predispone un secondo divieto di ingresso un secondo decreto interdittivo per l'Open Arms che però non viene adottato perché i Ministri della Difesa e dei Trasporti si rifiutano di controfirmarlo lo hanno spiegato loro stessi all'udienza del 2 dicembre 2022 la Ministra Trenta ha riferito che aveva anche chiesto un parere legale al suo gabinetto e che le era stato risposto che reiterare quel divieto di ingresso avrebbe potuto comportare anche responsabilità penali dice la Ministra Trenta io ero convinta dall'inizio che non andasse firmato un nuovo decreto di divieto perché non si reitera in mancanza di novità io rifiutai di formarlo perché ritenni che valesse ancora di più la decisione del Tar del Lazio perché comunque erano passati altri giorni e la situazione a bordo era peggiorata ancora di più poi era una reiterazione di un decreto già annullato immotivata senza che fossero intervenute altre novità se non peggiorative rispetto alla vita di chi era a bordo aggiunge sempre la Ministra Trenta siamo a pagina 18 del verbale di udienza del 2 dicembre 2022 ritengo che le nostre battaglie giuste non debbano ricadere sulla vita dei più fragili e che ci siano dei diritti umani che vadano sempre 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 rispettati analoghe le dichiarazioni rese alla stessa udienza dall'allora Ministro Toninelli che a sua volta non aveva condiviso la scelta di adottare un secondo divieto d'ingresso dice Toninelli le informazioni che arrivavano erano informazioni che a bordo della nave la situazione diventava complicata dobbiamo ricordare che si tratta di una nave che mi sembra avesse una portata di 15-20 persone al massimo ne aveva a bordo molte di più quindi per questo motivo ma anche per senso di logica non si poteva più firmare reiterare un decreto che era identico a quello annullato ovviamente sottoscritto e penso anche la collega della difesa abbiano ritenuto che non fosse logico farlo la possibile riemanazione di un secondo divieto d'ingresso incontra la ferma opposizione anche del comandante De Falco l'abbiamo detto ufficiale della Capitineria di Porto all'epoca senatore della Repubblica che all'udienza del 15 settembre 2023 riferisce io scrissi appunto al Ministero della Difesa chiedendo di non firmare proprio perché quel decreto di per sé già contrastante con le convenzioni internazionali in concreto era stato sospeso dal Tribunale Amministrativo regionale e quindi una reiterazione sostanzialmente anche se sotto forma diversa di quel decreto avrebbe comportato sicuramente una violazione ancora più aberrante del diritto e dei diritti delle persone la circostanza che sia stato il Ministro Salvini a predisporre e proporre questo secondo divieto d'ingresso d'altronde non è controversa è stata ammessa dallo stesso imputato nel corso del suo esame quando ha chiarito e rivendicato la sua posizione per cui continuava a ritenere sostanzialmente offensivo il passaggio dell'Open Arms in acque territoriali italiane e si temeva che il provvedimento del Tar potesse creare un precedente per episodi successivi sempre il 14 agosto 2019 ha inizio lo scambio epistolare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Ministro dell'Interno Salvini è infatti del 14 agosto la prima lettera che Conte invia a Salvini che fa specifico riferimento in particolar modo alla posizione dei soggetti minorenni a bordo dell'Open Arms e lo invita ad adottare con urgenza i necessari provvedimenti per assicurare la loro tutela l'ha legato il 17 della produzione documentale di questo ufficio di procura all'udienza del 23 ottobre 2021 non la leggo la posizione è stata esplicitata dallo stesso Presidente del Consiglio Conte quando lo abbiamo sentito in questo dibattimento e ha chiarito che riteneva inaccettabile che non si procedesse allo sbarco quanto meno dei soggetti minorenni fu una cosa che evidentemente mi colpì dice Conte ragionai con i miei collaboratori sulla possibilità che insomma dei minori in una situazione già critica potessero rimanere a bordo e quindi vergai quella lettera sollecitando il Ministro al di là delle sue specifiche competenze sul rilascio del POS a rilasciare quantomeno i minori che era un fatto secondo me che non doveva essere discusso in accordo con la normativa vigente cercai di esercitare una sorta di moral suasion rispetto quantomeno alla situazione dei minori che mi appariva ecco la posizione in quel momento del Viminale come dire che non avesse benché minimo fondamento giuridico al di là di qualsiasi altra valutazione politica tornando agli accadimenti che riguardano la navigazione della Open Arms il 14 agosto 2019 alle ore 18.07 la Open Arms e inoltre alle autorità italiane l'ennesima richiesta di POS anche questa rimasta senza risposta e il 14 agosto 2019 si assiste a un ulteriore peggioramento delle condizioni meteomarine lo hanno riferito tutti i testi di Polizia Giudiziaria che abbiamo sentito alla prima udienza del 17 dicembre 2021 tra cui l'ammiraglio Liardo c'era mare 4 un'onda di 2 metri e mezzo con circa 25 nodi di vento condizioni che suggerivano un riparo un ridosso verso l'unità di Lampedusa più che suggerivano imponevano ecco a quel punto alle 21 e 41 quindi la Open Arms trasmette a IMRCC il provvedimento del tarlazio di sospensione del divieto d'ingresso e comunica che la nostra nave si sta dirigendo nelle acque territoriali italiane per poter cercare rifugio dalle avverse condizioni meteo poco dopo quindi la nave fa effettivamente ingresso nelle acque territoriali italiane e che a quel punto fosse necessario è urgente concedere un ridosso sicuro all'Open Arms che non poteva che essere nei pressi di Lampedusa il posto più vicino alla nave è stato confermato da tutti i testi di PG che abbiamo sentito all'udienza del 17-12-2021 lo ha detto l'ammiraglio Nunzio Martello in quel momento con quelle condizioni non si poteva non dare al comandante della nave la possibilità di ridossarsi a Lampedusa lo ha detto il comandante della capitaneria di porto di Lampedusa Leandro Tringali considerate che in quel periodo la notte c'era vento da nord c'era vento forte quindi l'unica zona ridossata nel canale era a sud di Lampedusa pagina 99 del verbale di udienza del 17-12-2021 e a ulteriore dimostrazione della drammaticità di quella situazione che integrerà come vedremo meglio dopo come ha già accennato il collega prima un quarto evento SAR va ricordato che anche una pattuglia della guardia di finanza tenta in quel momento di effettuare un controllo di polizia a bordo non riuscendo però ad affiancare il natante proprio a causa delle difficili condizioni del mare lo ha dichiarato il capitano della guardia di finanza Edoardo Anedda sempre all'udienza del 17-12-2021 la notte del 14-12-2019 io ho preso imbarco a bordo di una nostra unità navale in particolare P-01 Montesperone l'idea iniziale era di fare un controllo di polizia a bordo un controllo documentale cosa che non fu possibile perché c'erano condizioni meteomarine avverse tant'è che ci fu uno scambio un'interlocuzione via radio all'esito della quale la Open Arms comunicò che aveva necessità di ridossarsi sotto l'isola per ripararsi dalle condizioni in peggioramento e io personalmente riferì di contattare il competente ufficio circondariale marittimo della Capitaneria di Porto per farsi assegnare un pozzo di ridosso arriviamo quindi al giorno di ferragosto il 15 agosto 2019 quando dopo aver fatto a questo punto legittimamente ingresso nelle acque territoriali italiane la Open Arms chiede a IMRCC di ottenere un punto di fonda nei pressi dell'isola di Lampedusa che la Guardia Costiera concede ritenendola l'unica condizione di sicurezza per evitare tragedie lo ha detto il comandante Liardo faccio riferimento al fatto che una volta giunti dopo 14 giorni con un numero di migranti consistenti a bordo in una condizione oggettiva di maltempo l'unica soluzione l'unica condizione di sicurezza per evitare tragedie era quella di ridossarsi e di entrare a Lampedusa questa circostanza è stata confermata anche dal prefetto di Agrigento il dottor Caputo che abbiamo sentito all'udienza dell'8 aprile 2022 una delle preoccupazioni in presenza di una difficoltà nell'autorizzare l'attracco della nave è stata determinata dal fatto che appunto l'improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche potesse porre a repentaglio la vita dell'equipaggio e dei migranti presenti a bordo il permesso di ridosso a largo di Lampedusa viene subito comunicato dalla Capitaneria di Porto alle ore 2.28 del 15 agosto 2019 al gabinetto del Ministro dell'Interno il messaggio è l'allegato 19 della nostra originaria produzione documentale ne scaturiscono a questo punto varie interlocuzioni fra la Capitaneria di Porto che in qualche modo preme per avere indicazioni sul rilascio del POS date le continue richieste dell'Open Arms e il gabinetto del Ministro dell'Interno che ancora non accenna a indicare un posto sicuro lo riferisce fra gli altri l'ammiraglio Nuzio Martello che in quel frangente aveva parlato direttamente con il capo di gabinetto Piante Dosi dice Martello quella sera io ho avuto delle interlocuzioni con il capo di gabinetto del Ministero per vedere se davano POS Lampedusa oppure altro POS che era il capo di gabinetto il dottore Piante Dosi dalle interlocuzioni loro ancora non avevano dato delle indicazioni su cui dare il POS però come io ho detto prima ho disposto che la nave potesse entrare e dare fondo nelle acque a ridosso a Lampedusa indipendentemente dal fatto se davano meno il POS quello che era importante era dare la sicurezza e la salvaguardia delle vite umane cosa le disse Piante Dosi con riferimento all'assegnazione all'individuazione di un POS per la Open Arms il dottore Piante Dosi in quel momento mi disse che a Lampedusa non era possibile le furono proposti altri possibili POS in Italia sono stati proposti altri due porti ma non come POS se eventualmente poteva andare là la nave io dissi che in quelle condizioni la nave non poteva andare in nessun altro posto se non a ridosso di Lampedusa e così è stato fatto quali erano questi altri due porti se non ricordo male Trapani e Taranto o Reggio Calabria che in ogni caso non erano indicati come POS e in quelle condizioni sarebbe stato possibile per la Open Arms recarsi verso Taranto Trapani con quel mare e in quelle condizioni no più tardi nella mattinata del 15 agosto 2019 alle ore 10 e 30 si riesce a effettuare il primo sopralluogo a bordo della nave effettuato da personale della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza unitamente a un medico e un infermiere del CISOM il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta il verbale è l'allegato 23 della nostra produzione documentale e attesta in maniera assolutamente chiara e esplicita la situazione la situazione generale vede condizioni igienico-sanitarie pessime spazi non idonei a ospitare un cosingente numero di persone i naufraghi vivono da 14 giorni ammassati gli uni sugli altri non c'è possibilità di deambulare sono presenti solo due bagni e spesso i naufraghi sono costretti a espletare i loro bisogni fisiologici nello stesso spazio in cui dormono e mangiano non ci sono docciolavabi non c'è possibilità di provvedere all'igiene personale degli indumenti né di lavarsi se non con l'acqua di mare inoltre rileviamo condizioni di salute precarie lo stato d'animo a bordo è di profondo sconforto i medici del CISOM riscontrano poi anche la presenza di numerose specifiche patologie a carico di vari migranti 20 casi di scabbia numerosi casi di cistite un minore con un timpano perforato e così via le pessime condizioni di salute psicofisica dei naufraghi sono confermate anche dal medico di bordo Ina sul Rossolo Martino e De Lagos ne abbiamo fatto più volte riferimento nel corso di questa istruttoria dibattimentale dice a pagina 64 del verbale di udienza del 9 giugno 2023 parliamo di persone molto vulnerabili che hanno già sofferto nel paese di origine nel paese in transito la Libia l'aver lasciato un paese in guerra la famiglia aver vissuto e subito violenza di ogni genere ricordiamo che sono persone e queste persone si possono rompere i minori non accompagnati non parlavano di loro stessi se non dei loro familiari e soffrivano tanto del fatto di credere che i familiari pensassero che fossero già morti era una sommatoria di situazioni che si aggiungevano a quella che aveva l'imbarcazione già il malessere mentale era assoluto nella stessa giornata del 15 agosto 2019 la Open Arms avanza ulteriori richieste di post continuando a evidenziare il grave malessere fisico e psicologico dei migranti soccorsi e ottiene anche la dichiarazione di libera pratica sanitaria dal personale medico dell'USMAF che trasmette alla Capitaneria di Porto evidenziando che anche sotto quel profilo non ci sono ostacoli allo sbarco anche le richieste di post del 15 agosto vengono subito veicolate al gabinetto del Ministro dell'Interno sempre senza ricevere risposta da più parti si inizia a sollecitare il Viminale al rilascio del post e allo sbarco immediato dei migranti soccorsi in questo senso si è espresso anche il comandante De Falco per cui il soccorso deve essere compiuto e deve essere compiuto nel più breve tempo possibile cioè portato a termine dall'obbligato in questo caso lo Stato costiero che abbia ricevuto notizia del soccorso e che possa ricevere i naufraghi i naufraghi in quel momento avevano la terra dinanzi a sé quindi non c'era motivo di discutere d'altro soprattutto non si poteva non si doveva non si sarebbe dovuto far sì che su quelle persone si facesse la politica la politica si fa attraverso atti generali astratti si fa attraverso idee non sulla carne della gente che già sta soffrendo pagina 11 del verbale di udienza del 15 settembre 2023 sempre il 15 agosto del 2019 dato il protrarsi dell'assenza del POS le autorità locali riuniscono il comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica per prevenire eventuali situazioni di pericolo che già in quel momento si profilavano come più che probabili ce lo ha riferito il prefetto di Agrigento Caputo all'udienza dell'8 aprile 2022 posso confermare in particolare che una delle preoccupazioni maggiori che abbiamo affrontato con i colleghi in occasione di questa riunione del comitato derivava dallo stato d'animo di almeno alcuni dei migranti presenti sulla nave in particolare il timore che da parte loro potesse essere effettuato un tentativo di abbandonare la nave e quindi esporsi al rischio di annegamento qualora appunto si fossero gettati in mare e per tentare di fronteggiare questa possibile evenienza vengono predisposte le possibili misure dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza con il coordinamento del questore sempre del 15 agosto 2019 è la lettera aperta di Conte al Ministro Salvini in cui il Presidente del Consiglio lamenta la diffusione della loro precedente corrispondenza a sua dire non conforme all'effettivo suo pensiero gentile Ministro dell'Interno caro Matteo ti scrivo questa lettera aperta perché il caso dell'Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d'ufficio fra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui giornali e allora tanto vale rendere pubblica l'origine per migliore trasparenza anche nei confronti dei cittadini comprendo la tua fedele ossessiva concentrazione nell'affrontare il tema dell'immigrazione riducendola alla formula dei porti chiusi sei un leader politico e sei legittimamente proteso a incrementare costantemente i tuoi consensi ma parlare come Ministro dell'Interno e alterare una chiara posizione del tuo Presidente del Consiglio scritta nera su bianco è questione diversa un ultimo aggiornamento sulla vicenda Open Arms Francia Germania Romania Portogallo Spagna e Lussemburgo mi hanno appena comunicato di essere disponibili a redistribuire i migranti ancora una volta i miei omologhi europei ci tendono la mano con la lettera aperta del 15 agosto quindi il Presidente Coronte informa il Ministro Salvini che le procedure sulla ridistribuzione sono a buon punto e che quindi anche sotto quel profilo non ci sono particolari ostacoli allo sbarco nella stessa giornata di Ferragosto il Ministro Salvini sottoscrive una nota di risposta formale al Presidente del Consiglio e continua a negare ogni responsabilità anche con riferimento allo sbarco dei minori anche se ormai la Open Arms si trovava in acqua territoriale italiane in estrema sintesi il Ministro Salvini afferma che i minori a bordo della Open Arms dovevano ritenersi soggetti alla giurisdizione dello Stato di Bandiera e quindi alla Spagna che non si poteva parlare di minori stranieri non accompagnati perché non vi erano elementi per escludere che si trovassero a bordo della nave con degli adulti che ne avevano la responsabilità e che comunque egli aveva già dato mandato all'Avvocatura Generale dello Stato per impugnare il decreto del Tar di sospensione del divieto d'ingresso è sempre del 15 agosto e ha lo stesso identico contenuto la nota di risposta del Ministro Salvini alla lettera dell'8 agosto del Presidente e del Procuratore del Tribunale per i minorenni di Palermo in cui l'imputato ribadisce la sussistenza della giurisdizione spagnola e declina ogni competenza sulla protezione e lo sbarco dei minori anche quando lo ripetiamo ormai la nave si trovava in acque territoriali italiane arriviamo al 16 agosto 2019 giorno in cui la Open Arms reitera ancora una volta la richiesta di POS allegando i vari report medici e psicologici che attestano le gravi condizioni di salute psicofisica dei migranti la mail è dell'ore 9.22 sempre a firma della Capomissione Montes siamo stati in attesa di un POS con persone a bordo per 15 giorni facendo sempre tutto all'interno del quadro legale siamo stati in attesa dell'autorizzazione a sbarcare le persone soccorse per troppi giorni la situazione sta peggiorando di minuto in minuto siamo testimoni del deterioramento della salute fisica e mentale delle persone a bordo data la situazione estrema chiediamo con urgenza uno sbarco umanitario nel porto di Lampedusa la Guardia Costiera di conseguenza comincia a sollecitare l'autorità competente al rilascio del POS per sbloccare la situazione ormai sempre più pericolosa per i migranti IMRCC Roma nel trasmettere l'ennesima richiesta di post all'ufficio di gabinetto del ministro dell'interno chiede di comunicare con massima cortese e urgenza le determinazioni circa l'assegnazione del POS per la nave open arms e circa lo sbarco dei 31 minori ancora presenti a bordo il messaggio è delle ore 1 e 03 del 16 agosto 2019 allegato 26 della nostra produzione documentale quello stesso giorno non ricevendo risposte la Guardia Costiera invia un ulteriore messaggio alle 16 e 10 dove esplicita che per lo stesso IMRCC non vi sono impedimenti al rilascio del POS a Lampedusa si allega copia dell'atto stragiudiziale di comunicazione di fida pervenuto in dato odierna con il quale si chiede di autorizzare senza ulteriore indugio l'ingresso della motonave open arms nel porto di Lampedusa per quanto attiene questo IMRCC non vi sono impedimenti di sorta si prega a voler far conoscere con ogni ulteriore cortese urgenza gli intendimenti di codesto NCC in merito alla questione in parola allegato 31 sempre della nostra produzione documentale e anche questa richiesta rimane esitata come ha confermato fra gli altri Fabrizio Mancini il direttore del servizio migrazione del ministero dell'interno che ha riferito come lui stesso aveva provato ad attivarsi perché la guardia costiera li pressava per avere risposte da comunicare all'open arms la mattinata del 16 è stata molto lunga visto che insomma la capitaneria di porto giustamente anche loro avevano le loro esigenze e pressavano noi per sapere che cosa dovevano fare quindi chiamai la dottoressa Garroni sostanzialmente diciamo la risposta che mi fu data è che per quanto riguardava i presunti minori non si erano avute indicazioni da parte del tribunale dei minorenni di Palermo e che per quanto riguarda invece il decreto di sospensiva del Tar l'orientamento del gabinetto era che questa sospensiva non aveva in alcun modo annullato l'atto e quindi non imponeva l'obbligo di sbarco per la nave nel pomeriggio nel pomeriggio del 16 agosto il dottor Mancini contatta anche il prefetto Daniela Parisi vice capo dipartimento vicario del dipartimento per le libertà civile e le immigrazioni per sapere se vi sono novità in ordine all'individuazione del post il prefetto Parisi risponde che a suo giudizio la località più indicata è Lampedusa ma che non ha ricevuto alcuna indicazione dal gabinetto del ministro lo riferisce sempre Mancini pagina 45 del verbale di udienza del 13 maggio 2022 il 16 agosto a sua volta il prefetto Mancini invia una nota all'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza inviata per conoscenza anche al gabinetto del ministro dell'interno in cui rappresenta che per quanto di competenza del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione si è tempestivamente provveduto a organizzare le necessarie misure di accoglienza previste dalle normative vigenti che sarebbero state attivate al momento di autorizzazione allo sbarco abbiamo acquisito la nota all'udienza del 16 febbraio 2024 nella stessa giornata il presidente del tribunale per i minorenni di Palermo dichiara aperte le tutele dei minori non accompagnati e nomina i relativi tutori sempre il 16 agosto sale nuovamente a bordo Alessandro Di Benedetto lo psicologo di emergency che accerta ancora una volta le condizioni di estrema prostrazione e di disagio dei migranti a bordo e auspica l'immediato sbarco dell'intero gruppo all'udienza del 17 6 2022 ha riferito era una situazione un po' borderline si viveva da una situazione esplosiva a una situazione di ottundimento c'erano pazienti che collassavano la sintomatologia era a volte ansioso-depressiva anche perché la condizione a bordo era una condizione che noi chiamiamo trigger cioè di innesco qualunque evento rumore grida la promiscuità all'interno del ponte erano tutte situazioni che potevano riattivare la sintomatologia anche passata e quindi c'era una sorta di ritraumatizzazione questo è quello che ho riscontrato ancora il 16 agosto 2019 il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte risponde alla lettera del ministro Salvini del giorno precedente e ribadisce con forza la necessità di assicurare lo sbarco immediato quantomeno dei minori presenti a bordo gentile ministro caro Matteo quanto alla vicenda della nave open arms non ritengo di poter condividere il tuo assunto in ordine a presunzione di affidamento dei minorenni che si trovano a bordo di detta nave agli altri migranti maggiorenni i vi parimenti ospitati Conte riepiloga la normativa che ritiene applicabile rappresenta che il decreto del tarlazio del 14 agosto costituisce in quel momento l'unico dictum giurisdizionale applicabile alla specifica vicenda e conclude che è necessario che sia autorizzato lo sbarco immediato delle persone di età inferiore agli anni 18 e rappresenta che dalla commissione europea è stata confermata la disponibilità di una pluralità di paesi europei a condividere gli oneri dell'ospitalità per tutte le persone di cui ci stiamo occupando anche indipendentemente dalla loro età e quindi il presidente Conte invita il ministro dell'interno a attivare le procedure finalizzate a rendere effettivamente operativa la redistribuzione procedure che richiedevano a quel punto lo sbarco e l'identificazione dei migranti per poi distinguere fra quelli che avessero diritto alla protezione internazionale e quelli invece che andavano rimpatriati a questo invito di Conte il ministro Salvini risponde il 17 agosto 2019 non condividendo la sua interpretazione delle norme ma affermando che suo malgrado non avrebbe frapposto ostacoli allo sbarco dei presunti minori a bordo dell'open arms ne leggo davvero pochi passaggi corissimo presidente resto convinto della validità delle tesi che ho avuto già modo di rappresentarti in ogni caso prendo atto che disponi che vengano sbarcati i presunti minori attualmente a bordo della nave open arms darò pertanto mio malgrado per quanto di mia competenza e come ennesimo esempio di leale collaborazione disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli all'esecuzione di tale tua esclusiva determinazione non senza ribadirti che contenerò a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l'affermazione delle ragioni di diritto che ho avuto modo di esporti è del 17 agosto anche la nota del comandante generale della guardia costiera l'ammiraglio pettorino che prendendo sostanzialmente le distanze dalla posizione del ministero dell'interno rappresenta alla richiesta di informazioni che era arrivata il giorno precedente dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che le cinque richieste di post pervenute dall'open arms erano state tempestivamente inoltrate dalla guardia costiera alle competenti autorità nazionali senza ricevere alcun riscontro e scrive testualmente l'ammiraglio che i mezzi e il personale della guardia costiera presenti sull'ampedusa sono pronti a procedere al trasferimento dei 28 minori non accompagnati sull'isola non ravvisando per quanto di competenza alcun impedimento a tale operazione quanto sopra previo autorizzazione allo sbarco da parte della competente autorità di pubblica sicurezza sempre il 17 agosto 2019 l'open arms alle 11.06 invia una mail direttamente alla procura della repubblica di aggrigento allegando tutti i report sulle condizioni e sul peggioramento delle condizioni dei migranti a bordo la procura della repubblica di aggrigento dispone quindi che venga effettuato un'ispezione a bordo della nave che avviene alle ore 20 circa del 17 agosto da personale di polizia giudiziaria insieme a personale medico dell'USMAF anche nel corso di questa ispezione si accerta il sovraffollamento e le dure condizioni in cui versavano i migranti condizioni che hanno riferito tutti i testi che abbiamo sentito nel corso di questo dibattimento ma che sono anche documentate in maniera oggettiva dalle immagini contenute nel fascicolo fotografico redatto dalla polizia scientifica che abbiamo acquisito agli atti anche il 17 agosto 2019 le richieste di post dell'open arms non ricevono risposta lo ha riferito tra gli altri sempre il dottor Mancini chiesi e mi vennero riferite notizie ma non ce n'erano di diverse rispetto al giorno precedente quindi non si aveva avuto alcuna indicazione sull'eventuale porto di sbarco né su un'eventuale decisione contraria credo non ricordo ma credo perché si susseguivano costantemente le richieste di post da parte dell'open arms ricordo che vennero effettuate altre evacuazioni mediche e basta diciamo la mattinata del 17 è andata così solo la sera del 17 agosto 2019 inizia lo sbarco dei 27 minori non accompagnati che effettivamente poi vengono fatti sbarcare alla rampedusa in realtà sullo sbarco dei minori non vi è chiarezza né su chi abbia effettivamente disposto lo sbarco né su quando materialmente questo è avvenuto possiamo ricostruire che lo sbarco dei minori è stato disposto dal prefetto di Agrigento Caputo dopo i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di Palermo che ha dichiarato aperte le tutele e nominato i tutori e aver ricevuto una sorta di via libera dal Ministero dell'Interno lo ha riferito lo stesso Caputo all'udienza dell'8 aprile 2022 ho avuto varie interlocuzioni telefoniche con il Capo di Gabinetto del Signor Ministro quindi non escludo che una volta formalizzata la decisione del Tribunale con la comunicazione che è stata inviata al Ministero poi possa aver ricevuto l'autorizzazione anche nelle vie brevi a procedere allo sbarco dei minori io sono quasi sicuro che se non il 17 il 18 il 19 i minori sono poi sbarcati credo di ricordare che le cose siano andate così dall'altro lato la Ministra Trenta ha affermato di avere dato lei l'ordine attraverso il Capo di Stato Maggiore della Difesa di andare a prendere i minori sull'Open Arms lo stesso imputato in sede di esame non ha escluso questa possibilità dice Salvini se la Ministra Trenta ha detto che lo sbarco avvene di sua iniziativa non ho motivo di dubitare che sia stato così la sera del 17 agosto 2019 sbarcano i minori la mattina del 18 agosto 2019 5 migranti si gettano in mare e vengono successivamente recuperati da personale della Open Arms da questo momento in poi i tentativi di gettarsi in mare dei migranti sempre più esasperati saranno sempre più frequenti come era stato già immaginato e previsto dal Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica che si era riunito tre giorni prima come ci ha riferito il Prefetto Caputo sui primi migranti gettatisi in mare ha riferito la Capomissione Montes Open Arms si è preoccupata di riportarli a bordo e una volta a bordo ci sono stati atti di violenza vera e propria nei loro confronti violenza dovuta al fatto che c'era preoccupazione che questa azione potesse andare a influire anche sullo sbarco degli altri giorno 19 invece è successo che si sono buttate in acqua persone che non volevano gettarsi in acqua che avevano detto prima che non si sarebbero gettati in acqua e invece l'hanno fatto per disperazione solo il 18 agosto quando ormai la vicenda dell'Open Arms ha assunto un ampio rilievo mediatico il governo spagnolo indica un post all'Open Arms e indica la località di Algeciras il comandante il comandante creus ritiene impraticabile questa soluzione perché troppo rischiosa per la sicurezza a bordo di cui egli ribadisce è l'unico responsabile noi non eravamo in condizioni di poter navigare neanche per un'ora quindi abbiamo proposto che fosse un'altra imbarcazione a venire a recuperarli che entrasse al porto di Lampedusa e poi li inviasse in Spagna pagina 100 del verbale di udienza dell'8 aprile 2022 assolutamente sovrapponibile la deposizione della Teste Montes allora dirigersi in Spagna fondamentalmente era in ogni caso impossibile anche lo stesso equipaggio aveva difficoltà a gestire a controllare tutta la situazione che era divenuta complicata con migranti che convivevano stretti da oltre 18 giorni quindi la situazione era assolutamente insostenibile è difficile dare una spiegazione di quanta fosse la disperazione a bordo e in quel caso la cosa più sicura era sbarcare in Italia evitare di esporre a ulteriore pericolo le persone a bordo lo ha detto anche il comandante di Falco all'udienza del 15 settembre 2023 che la Open Arms in quelle condizioni non era più in grado di navigare ancora e che non avrebbe avuto senso giuridico logico umano mandarli in Spagna la concreta impossibilità per la Spagna di raggiungere un porto spagnolo c'è stata confermata anche dal capitano della Guardia di Finanza Edoardo Anedda il primo post proposto fu il porto di Algeciras che si trova diciamo oltre lo stretto di Gibilterra in Spagna chiaramente il più lontano possibile dalla posizione in cui si trovava la Open Arms e sicuramente in quelle condizioni era una distanza troppo lunga da percorrere tant'è che successivamente la Spagna propose poi il porto di Mahon quindi di Mionorca che è il porto più vicino spagnolo rispetto alla posizione in cui si trovava la Open Arms però allo stesso modo insomma stiamo parlando di distanze piuttosto importanti soprattutto considerato che se non erro il porto spagnolo fu individuato in data 18 agosto 2019 quindi stiamo parlando sempre di migranti per i migranti soccorsi l'1 agosto cioè dopo 18 giorni intraprendere un ulteriore viaggio che sarebbe stato di almeno altri 7 giorni insomma a mio avviso non c'erano le condizioni per farlo in sicurezza a quel punto è la guardia costiera italiana che si offre di scortare l'Open Arms con un proprio mezzo fino al porto spagnolo sul quale far trasbordare una parte dei migranti alle 13.55 il comandante Creus invia una nuova mail a IMRCC con cui richiede l'autorizzazione allo sbarco dei 107 migranti a quel punto ancora a bordo o il loro integrale trasferimento su una nave idonea a raggiungere il porto spagnolo dichiarandosi non disponibile a proseguire la navigazione anche solo con una parte dei migranti a bordo perché comunque è troppo pericolosa per la sicurezza delle persone e anche dell'equipaggio lo conferma Toninelli all'udienza del 2 dicembre 2022 erano parecchi giorni che quella nave pendolava di fronte alle coste italiane bisogna capire che accompagnare una nave ONG centinaia di chilometri di navigazione attraverso un'imbarcazione della Guardia Costiera non è un'anomalia di più la prassi è farli sbarcare identificarli redistribuirli questa è la prassi il nodo della vicenda è lo sbarco quando sì no ma non può essere intesa come una fattispecie ordinaria quella di cui stiamo parlando dell'accompagnamento in un altro stato per aprire un porto a distanza di centinaia di chilometri bisogna farli sbarcare nel porto sicuro più vicino pos aprire un post identificarli metterli in salute far rimpatriare chi ha diritto di protezione internazionale redistribuire quelli che hanno diritto questo è arriviamo al 19 agosto 2019 la Spagna dopo il porto di Algeciras propone un secondo porto questa volta nelle isole Baleari anche questa soluzione non viene accettata dal comandante Creus che non si oppone al trasferimento in Spagna dei migranti ma rappresenta che in quel momento la nave open arms non è più in grado di navigare ancora la mail è del 19 agosto alle ore 12 e 48 l'imbarcazione open arms non è in grado di prolungare ulteriormente la navigazione di nemmeno un'ora se la soluzione del porto spagnolo fosse ritenuta l'unica possibile dovrebbe essere la guardia costiera italiana a occuparsi sin da subito di tutte le operazioni di trasbordo e tutela necessaria chiediamo che la nave si faccia carico della totalità dei soccorsi a bordo non siamo in grado di fare un viaggio in queste condizioni è finalmente del 19 agosto 2019 la prima risposta che viene dall'Italia alle richieste di post della open arms è a firma del prefetto Paolo Formicola vice capo di gabinetto del ministro dell'interno la risposta è negativa si legge nella nota che secondo la prospettiva del ministero il divieto di ingresso del primo agosto non ha cessato di produrre i suoi effetti per il decreto di sospensiva del tarlazzo del 14 agosto che il decreto del tar non ha annullato l'atto impugnato ma solo imposto di adottare in urgenza le necessarie misure che effettivamente sono state adottate e che in ogni caso la complessiva condotta tenuta da open arms denota la precisa intenzione di porre in essere un'attività volta al preordinato e sistematico trasferimento illegale di migranti in Italia questa nota del 19 agosto è stata ovviamente concordata con il ministro dell'interno lo ha precisato anche l'allora capo di gabinetto Matteo Piantedosi a domanda del presidente c'è stata appunto il 19 agosto del 2019 la nota del vice capo di gabinetto formicola le vorrei chiedere intanto come mai questa nota è del vice capo del gabinetto perché era presente lui materialmente in ufficio come ho detto prima presidente in quei giorni ero formalmente anche se non sostanzialmente in ferie quindi fu concordata con il vice capo di gabinetto si era il mio vice e il ministro era al corrente del fatto che questa fosse la linea di pensiero del gabinetto testimone Piantedosi e beh certo certo c'era una comunicazione costante col ministro certo dopo il diniego del POS del 19 agosto 2019 ci rimane da ricostruire che cosa è accaduto l'ultimo giorno il 20 agosto 2019 al quale fanno riferimento i fatti in contestazione conclusosi in serata poi con il sequestro della nave e lo sbarco dei migranti alle 8.07 del 20 agosto 2019 con una mail dai toni particolarmente accorati la Open Arms aggiorna ancora una volta la guardia costiera sul continuo peggiorare delle condizioni a bordo scrive la Montes ieri abbiamo inviato una mail informandovi che eravamo a conoscenza di persone che volevano gettarsi in acqua per raggiungere la riva e alla fine nonostante i nostri sforzi un uomo questa mattina lo ha fatto si è gettato senza il giubbotto di salvataggio quindi è stato ancora più rischioso la CP312 è riuscita a salvarlo ma l'uomo non vuole ritornare a bordo della nostra nave e non lasceremo in mare il nostro rib per riportarlo indietro perché questo movimento può creare una possibile rivolta a bordo ci aspettiamo che più persone saltino in acqua durante la giornata di oggi non siamo in grado di controllare tutta la nave 24 ore con 19 membri dell'equipaggio durante la notte una donna etiope ha avuto un grave attacco di panico che è durato più di due ore la situazione a bordo è totalmente instabile la situazione psicologica delle persone soccorse è instabile e a grave rischio dopo questa mail il 20 agosto del 2019 il procuratore della Repubblica di Agrigento dispone una nuova ispezione a bordo della Open Arms che esegue personalmente accompagnato da personale di polizia giudiziaria e da due consulenti tecnici appositamente nominati i medici Vincenzo Asaro e Cristina Camilleri nei verbali in atto il documento il 42 della nostra produzione documentale si legge che sul ponte dell'imbarcazione avendo un'area di 100 metri quadri circa si trovano ammassati oltre 100 naufraghi donne uomini di etnie e religioni e culture diverse in mare da ormai 20 giorni che si riparano sotto una specie di tettoia improvvisata con alcuni teli le condizioni di sovraffollamento sono oltremodo evidenti avendo ciascun migrante uno spazio di movimento inferiore a un metro quadro a testa che non consente nemmeno di camminare i due medici nominati consulenti tecnici constatano l'impossibilità pratica materiale di effettuare accertamenti individuali per ciascun migrante a bordo e quindi effettuano un colloquio con il medico di bordo e una osservazione clinica collettiva del gruppo di migranti e verificano la presenza di numerosi casi di scabbia pericolosi del pube infezioni alle vie respiratorie e soprattutto lo stato di generale profonda sofferenza psicologica di tutti i naufraghi era la storia personale di ciascuno era la stretta convivenza a bordo le condizioni vorrei definire estreme in cui si trovavano giorno e notte per venti giorni sul ponte di una nave tutto questo determinava una situazione chiaramente di notevole difficoltà e stress psicofisico ha riferito Asaro all'udienza dell'8 aprile 2022 lo ha confermato la dottoressa Cristina Camilleri che ha precisato come appunto si trattava di oltre un centinaio di migranti di etnie e culture diverse con forti difficoltà di comunicazione anche tra di loro molti dei quali riportavano i segni delle torture subite in Libia si registrava un generale stato depressivo prevaleva l'indifferenza la rabbia la mancanza di fiducia quindi l'intero gruppo era accomunato dal terrore di essere riportato in Libia la situazione dal punto di vista medico appariva come una situazione d'urgenza di crisi di rischio di reazioni che potevano mettere in pericolo l'intero gruppo in cui era necessario intervenire immediatamente per evitare che la situazione da urgenza si trasformasse in emergenza e quindi anche i consulenti nominati dalla procura di Agrigento accertano che la Open Arms non avrebbe potuto sostenere ulteriori giorni di navigazione non avrebbe potuto recarsi altrove di certo non in Spagna perché i migranti a bordo ormai stremati non avrebbero accettato questa soluzione e elevato era il rischio di reazioni incontrollate con evidente pericolo per la vita e la salute di tutte le persone a bordo all'ispezione del 20 agosto 2019 partecipa anche il capitano Anedda che già aveva partecipato alla precedente ispezione di 5 giorni prima del 15 agosto e che conferma come evidentemente le condizioni erano notevolmente peggiorate sicuramente erano peggiorate perché più passava il tempo più la situazione andava deteriorandosi chiaramente perché ripeto il ponte di coperta della Open Arms era evidentemente sovraffollato sicuramente anche 5 giorni in più di permanenza a mare influiscono sulla stanchezza sullo stato fisico su questo non c'è dubbio sui migranti gettatisi in mare lo stesso Anedda ha riferito che quel 20 agosto le unità navali della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto ne avevano soccorsi 15 per poi condurli a Lampedusa i migranti non volevano nemmeno farsi soccorrere cioè perché nella loro idea volevano raggiungere avevano un po' perso fiducia in tutto volevano raggiungere a nuoto l'isola questa è la realtà dei fatti pagina 83 del verbale di udienza del 17 dicembre 2021 analoga la disposizione del comandante Tringali poi si dalle nove e mezza in poi dieci di mattina fu un susseguirsi di migranti che si buttavano in mare tant'è che mandammo quasi tutte le nostre motovedette con gli operatori specializzati i rescue swimmer per recuperare i migranti che erano stremati non riuscivano nemmeno più a nuotare accertata la tragicità della situazione ormai ingestibile la procura della Repubblica di Agrigento nell'ambito dell'originario procedimento iscritto ancora a carico di ignoti per il solo delitto di quell'articolo 328 dispone il sequestro preventivo in via d'urgenza della nave open arms determinando di conseguenza lo sbarco di tutti i migranti che avviene a partire dalle 19 e 24 della sera del 20 agosto è l'allegato 42 della nostra iniziale produzione documentale nello stesso frangente temporale lo stesso ministro Salvini ribadisce la sua assoluta contrarietà allo sbarco degli immigrati in territorio italiano in una diretta facebook reperibile su fonti aperte abbiamo prodotto il file video all'udienza del 14 giugno 2024 in cui testualmente afferma buon pomeriggio buon pomeriggio amici amici 18 e 28 di un martedì sicuramente non noioso mi sono assentato per qualche minuto al senato per tornare urgentemente qua in ufficio al ministero perché ovviamente non mancano le emergenze la novità degli ultimi minuti è che probabilmente la procura di agrigento vuole sequestrare l'ONG open arms con il risultato conseguente di imporre lo sbarco degli immigrati rimasti a bordo ricordo a chi non avesse seguito la vicenda nessun allarme igienico sanitario a bordo finti malati finti minorenni però qualcuno evidentemente magari si sta già portando avanti nel nome del governo dell'inciucio che vuole riaprire i porti ebbene finché campo non è mio diritto ma è mio dovere difendere i confini l'onore la dignità la sovranità del mio paese chiude chiude la diretta facebook delle 18 e 28 affermando torno a cercare di impedire l'ennesimo sbarco su questo torneremo affrontando poi il tema dell'elemento soggettivo poco dopo in realtà lo sbarco avverrà perché verrà effettivamente eseguito il sequestro preventivo della procura della repubblica di agrigento il sequestro verrà convalidato dal GIP pubblico ministero un secondo soltanto vorrei pregare di evitare questo parlottio e chiacchiericcio perché sicuramente disturba il pubblico ministero che sta facendo la requisitoria ma anche il collegio che percepisce questo rumore di fondo obiettivamente da fastidio grazie grazie presidente ho quasi concluso il GIP di agrigento quindi riconosce il fumus del delitto di rifiuto di atti d'ufficio l'unico all'epoca iscritto dalla procura della repubblica di agrigento ma va anche oltre dice il GIP di agrigento il pubblico ministero contestando il solo reato di quell'articolo 328 primo comma ha colto solo una parte della vicenda umana e giuridica di cui si discute avendo pretermesso un dato assai rilevante che il rifiuto ad atti d'ufficio nella specie compiuto ha comportato almeno dal 14 agosto 2019 l'illecita e consapevole privazione della libertà personale dei migranti soccorsi costretti a bordo per un apprezzabile lasso di tempo contro la loro volontà con integrazione del concorrente benché posto a tutela di un differente bene giuridico reato di sequestro di persona quindi il GIP di agrigento ritiene sussistenti anche gli elementi del reato di sequestro di persona con riferimento al pericolo mimora ovviamente lo considera venuto meno a seguito dello sbarco dei migranti e quindi dispone poi il dissequestro e la restituzione dell'imbarcazione agli aventi diritto quello che succederà dopo è fatto notorio la procura della repubblica di agrigento passerà il fascicolo dai noti a carico di noti iscrivendo il ministro dell'interno dell'epoca Matteo Selvini per i reati di quegli articoli 328 e 605 del codice penale il fascicolo sarà trasmesso a questo ufficio di procura che per competenza a sua volta lo trasmetterà al tribunale per i reati ministeriali che svolte le indagini formulerà le imputazioni per cui oggi si procede e ritrasmetterà gli atti a questa procura con preghiera di rimetterli al presidente del senato con richiesta di concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini l'autorizzazione a procedere è stata effettivamente concessa il 30 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione e quindi è stata poi emessa la richiesta di rinvio a giudizio che ha segnato l'inizio di questo processo noi con la ricostruzione dei fatti avremmo terminato ora ci rimane da affrontare il tema della qualificazione giuridica delle condotte non so se direi magari sospendiamo una decina di minuti anche i 15 e poi riprendiamo con la requisitore del pubblico ministero va bene il pubblico ministero può proseguire con la requisitore grazie presidente i colleghi hanno già illustrato in maniera dettagliata il quadro normativo e i fatti e come abbiamo anticipato procederemo ora a mettere insieme fatti e norme proseguendo la nostra discussione cercheremo di rispondere alla domanda fondamentale che ha posto questo dibattimento e cioè se il ministro italiano aveva l'obbligo o meno di indicare un posto sicuro alla open arms nel momento in cui è raggiunta in acque italiane perché precisiamolo ribadiamolo di obbligo si tratta e di obbligo di risultato e di converso se rispetto a tale obbligo i 147 migranti giunti in acque italiane avevano maturato il corrispondente diritto di vedere riconosciuta e tutelata dalla Repubblica italiana la loro libertà personale per il quadro normativo che abbiamo finora illustrato e in particolare per le leggi del mare che si traducono nel dare terre ai naufraghi la risposta è scontata sarebbe scontata anche senza ricorrere e neanche alla normativa sovranazionale sarebbe scontata anche in relazione alla nostra Costituzione e prima ancora dell'articolo 13 dell'articolo 2 della Carta Costituzionale che riconosce i diritti fondamentali dell'uomo senza distinguere tra cittadini e stranieri e tra criminali incensurati e tra stranieri irregolari o stranieri irregolari una vicenda che potrebbe sembrare semplice però di fatto è complessa è complessa perché in maniera scrupolosa abbiamo cercato di rispondere anche a tutta una serie di altre domande sulla possibilità seppure remota rispetto al quadro normativo illustrato che potessero sussistere situazioni di fatto o situazioni di diritto che non facevano insorgere quell'obbligo che lo facevano decadere o che consentissero di postergarne l'adempimento oppure se sussistessero ragioni di pregio giuridico in grado di rendere quell'inadempimento seppure oggettivamente legittimo penalmente irrilevante in via preliminare dovremmo parlare se appunto l'obbligo del POS gravasse o meno sul ministro dell'interno ma è una risposta che già abbiamo dato nella nostra parte introduttiva semmai possiamo chiederci in via preliminare se effettivamente il ministro fosse a conoscenza di tutto quello che è avvenuto durante i vari seguimenti di questa di questa vicenda vicenda che parte nonostante al di là della contestazione dal primo agosto del 2019 e in effetti anche su domanda del presidente il ministro Salvini nel corso del dibattimento ha confermato di essere stato sempre tenuto informato di tutta questa vicenda che tra l'altro aveva assunto ad un certo punto anche dei connotati tali da essere al centro delle cronache di quei giorni e anche del dibattito politico in corso la conoscenza del ministro viene anche in qualche modo confermata poi da varie testimonianze come quella della testimone garroni perché appunto parla di un aggiornamento più che quotidiano sull'evoluzione delle situazioni e così anche e della testimone di Liguori la quale poi ci ha consentito l'acquisizione di tutta la messaggistica di scambio di notizie con cui il capo di gabinetto e il ministro dell'interno erano costantemente informati su quello che accadeva a bordo dell'open arms messaggistica che abbiamo acquisito all'udienza del 2 dicembre del 2022 quindi possiamo iniziare dicendo senza dubbio che il ministro che competente al rilascio del posto era il ministro dell'interno e che il ministro dell'interno era costantemente quotidianamente e in tempo reale informato su tutti gli accadimenti ora la condotta tipica del del reato di sequestro di persona è rappresentata dal compimento di atti che privano taluno e la propria libertà personale atti che trattandosi di un delitto a forma libera possono avere natura commissiva o anche omissiva purché però la condotta del soggetto agente sia illegittima cioè non ordinato autorizzata dalla legge né resa legita dall'esistenza di causa di giustificazione quindi ci interrogheremo sulla legittimità o illegittimità di tale condotta la prima domanda in negativo che dobbiamo porci è se sussistessero all'epoca dei fatti eventuali elementi di fatto idoni a desonerare il ministro dell'interno al rilascio del posto dai provvedimenti emessi dallo stesso ministro quindi il decreto interdittivo dell'1 agosto e poi il provvedimento di diniego del 19 agosto a cui già ha fatto riferimento la collega emerge ma su cui poi si fonda anche la linea difensiva che abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso del dibattimento si fondano sulla non inoffensività per utilizzare il termine internazionale ma per facilitare sull'offensività del passaggio dell'open arms che a monte aveva costretto il ministro dell'interno a evitarne persino l'avvicinamento e l'ingresso nelle acque nazionali proprio per la questione proprio per il pericolo che quella nave rappresentava per lo Stato e che poi una volta che la nave giunse in acque territoriali lo costrinse a negare il rilascio del posto quali sono questi elementi sono sintetizzati nel decreto sono sintetizzati nel decreto interdittivo anche se poi appunto ripresi dal provvedimento del 19 agosto allora ricordiamo soltanto alcuni passaggi perché poi li analizzeremo partitamente in sostanza il ministro dell'interno con l'avallo dei due ministri controfirmatari premettendo che l'open arms aveva imbarcato persone a bordo di un natante in distress in area sarlibica effettuando l'intervento in totale autonomia evidenziava che dalle circostanze dell'intervento dal complessivo modus operandi della stessa tutto simile a quello tenuto in precedenti analoghe occasioni potrebbe desumersi l'intenzione di porre in essere un'attività volta al preordinato e sistematico trasferimento illegale di migranti in Italia e che la medesima attività potrebbe determinare rischi di ingresso sul territorio nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche e dunque pericolosi per l'ordine della sicurezza eccetera eccetera pertanto concludeva che una siffatta condotta integrava la fattispecie di scarico di persone in violazione delle leggi dell'immigrazione esenzia all'articolo 19 più volte citato della convenzione UNCLOS prima però di analizzare la portata di questi pericoli dobbiamo collocarli nel momento in cui questi pericoli venivano ipotizzati era il momento dei porti chiusi che aveva portato anche a impedire alla stessa guardia costiera italiana con la motonave 18 a effettuare lo sbarco di migranti c'era stato il tavolo tecnico e la direttiva in cui come abbiamo detto si erano date le indicazioni di classificazione di immigrazione illegale per tutte le ONG che svolgevano operazioni di salvataggio lo stesso imputato a specifica domanda ha detto che la classificazione di passaggio offensivo di fatto era automatica cioè quindi senza nessun approfondimento al riguardo la stessa conferma ci proviene dall'allora ministro della difesa 30 la quale appunto diceva che il decreto interdittivo che venne messo il primo agosto di fatto serviva semplicemente cioè non c'erano situazioni di allarme in situazioni di pericolo ma serviva semplicemente per scoraggiare l'avvicinamento delle ONG presso le acque nazionali già quindi questo ridimensiona il pericolo esposto nel decreto interdittivo sempre dal punto di vista della collocazione storica degli eventi deve ricordarsi che almeno fino a quel momento non c'erano stati dei processi a carico delle ONG che avevano effettuato salvataggi in mare che la giurisprudenza aveva sempre classificato come operazioni di salvataggio con tutto quello che dal punto di vista giuridico ne deriva né poi nel caso specifico vi 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 fossero diciamo dei pregiudizi nei confronti dell'open arms vero è che al tempo il comandante Creus era indagato per l'articolo 12 del testo unico immigrazione ma sempre con riferimento ad un altro salvataggio presso la procura di Ragusa procedimento che sappiamo come è finito cioè con un nulla di fatto ma perché automaticamente ad ogni arrivo di ONG che trasportavano i migranti nelle acque nazionali arrivavano automaticamente in contemporanea delle informative da mettere alla valutazione da porre alla valutazione dell'autorità giudiziaria come del resto è venuto anche nel caso dell'open arms per esempio il testaned ha fatto il riferimento che vi fu anche un'informativa i cui elementi rimessi alla valutazione dell'autorità giudiziaria poi comunque sono stati valutati nell'ambito di questo procedimento e lo anticipiamo da cui appunto emerge che nessuna condotta illecita era stata commessa dall'open arms in quella occasione del resto anche il procedimento chiamiamolo madre che avrebbe dovuto dimostrare la complicità delle ONG con scafisti con scafisti libici con trafficanti di uomini cioè celebrato a Trapani più volte invocato dalla difesa come esempio di queste modalità di azione in realtà anche quello è finito con nulla di fatto e nell'ultima udienza abbiamo acquisito la relativa sentenza questo quindi dunque il quadro entro cui valutare già con una certa leggerezza la sussistenza di questi pericoli allora uno dei pericoli evidenziati è il rischio terrorismo perché si leggeva appunto nel decreto che vi potrebbero essere a bordo soggetti coinvolti in attività terroristiche allora già il dato letterale utilizzato nel decreto interdittivo dimostra che è un'affermazione sine causa si parla infatti verosimilmente del rischio terrorismo perché trattasi verosimilmente di cittadini stranieri privi di documenti di identità e la cui nazionalità è presunta sulla base delle rispettive dichiarazioni allora una frase di questo genere non solo non si fonda sul reale accertamento dell'assenza dei documenti perché nessuno è andato a verificarlo mentre sì contraddittoria rispetto all'ordinamento giuridico che proprio di fronte a cittadini non identificati si attuino le procedure per identificarle ma al contempo è anche discriminatoria nella parte in cui ritiene essenziale la conoscenza della nazionalità dei migranti come se l'appartenenza a questo o quell'altra nazione possa da sola incidere sulla generazione del pericolo l'attività istruttoria comunque ampiamente dimostrato se lo abbiamo accennato prima che tale rischio si fondava assolutamente su timori generici ce lo hanno confermato fonti più che qualificate preposta alla tutela e alla sicurezza del territorio agrigentino come ad esempio il questore di Agrigento il capo della squadra mobile di Agrigento il prefetto di Agrigento notizie di tal fatta cioè sulla presenza di terroristi a bordo non giunsero nemmeno alla presidenza del Consiglio come confermato dal Presidente Conte in dibattimento non giunsero al Ministero dell'Interno come confermato da Mancini e Garrone come confermato dallo stesso imputato nel corso del suo esame che ha risposto seccamente no alla domanda vi risultavano terroristi a bordo per completezza anche i ministri Trent e Toninelli controfirmatari del decreto interdittivo hanno dichiarato e chiarito che non era stato loro prospettato alcun specifico rischio per la sicurezza nazionale del resto i vari accessi che forse dell'ordine hanno compiuto sull'open arm non hanno mai evidenziato l'esistenza anche di indizi in merito in sostanza al momento dell'emissione del decreto così come anche nei momenti successivi non sussistevano né sopravvennero nella vicenda elementi che potessero fare avallare il prospettato rischio del terrorismo altro rischio quello del preordinato e sistematico trasferimento illegale dei migranti in Italia che si desumerebbe stando alla impostazione difensiva da un cacervo di condotte che dimostrerebbero che non si è trattato di operazioni di salvataggio bensì del trasporto illegale di migranti irregolari sul territorio nazionale da dove si ricaverebbe questa ipotesi intanto perché i salvataggi sono avvenuti senza un'attività di coordinamento con altri stati perché vi è stato il bighellonare questo è il termine utilizzato dal ministro Salvini mutuando una frase delle autorità maltesi il bighellonare dunque dell'open arms pur potendo raggiungere altri stati il fatto che l'open arms non ha voluto rilasciare le autorità maltesi 39 migranti del terzo soccorso compiuto il fatto di aver rifiutato per due volte il posto spagnolo è la vicenda del sommergibile venuti proveremo ad analizzare una per una queste situazioni per quanto riguarda l'omesso coordinamento con le autorità nell'operazione di salvataggio nel decreto interdittivo come abbiamo visto si parla di intervento in totale autonomia riferito al salvataggio del primo agosto e comunque si capisce anche dal decreto del 19 che l'open arms avrebbe agito con una certa anarchia rispetto alle regole in realtà la documentazione acquisita quindi parlo di documentazione ha confermato che i primi due eventi di salvataggio il primo in acque libiche il secondo in zona sarmaltese vennero comunicati da open arms in via diretta alle autorità libiche e per conoscenza sia alle autorità di bandiera cioè la spagna che a i mrcc italia e rcc malta ciò in conformità agli obblighi imposti ai comandanti e alle navi del diritto internazionale della navigazione la medesima documentazione poi ha dimostrato anche che il terzo evento sarra in zona maltese quello del nuovo agosto avvenne con il diretto coordinamento di rcc malta quanto poi in particolare al primo evento del primo agosto che diciamo è il più discusso è stato il più discusso all'interno di questo processo il dibattimento ha ulteriormente confermato il pieno rispetto della normativa in materia da parte dell'open arms e soprattutto delle disposizioni o meglio delle conclusioni del Consiglio d'Europa del 2018 richiamate dallo stesso imputato durante le sue dichiarazioni spontanee secondo cui occorre collaborare nell'operazione di soccorso e salvataggio con la Guardia Costiera libica in vero intanto secondo quanto affermato dal comandante Creus in dato 8 aprile 2022 l'ONG ebbe a comunicare con il pattugliatore della Guardia Costiera libica che si trovava in zona perché stava svolgendo altre operazioni di soccorso mentre poi le registrazioni effettuate dal sommergibile venuti hanno dimostrato che effettivamente conclusi i rispettivi soccorsi quello delle ONG e quello del pattugliatore libico le due navi la spagnola e la libica si avvicinarono in modo da interloquire anzi gli approfondimenti svolti sulla documentazione video audio eccetera acquisita dal sommergibile hanno dimostrato come riconosciuto dagli stessi consulenti della difesa che la Open Arms riuscì ad avvicinare il barcone in distresse quello con i 55 migranti alcune ore prima dell'arrivo del pattugliatore libico pur essendo stato anch'esso informato dall'Alarm Phone che aveva dato quest'altro ONG che aveva dato che aveva dato la stessa notizia tanto all'Open Arms che alla Libia e quindi tant'è che il sommergibile registra la distribuzione di salvagente da parte della Open Arms nei confronti dei naufraghi e tutto ciò secondo in pieno ossequio alla normativa sovranazionale che obbliga i comandazzi di una nave che si trovi in posizione di essere in grado di prestare assistenza di procedere con tutta rapidità alla loro assistenza quanto al bighellonare dell'Open Arms che riguarderebbe il periodo dal 2 al 9 agosto cioè quindi dal secondo al terzo salvataggio e dal 9 al 14 agosto cioè dal terzo salvataggio al al momento in cui poi la nave fa ingresso in acqua nazionale il ministro Salvini ha affermato sarebbero arrivati due volte in un porto spagnolo la nave navigava lento moto e senza destinazione apparente in una zona attualmente nell'area Sar Martese ora questo bighellonare in realtà trova ampia giustificazione intanto perché il porto spagnolo era molto distante si trattava di una nave che quantomeno dal 9 aveva 147 persone a bordo pur essendo omologata per 19 la stessa Spagna così come segnalato dallo stesso ministro durante le sue dichiarazioni spontanee era stata sollecitata già dal 2 agosto dall'Italia e però ha risposto soltanto il 18 agosto e in effetti poi il comandante Creus sentito appositamente su questo punto in cui si chiedeva ma scusi ma lei perché dal 2 al 9 non ha trovato non ha fatto altro e perché dal 9 al 14 non ha fatto altro ha risposto in maniera chiara che si trattava del rispetto delle norme nazionali che finché non riceveva alcuna risposta delle autorità a cui si era rivolto certamente non poteva prendere nessuna iniziativa e dal resto alle domande anche al risposto quando si diceva ma scusi quali sono i suoi progetti per dove fare sbarcare questi migranti unico progetto per me era il porto sicuro più vicino attendendo la risposta delle autorità ora questo comunque bighellonare giustificabile o non giustificabile non prova certamente il preordinato trasferimento di migranti in maniera illegittima nel territorio italiano questo perché intanto l'open arms aveva nell'emore richiesto il post a Malta che ben avrebbe potuto decidere sia per fare sbarcare i 39 così come era disposta sia anche quantomeno per fare sbarcare gli altri gli altri migranti raccolti nella seconda operazione di salvataggio proprio in area SAR Maltese in ogni caso l'open arms come detto ha sempre informato il proprio stato di bantiera e comunque è giunta in acque nazionali dopo che il tar aveva sospeso il divieto di ingresso è tra l'altro una condizione di assoluto pericolo in cui la stessa guardia costiera italiana riteneva necessario e urgente dare alla nave un ridosso presso l'isola di Lampedusa per le avverse condizioni del mare per quanto riguarda il rifiuto allo sbarco dei 39 migranti il comandante Creus ha spiegato perché ha ritenuto di non consegnarli alle autorità maltesi perché appunto si sarebbero creati dei disordini all'interno della nave perché non si capiva perché scendevano quelli non avrebbero capito i migranti perché scendevano quelli soccorsi successivamente e non anche gli altri che stavano ormai quasi da dieci giorni sulla nave e tra l'altro perché c'erano scontri anche tra le diverse etnie presenti a bordo in ogni caso non vi può essere nessuna prova di quella preordinazione intanto perché la posizione di Malta è ingiustificabile come abbiamo detto e in teoria avrebbe potuto e dovuto concedere il post alla Open Arms che gliel'ha richiesto più volte poi si tratta comunque di scelte di sicurezza del comandante Creus che sono come lui da stesso affermato tutelati dalla insindacabilità in ogni caso lo sbarco dei 39 non avrebbe comunque sonerato poi l'Italia da fare sbarcare gli altri poi giunti legittimamente in acque nazionali e secondo i principi dell'Imu in ogni caso spetta agli stati tenere conto delle indicazioni del comandante e non viceversa quando i comandanti rappresentano delle determinate situazioni che devono affrontare a bordo delle navi passiamo al duplice rifiuto del posto spagnolo allora sempre che di rifiuto si tratti ma poi diremo che non è così si tratta di un rifiuto sicuramente condivisibile intanto la nave si trovava legittimamente a Lampedusa era stato sospeso il decreto era entrato in un momento di grande emergenza e la stessa ripeto la stessa guardia costiera italiana aveva individuato il ridosso sull'isola di Lampedusa e sarebbe stato comunque contrario lo spostamento della nave fino in Spagna sarebbe stato contrario alla normativa SAR sul posto sicuro più vicino il posto sicuro più vicino era Lampedusa perché ce l'avevano di fronte sarebbe stato contrario anche al rispetto dei diritti umani di persone che si trovavano ormai al 18 di agosto si trovavano da 18 giorni in navigazione è un rifiuto che alcuni dei testi sentiti nel dibattimento condividono perfettamente cito per esempio De Falco e Anedda poi vedremo anche perché la Spagna ritenne di rilasciare il posto quindi l'unico ostacolo allo sbarco a Lampedusa dove l'Open Arms si trovava legittimamente è che fece anche scomodare la Spagna a rilasciare un posto che non era di sua competenza l'unico ostacolo era rappresentato dalla ferma volontà negativa del Ministro all'interno che neanche di fronte a tutte queste evidenze decise che fosse giunto il momento di rilasciare il posto ma se ben guardiamo non si è trattato di un rifiuto se leggiamo le dichiarazioni di resa in dibattimento dal comandante Creus ma erano questioni che aveva rappresentato anche all'epoca dei fatti cioè lui non è che si rifiutava e questo appunto ai fini del preordinato trasferimento di immigrati in Italia è assolutamente importante non è che lui si rifiutava di far andare in Spagna i migranti si rifiutava di accompagnarli con la open arms in una situazione di assoluta ingestibilità e quindi chiedeva che altre navi o italiane o mandate dalla Spagna si preoccupassero di fare sbarcare i migranti all'ampedusa o di trasportarli senza fargli toccare terra e di trasportarli direttamente nell'altra nazione a riguardo veramente non ne vale la pena neanche soffermarsi è irrilevante assolutamente arrisibile la vicenda delle possibili sanzioni pecuniarie che sarebbero state applicate in Spagna all'open arms qualora vi avesse fatto rientro perché comunque dal punto di vista del preordinato trasferimento dei migranti è prova l'esatto contrario perché semmai si può dire che non volevano andare in Spagna per non per sottrarsi alla sanzione pecuniaria e non perché avevano intenzione di fare sbarcare i migranti in Italia altra questione sempre riguardanti i possibili elementi di fatto in base ai quali il Ministro avrebbe potuto avrebbe dovuto rifiutare il rilascio del POS è la vicenda del sommergibile venuti la vicenda è quella che riguarda la nota datata 5 agosto 2019 del comando in capo della squadra navale che allega file audio video fotografici indirizzate a diverse procure italiane tra cui quella di Agrigento e poi acquisita agli atti del dibattimento dalla quale secondo la tesi difensiva emergerebbero taluna importanti anomalie nella prima operazione di salvataggio effettuata dall'open arms in data 1 agosto anomalie evidentemente ritenute sintomatiche di una certa condotta complessiva allora la vicenda del sommergibile venuto è una vicenda che ha avuto grande risonanza anche all'interno di questo dibattimento perché da un lato si riteneva capace di scagionare il Ministro dell'Interno e dall'altro lato proprio perché è capace di scagionare il Ministro dell'Interno sarebbe stata tenuta nascosta ed emessa soltanto in maniera fortuita nel corso del dibattimento su questo occultamento di questa nota abbiamo nella memoria a cui rinviamo da ora abbiamo dedicato alcune pagine in cui vengono ricostruite tutti i vari passaggi utili su questo punto basti dire soltanto due cose la prima che a questa nota del 5 agosto nessuno ha dato mai nessuna rilevanza innanzitutto da l'autorità giudiziaria di Agrigento che non ritenne di inserirla nel fascicolo o poi trasmesso a carico del Ministro Salvini né risulta che in base a questa nota sono stati celebrati processi contro la Open Arms né venne ritenuta di nessun rilievo dal Tribunale dei Ministri in che senso nel senso che il Tribunale dei Ministri non andò a verificare se a monte del divieto di pos del diniego e poi del divieto di pos vi fossero state delle condotte illecite da parte di chi che sia perché appunto l'abbiamo detto all'inizio è assolutamente rilevante posto che se anche la nave fosse stata piena di criminali quel pos doveva essere rilasciato del resto l'aggiunta delle immunità parlamentari era a conoscenza come è possibile leggere anche del caso Creus cioè che è un caso poi sovrapponibile a quello indicato in questa nota del 5 agosto il comandante Creus che già al momento al primo agosto era indagato per l'articolo 12 il testo unico immigrazione però questa questa circostanza non non modificò minimamente la decisione dell'aggiunta delle immunità parlamentari essendo appunto assolutamente rilevante ma questa rilevanza l'ha riconosciuta lo stesso ministero dell'interno allora questa nota nascosta in realtà era a conoscenza del ministero dell'interno già i primi giorni di agosto intanto all'udienza dibattimentale del 13 maggio 2022 quando appunto emerge l'esistenza di questa nota il testo fabrizio mancini ne fa del direttore del servizio immigrazione del ministero dell'interno ne fa riferimento su specifica domanda della difesa ci fu per caso un'informativa della marina militare quindi ci fu per caso un'informativa della marina militare e il testo mancini risponde positivamente risponde anche che i tri ufficiali della marina nei primi giorni di agosto del 2019 si recarono a fargli vedere quantomeno la documentazione audio video e fotografica forse ancora prima che quella nota venisse inviata alle autorità giudiziarie in indirizzo ma la circostanza dell'esibuzione di quel materiale all'interno del ministero dell'interno viene confermata anche dal testo pellegrino quello della marina militare che si recò personalmente l'abbiamo sentito in dibattimento che si recò personalmente presso il ministero dell'interno adesibile quella nota evidentemente il ministero dell'interno in maniera assolutamente corretta non diede nessuna rilevanza a quella nota perché in quella nota di fatto come ora diremo non c'è esattamente nulla che poteva essere utilizzato a favore dell'odierno imputato né da un punto di vista processuale né da un punto di vista del procedimento inerente all'autorizzazione a procedere andiamo al merito di questa nota per la difesa questa nota evidenzia tre dati l'assenza di distresse del barcone con 55 persone a bordo della presenza di registrazioni effettuate dal sommergibile da cui sembrerebbe che ci sia uno scambio di informazioni o meglio una consegna di informazioni da parte di uno scafista libico o di soggetto o di suo emissario con l'equipaggio dell'open arms è una conseguente rotta anomala che si giustificherebbe alla luce di queste informazioni carpite in alto mare quindi da questo si ricava che non si sarebbe trattata di un'operazione di soccorso ma di meno trasporto in continuazione con quello già effettuato dagli scafisti liberi e le libici e se detto dell'irrilevanza della superfluità perché il posto comunque dove essere dato indipendentemente da questi fatti non ci soffermiamo sulla causalità casualità chiedo scusa con cui il sommergibile venuti ha incrociato l'open arms e l'ha portata a seguirlo per diverse ore ma per questo su questi punti rinviamo alla nostra memoria e ricordiamo che questa questa nota non ha nessun carattere di affidabilità approbatoria infatti come specificato dai testi Oliva e Pellegrino la discontinua ciò che venne ripreso in quella circostanza da sommergibile venuti è solo una parte di quella avvenuta data la discontinua attività del periscopio di osservazione e quindi la discontinua attività di immagazzinamento dei dati con la conseguenza che essendo rimasta incerta la stessa ricostruzione dei fatti ancora più alle autorie si rivelano le ipotesi formulabili per spiegare i medesimi del resto lo stesso Pellegrino a seguito della domanda del Presidente del Tribunale che gli ha chiesto se in base a quelle acquisizioni avesse potuto formulare un'ipotesi investigativa Pellegrino così ha risposto semplicemente è stato detto questo Signor Presidente che laddove provata laddove rispondesse al vero si potrebbe ipotizzare l'ipotesi secondo la quale la posizione fosse stata eventualmente trasmessa da chi come quando questo io non glielo so dire ma laddove questo fosse stato accertato è laddove questo rispondesse al vero probatoriamente nulla ma non ci esimiamo ugualmente di analizzare gli elementi che si trarrebbero da da questa nota della Marina Militare allora partiamo dall'assenza di distresse in effetti si ha la nota della Marina Militare che i due testi Pellegrino e Oliva sentiti nel dibattimento parlano di buona galleggiabilità una buona galleggiabilità che non si mette in dubbio però noi dobbiamo considerare del barcone con i 55 migrani dobbiamo considerare che la buona galleggiabilità si riferisce ad una situazione statica non si riferisce chiaramente tra l'altro non si hanno le sfere di cristallo per capire come cosa sarebbe potuto accadere nelle numerose miglia ancora da percorrere tra l'altro anche in ore notturne come confermato dagli stessi consulenti della difesa e del resto la stessa Marina Militare evidenzia che al momento dell'arrivo dell'Open Arms la prima cosa che fa l'equipaggio dell'Open Arms è quello di distribuire i salvagente a riprova del fatto che sicuramente non eravamo in una situazione di evidente tranquillità e sicurezza sul punto e non mi voglio soffermare molto all'unisono i consulenti del PM e delle parti civili hanno riferito che vi erano serissimi problemi di stabilità di quel natante e quindi un problema di stress Ingegnere Magazzù c'era possibilità di un ribaltamento già soltanto all'alzarsi in piedi fa innalzare il baricentro consideriamo peraltro anche che la possibilità di movimento per questo tipo di navigazione abbiamo visto che erano 80 miglia e dovevano farne altri 80 pur con la velocità eccetera eccetera sono altre 10 ore dico quindi la possibilità che la gente si possa voler muovere alzare può creare un principio di situazioni destabilizzanti consulente partecivile Vittorio Alessandro una barca di 12 metri con 55 persone a bordo è una barca in pericolo il regolamento europeo che dice che la navigabilità è il natante riferita alla probabilità di questo natante che alla probabilità che questo natante si perda e bisogna considerare il numero delle persone a bordo l'equipaggio che ci sia un equipaggio capace di condurle in sicurezza in un porto la presenza di dispositivi di sicurezza e se ci siano pericoli di cambiamenti delle condizioni meteo addirittura il consulente partecivile Gallinelli dice quella barca non era assolutamente in condizioni di sicurezza non si doveva mai consentire la partenza di un'imbarcazione in quelle condizioni quindi già parliamo addirittura della partenza non si poteva lasciarle continuare a navigare in quelle condizioni ora noi abbiamo svolto nella nostra memoria un'analisi precisa sulle tesi dei consulenti della difesa a quella rinviamo però possiamo rispondere ai consulenti della difesa con una sola frase che è quella dell'ingegnere Magazzu credo che nessuno dei presenti vorrebbe trovarsi nelle condizioni di quella foto con altre 54 persone accanto in alto mare diciamo a 80 miglia dalla terra più vicina credo che nessuno dei presenti vorrebbe trovarsi nella condizione di quella foto con altre 54 persone accanto in alto mare del resto lo stesso decreto interdittivo parla di distresse e siccome era la prima volta che veniva emesso in base al decreto di sicurezza al decreto di sicurezza bis il decreto interdittivo era la prima applicazione in assoluta cioè il ministero sarebbe stato abbastanza attento a non chiamare a non fare riferimento se così non fosse stato a un distresse che poi disarcionava l'applicazione della normativa che loro che loro invocavano cioè invocavano la normativa dell'articolo 19 convenzione un close che però è immediatamente che è smentita dall'articolo 18 della stessa convenzione che dice che tutto questo non si applica quando si è in situazioni di soccorso e di salvataggio la novità di questo procedimento è è che questa parola di stress all'interno di quel di quel di quel decreto interdittivo sia stata queste sono le dichiarazioni dell'allora capo di gabinetto piantadosi e le dico molto banalmente è probabile che sia una riproduzione di quelli che poi la catena di comunicazione che partono dalla comunicazione che fa la stessa nave nella fattispecie dell'ONG quindi questo è un errore sicuramente ora non si mette in dubbio che sia una riproduzione dei dati forniti in quella catena di comunicazione però non possiamo ritenere che appunto quel dato importantissimo per l'applicazione o meno dell'articolo 19 della convenzione unclus che si invocava in quel momento si fa fatica a ritenere che sia stato recepito senza metterlo in discussione basandosi invece è stato evidentemente recepito basandosi sul dato di esperienza secondo cui un barcone di legno di 55 migranti in alto mare non può che essere in pericolo quanto poi alla registrazione della conversazione la chiameremo intercettazione ma di intercettazione vera e propria non si tratta perché è stata registrata dal canale VHF che è di libero accesso si tratta come abbiamo l'abbiamo fatta trascrivere l'abbiamo fatta tradurre di una brevissima conversazione in lingua spagnola e all'udienza del 24 marzo 2023 dove tante energie sono state dedicate a tutte le vicende inerenti al sommergibile venuti sono state avanzate varie ipotesi su chi potesse essere stato a intrattenere quella conversazione questo mistero viene risolto da Oscar Camps all'udienza successiva del 9 giugno 2023 pubblico ministero il primo agosto 2019 un sottomarino della marina militare ha registrato una breve conversazione tra due soggetti sa dirci chi erano gli interlocutori Camps tra il capitano e il marinaio di coperto che si chiama Carlitos che è il nome affettuoso che avevamo e come comunicavano pubblico ministero e come comunicavano questi due soggetti erano entrambi a bordo dell'open arms il capitano dal ponte e lui attraverso un'equipe di trasmissione portatile sarebbe una radio il capitano era sul ponte il marinaio nella coperta principale parlavano delle luci di un apparecchio di pesca che a volte ritroviamo sul mare e che c'è una luce che si accende e chiedeva il capitano se aveva visto quelle luci e lui diceva che sembravano le luci di un apparecchio da pesca che si usa a mare ce ne sono tante e se l'imbarcazione si avvicina a uno di questi l'elica si può rompere ora se non vogliamo dare credito alle dichiarazioni di Camps però giungiamo alla stessa conclusione basandoci sul materiale sull'altro materiale probatorio del dibattimento intanto la conversazione è avvenuta in lingua spagnola non ci sono tracce né di arabo né anche di inglese quindi già questo rende improbabile un dialogo con scafisti o emissari libici il sommergibile non per quanto discontinuo nei suoi accertamenti non ha registrato nessun avvicinamento di navi alla open arms e tra l'altro appunto tutti si concordano nel dire che la che la interlocuzione è avvenuta da distanza da distanza ravvicinata e anzi è lo stesso pellegrino che finisce per confermare che potesse trattarsi di una conversazione avvenuta proprio a bordo dell'open arms per ragione di tempo salto evito di rileggervi la deposizione quindi attraverso degli strumenti radio la conversazione poi si riferisce ad una barchetta usa il termine spagnolo corrispondente si trattava di una piccola barchetta che può a che fare fare con il barcone di 12 metri con i 55 migranti mentre è molto più compatibile con questa attrezzatura da pesca di cui parla Oscar Camps ma al di là di queste considerazioni è dal punto di vista temporale che i conti non tornano infatti la conversazione è delle ore 12 e il barcone con i migranti viene recuperato dall'open arms alle ore 16 quindi ci sono quattro ore e allora come anche implicitamente ammesso dai consulenti della difesa che hanno fatto tutta la ricostruzione temporale di quello che è accaduto in quei frangenti l'intervento dell'open arms è più compatibile con la segnalazione di di alarm phone che è delle 15 e 43 e poi quindi l'intervento dell'open arms è delle 16 e 01 rispetto ad una segnalazione avvenuta alle ore 12 e quando gli si chiede di spiegare ai consulenti della difesa ma come mai cioè vi fate questo calcolo che vi sia questo nesso temporale tra la conversazione registrata alle ore 12 e il salvataggio avvenuto alle ore 16 si imbarcano in considerazioni del tutto di natura personale prive di ogni validità scientifica ma togliendo la spiegazione offerta da Oscar Campso se rimangono ignoti gli interlocutori di questa conversazione allora non si può parlare di scafisti chi ce lo dice che parla stanno parlando uno dell'equipaggio è uno scafista del resto se mai ci fosse stato quel dialogo con tra equipaggio e lo scafista libico non prova nulla non prova accordi di sorta abbiamo una nave e una ONG che cerca di salvare gente in mare e cerca notizie a riguardo da chiunque queste notizie possano provenire a questo punto a nulla rileva quel repentino cambiamento di rotta perché ormai togliendo la conversazione togliendo l'assenza di distresse un cambiamento di rotta a ben poco rileva potendosi essere potendo essere addebitato a una di quelle manovre della normale navigazione e del resto del tutto compatibile con la ricerca di migranti effettuata dalla Open Arms in quel momento ma del tutto compatibile anche con quanto riferito da Creus sulle varie indicazioni che gli provenivano dal pattugliatore libico che a un certo punto gli ha chiesto di spostarsi perché per non ostacolare altre operazioni di salvataggio che il pattugliatore libico stesso stava portando a termine quindi da tutta la vicenda della del sommergibile venuti l'unica cosa che possiamo seriamente ricavare è che il primo agosto l'Open Arms salvò 55 vite in mare non ci sono altri elementi che possono ritornare utili a questo dibattimento vediamo se sussistevano elementi in diritto idonei a esonerare il ministro dell'interno dal rilascio del posto nei provvedimenti formali emanati dal ministro dell'interno nel corso della presente vicenda sono state efferte interpretazioni ci siamo prego del substrato normativo di riferimento di segno ben diverso rispetto alle consolidate prassi ermeneutiche sia internazionali sia dello stesso ministero almeno in epoca antecedente e successiva alla nomina dell'imputato al ministero dell'interno e interpretazioni che ci pare opportuno analizzare per stabilire la legittimità anche da un punto di vista amministrativo degli atti prodotti nella fattispecie che si riflette inevitabilmente sulla legittimità della privazione della libertà personale dei migranti allora primo atto formale è rappresentato dal decreto interdittivo in cui si applica per la prima volta l'articolo 11,1 terra del testo unico immigrazione modificato dal decreto sicurezza bis abbiamo già detto che la norma presentava già dei prefili di incostituzionalità e comunque aggiungiamo che venne abrogata poi nel 2020 quello che importa invece è l'atto l'atto indipendentemente da una norma che già insomma aveva poi se interpretata in maniera costituzionalmente orientata aveva un margine minimo di applicabilità ma l'atto in sé presenta vari profili di legittimità sui quali non abbiamo bisogno di soffermarci perché già il Tar con la sua decisione del 14 agosto evidenziò è illegittimità evidenziata seppure in via incidentale dal tribunale dei ministri che pertanto ritenne che il decreto interdittivo fosse da disapplicare ma poi si ravvisano diversi profili per la violazione di legge soprattutto quello con riferimento agli articoli 18 e 19 della convenzione UNCLOS che era la convenzione invocata in quel provvedimento articoli che non potevano essere invocati proprio per la mancanza dei presupposti di fatto di cui abbiamo appena parlato ma quello che rileva di più al di là perché un atto può essere in violazione di legge ma questo non significa che la violazione di legge sia intenzionale il vizio che più rileva è quello dello sviamento di potere che non poteva sfuggire all'imputato perché quel provvedimento venne utilizzato per il perseguimento di finalità estrane al potere che gli conferiva la norma che intendeva applicare la norma che intendeva applicare infatti consentiva di fronte a una situazione di pericolo per l'ordine pubblico passaggio offensivo eccetera eccetera di fare entrare in acque nazionali una nave che presentasse tali caratteristiche di pericolosità quindi non avrebbe potuto invocare questa offensività in mancanza di presupposti quindi perché invocava questa pericolosità quando mancavano i presupposti adesso lo stesso ministro Trenta confermava che il decreto l'aveva appena detto serviva semplicemente non a salvaguardare lo Stato italiano da questi grandi pericoli ma semplicemente per scoraggiare le ONG dall'avvicinarsi in Italia il fine era quello di non fare insorgere nemmeno l'obbligo al rilascio del post se una nave non arriva in acque nazionali il ministro all'interno è chiaramente sgravato dall'obbligo anche se non è sempre così comunque facciamola passare così è sgravato dall'obbligo del rilascio del post che l'intenzione fosse questa cioè evitare l'insorgere di quell'obbligo emerge dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato su vari social ci ritorneremo ma si tratta comunque di tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento dove è sempre più o meno dichiarato che non avrebbe autorizzato nemmeno mezzo sbarco quindi questa era la sua linea la volontà poi si desume anche dal fatto che lo stesso giorno in cui il decreto interdittivo viene annullato immediatamente prova ad emettere un nuovo decreto interdittivo senza un quid novi cioè in assenza di qualunque novità e quindi che era l'esatto modo per aggirare il provvedimento del 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 tribunale amministrativo che in sostanza ma su questo ci ritorneremo lo metteva di fronte al suo obbligo di rilasciare il posto quindi il decreto interdittivo dimostra sin dall'inizio un uso strumentale delle norme a favore appunto della sua politica dei posti chiusi e passiamo al diniego del 19 agosto 2019 che viene messo ricordiamoci quando l'open arms è già in acque nazionali e più volte dal 14 al 19 aveva avanzato e riavanzato questa richiesta di posto che non arrivava da questo lungo silenzio almeno da quando è in acque nazionali è un silenzio omissivo ma finalmente il 19 agosto esplicita le ragioni in sostanza si legge da questo provvedimento che il decreto interdittivo del primo agosto non aveva cessato di produrre i suoi effetti a seguito del provvedimento del tar che si era limitato a indicare misure cautelari d'urgenza finalizzata a consentire l'ingresso del natante nell'acqua territoriale per garantire assistenza alle persone bisognevoli non imponendo all'autorità italiana alcun obbligo in ordine all'assegnazione di un porto peraltro i necessari soccorsi erano già stati ampiamente prestati dalle autorità italiane sia affettuando numerose medevac sia mediante poi lo sbarco dei minori la richiesta di posto si specificava anche in questo provvedimento può essere avanzata solo nell'ambito di un quadro caratterizzato dall'adesione alle regole dettate in materia di soccorso in mano mentre l'open arms aveva manifestato con la sua condotta la precisa intenzione di porre in essere un'attività a volte al preordinato e sistematico trasferimento illegale di migranti in Italia cioè alla luce del mancato coinvolgimento dell'autorità e lo Stato in bandiera e rifiuto di raggiungere Malta nonostante la disponibilità delle autorità maltesi per precedere allo sbarco contraddittorietà delle condotte concretamente a posti in essere rispetto alle finalità seritamente perseguiti inoltre in questo provvedimento si dava atto della correttezza della posizione fino all'ora assunta dall'autorità italiana in merito ai doveri gravanti in quella fattispecie sullo Stato di bandiera che aveva appunto trovato conferma dal fatto che la stessa Spagna aveva il 18 cioè il giorno prima di questo procedimento indicato un post e si richiamavano anche sempre a sostegno della posizione assunta il convolgimento della Commissione europea con riguardo all'attività di redistribuzione ora le motivazioni poste a sostegno di questo diniego rendono anche tale provvedimento irrimediabilmente viziato per la violazione di legge e per eccesso di potere sotto il profilo della illogicità contraddittorietà irragionevolezza dell'atto quanto al primo punto cioè sull'interpretazione del provvedimento del Tar risulta icchituocoli la pretestosità dell'argomentazione e la sua contrarietà alle disposizioni di legge se è vero infatti che il provvedimento del Tar che aveva un ambito di cognizione ben diverso non poteva obbligare il il ministro a rilasciare un post anche perché è sì un obbligo un obbligo nell'anno ma che è discrezionale poi nella manifestazione delle sue modalità è altrettanto vero però che per effetto della sospensione del divieto e del conseguente legittimissimo ingresso dell'open arms all'interno delle acque nazionali a quel punto si applicava tutta la normativa SAR che prevede che appunto lo stato responsabile della zona SAR avrebbe dovuto rilasciare il posto quindi non è un obbligo che proviene dal Tar ma è la conseguenza immediata alla sospensione del Tar ancora se gli effetti del provvedimento del Tar fossero stati soltanto quelli di caldeggiare le singole medie a cui peraltro le autorità italiane avevano provveduto e volevano continuare a provvedere tra l'altro non dipendevano dal ministero dell'interno ma dipendevano dal ministero della sanità e dei trasporti non si capirebbe perché l'imputato provò immediatamente a emettere quello stesso giorno un nuovo decreto di divieto di ingresso e ne si capirebbe perché avrebbe dovuto impugnare così come dichiarato aveva dato mandato all'avvocatura di impugnare quel decreto che si limitava a suggerire condotte che già erano state poste in essere se si trattava di svolgere quelle medevac ma non si capisce qual era il problema era evidente invece che in assenza di ostacoli giuridici all'ingresso in area marittima italiana il ministro Salvini era ben consapevole che non avrebbe più potuto sottrarsi al rilascio del post essendo invece vincolato dalle leggi del mare e che il protrarsi del suo silenzio alle stanze dell'open arms quantomeno a partire dal 14 agosto si traduceva in una illegittima omissione che aveva avuto come immediata conseguenza quella di privare della libertà personale oltre un centinaio di migranti conseguentemente aveva urgenza di riproporre frettolosamente quel decreto o di provare a impugnare tramite l'avvocatura dello Stato la sua sostanziale caducazione perché senza appunto quel provvedimento l'obbligo del post a quel punto dall'obbligo del post a quel punto non si poteva sfuggire con riguardo al secondo punto della motivazione cioè sempre che siamo sulla si ritorna sull'argomento dell'offensività del passaggio della della open arms nulla dobbiamo aggiungere rispetto a quanto abbiamo detto circa l'assoluta insussistenza di qualunque lontano pericolo e comunque l'imputato ben coscio dell'assenza di questi pericoli che non si trattava appunto di tutelare lo Stato da questi gravi pericoli affermato nel suo esame a proposito del perché intendeva riproporre il decreto interdittivo annullato o perché intendeva ricorrere per impugnarlo quando si trattava soltanto di far fronte alle Medevac a cui già lo Stato sin dal se non ricordo male dal 2-3 agosto aveva provveduto quindi prima ancora che la nave entrasse in acqua internazionale dice io ricordo che in quel momento la preoccupazione era questa sentenza del Tar che potesse creare un precedente per altri episodi successivi quindi la ragione di quel divieto ed ergo dell'impugnazione dell'emissione dei nuovi non andava individuata nell'esistenza di pericoli ma nel timore del misero fallimento del decreto sicurezza bis emanato proprio a sostegno della politica dei porti chiusi la quale a quel punto non avrebbe più potuto contare su uno strumento essenziale capace di incidere persino sull'insorgenza stessa dell'obbligo del posto quanto al terzo punto sull'obbligo dello stato di bandiera sappiamo l'abbiamo detto che in un evento sarà lo stato di bandiera non ha in quanto tale alcun obbligo di rilasciare il posto a meno che sia il porto vicino più sicuro ma vediamo ora perché la Spagna rilascia quel posto sono importantissime riguardo le dichiarazioni rese all'udienza del 17 maggio 2024 dell'allora ministro degli esteri italiano Enzo Moavero Milanesi che riferisce di una serie di telefonate intercorso con il collaterale ministro degli esteri spagnolo il quale non riusciva a capire perché la Spagna doveva rilasciare il posto dal punto di vista spagnolo racconta Moavero il ministro degli esteri me lo ha ripetuto ministro degli esteri spagnolo me lo ha ripetuto a più ripresa non c'era dubbio che non esistesse una responsabilità della Spagna in questo stato in quanto stato di bandiera della nave voi siete il paese più vicino sostanzialmente perché devono venire da noi se la competenza ad autorizzare lo sbarco del ministro dell'interno come mai il presidente del consiglio non si impone quindi il ministro degli esteri spagnolo addirittura invocava di fronte a una interpretazione giuridica che non si fondava sul nulla invocava l'intervento del presidente del consiglio affinché richiamasse il proprio ministro dell'interno l'intervento tardivo della Spagna quindi lungi dall'avvalorare le tesi delle giuridiche dell'imputato del tutto nuove si è rivelato essere soltanto un espediente diplomatico per porre fine alla vicenda che col trascorrere del tempo anche mediaticamente era diventata pesante in sostanza la Spagna rilascia o prova a rilasciare perché poi alla fine non si è capito se questo fosse o meno consistente o fattibile soltanto per la pressione mediatica in cui in quel momento si trovava sempre Moavero al riguardo le telefonate per cercare di trovare una soluzione ad una vicenda che aveva lo dice Moavero le telefonate per cercare di trovare una soluzione ad una vicenda che aveva connotati drammatici c'era una preoccupazione del ministro spagnolo sulla vicenda che assumeva anche un rilievo mediatico anche in Spagna altro provvedimento del del ministro è quello del 15 agosto al presidente al procuratore presso il tribunale per i minori di Palermo in cui in sostanza nega anche qui il post ma stavolta in una situazione ben diversa e ben più grave riferita ai minori non accompagnati allora va ricordato che già a partire dai primissimi di agosto se non sbaglio dal 6 di agosto l'elenco dei minori accompagnati era stato già trasmesso al ministero dell'interno l'8 agosto lo ricordiamo vi è la nota del tribunale del presidente del tribunale del procuratore della repubblica presso il tribunale dei minorenni in cui si richiedeva ai tre ministri firmatari del decreto interdittivo quali fossero le loro intenzioni dato che quel predetto divieto interdittivo equivaleva in punto di fatto queste sono le parole dell'autorità giudiziaria minorile equivaleva in punto di fatto ad un respingimento a un deniego di ingresso ad un valico di frontiere vietati dall'articolo eccetera eccetera già una lettera di questo genere fa riflettere la risposta del del ministro dell'interno giunge il 15 d'agosto cioè diversi giorni dopo rispetto ad una puntuale richiesta da parte dell'autorità giudiziaria che aveva la responsabilità di quei minori e quindi già solo per questo è tardiva ma come vedremo viene scritta proprio il giorno 15 non a caso non perché arrivato al giorno 15 il ministro intese dare finalmente risposto trovare il tempo per dare una risposta alla richiesta accorata del tribunale per i minorenni ma perché il 15 d'agosto o meglio il 14 d'agosto i minorenni erano già in acqua nazionale e quindi a quel punto anche un minuto di ritardo rispetto al rilascio del post diventava penalmente rilevante e va detto e quindi decide di dare una giustificazione una parvenza di esistenza di motivazioni giuridiche che gli impedivano suo malgrado per fare un'agitazione non a caso e di rilasciare il post si tratta in realtà di un vero e proprio provvedimento di diniego del post più che una missiva perché è rivolto a quella autorità e anche per i contenuti le motivazioni anche in questo caso sono assolutamente inaccettabili e che si risolvono anche in questo caso in una violazione di legge e anche in vizi di contraddittorietà e illogicità il provvedimento in cui in sostanza si dice che i minori si trovano a 46 miglia del limite dell'acqua territoriale in base in ogni caso in base alla giurisprudenza della Corte alle convenzioni UNCLES eccetera eccetera la competenza delle persone tratte a bordo appartiene allo stato di bandiera ritorniamo sul discorso dello stato di bandiera ora che questo provvedimento sia illogico contraddittorio a dir poco è evidente dal fatto che i minori al 15 di agosto si trovavano da un giorno in acque nazionali quindi la questione dello stato di bandiera era comunque venuta a meno e in ogni caso anche a volere pensare che c'era ancora la giurisdizione dello stato di bandiera l'Italia doveva comunque rispondere ad un altro genere di obblighi da cui non si poteva sottrarre nonostante la responsabilità dello stato di bandiera responsabilità che lo ripetiamo non esisteva perché e qua si individua la manifesta violazione di legge perché l'Italia aveva l'obbligo di rispettare l'articolo 19,1 testo unico immigrazione sul divieto di rispingimento alla frontiera nonché tutte le disposizioni della legge in Zappa che imponevano all'Italia il compimento di una serie di attività propedeutiche alla tutela del minore al suo collocamento in strutture idonee non separate rispetto a quella degli adulti e così via dal momento in cui e questa è la norma di legge l'articolo 19 bis dal momento in cui la presenza del minore straniero sia stata segnalata alle autorità di polizia come qua era avvenuto ai servizi sociali e altri rappresentanti interlocali e all'autorità giudiziaria come qua era avvenuto essendo a conoscenza appunto dello stesso tribunale per i minorenni che decida appunto di assumere quelle iniziative ma per comprendere meglio qual'era la posizione del ministro sul divieto di pos ai minori quelle motivazioni offerte all'autorità giudiziaria vanno integrate con quelle da lui esplicitate al presidente del consiglio conte quello stesso giorno 15 quindi lo stesso giorno della lettera inviata al tribunale per i minorenni 15 agosto lo stesso 15 agosto il ministro scrive al presidente del consiglio il quale il giorno precedente lo aveva invitato ad adottare con urgenza necessari provvedimenti per assicurare l'assistenza e tutela ai minori presenti sull'imbarcazione il ministro Salvini risponde oltre a insistere sull'esistenza della giurisdizione dello stato di bandiera che la direttiva europea numero eccetera eccetera definisce minori e non accompagnati i cittadini di età inferiori cittadini stranieri di età inferiore 18 anni che entrano al territorio degli stati membri senza essere accompagnati senza essere accompagnati di una persona adulta responsabile per essi in base alle leggi o agli usi scrive sempre il ministro Salvini nel caso di specie risulta che i minori abbiano effettuato il tragitto in mare insieme ad altri adulti cui erano stati verosimilmente affidati secondo gli usi inoltre una volta a bordo della nave è il comandante della stessa ad esercitarne legalmente alla custodia per cui non si tratta di minore non accompagnati secondo la definizione giuridica europea ora queste affermazioni suscitano a dir poco vivo stupore perché in un ordinamento nazionale e sovranazionale che è tarato sulla necessità di garantire con tutti i mezzi possibili i soggetti più vulnerabili questa interpretazione non è accettabile andiamo all'affidamento al ministro non risultava da nessuna fonte che quei minori fossero stati affidati in qualche modo a qualcuno degli altri naufraghi ne gli risultava soprattutto e questo è il passaggio più importante se quell'affidamento fosse avvenuto secondo gli usi che i genitori accompagnavano questi minori alla partenza e l'affidavano al vicino di casa se fosse avvenuto appunto in questo abito degli usi in questo ambito precauzionale o se fosse avvenuto in ambito criminale perché lo stesso ministero dell'interno sa benissimo che all'interno e che spesso i migranti sono anche vittime di tratta degli esseri umani quindi se prima non fossero stati svolti accertamenti in questo senso non si poteva minimamente ipotizzare un affidamento giuridicamente rilevante e comunque confortante di quei minori a nessuno di quei passeggeri del resto se l'affidamento importa un'assunzione di responsabilità secondo la stessa normativa richiamata dal ministro io non credo che si possa intravedere nessuna assunzione di responsabilità quando l'affidamento non avviene ad una persona qualsiasi ma avviene ad un naufrago in alto mare che è vulnerabile certamente non quanto il minore non accompagnato ma è comunque una persona vulnerabile incapace di esercitare quella responsabilità nei confronti del minore quanto al concetto di custodia da parte del comandante della nave ho osservato che il concetto di custodia in sé non è idoneo a inglobare quella più articolata posizione di garanzia necessaria per la tutela rafforzata che si intende perseguire del resto la specifica situazione in cui si trovava l'open arms doveva rendere inimmaginabile al ministro che Mark Krauss in quelle condizioni avesse potuto assumere effettivamente la custodia dei minori addirittura di tutti i 27 minori Mark Krauss il quale peraltro secondo lo stesso decreto interdittivo in quel momento stava compiendo un'attività illecita di trasferimento di migranti si da rendere ancora più difficile per il ministro poter ipotizzare la custodia di un minore ad opera di un criminale per giunta durante proprio la perpetrazione del crimine stesso la posizione di assoluto di niego da parte del del ministro dell'interno viene poi ribadita nella missiva del 17 agosto indirizzata al presidente Conte in cui appunto come abbiamo detto ripete le sue condizioni che continuano le sue posizioni che continuano quindi a essere queste anche se suo malgrado non avrebbe più impedito lo sbarco ma che a quel punto diveniva frutto di esclusiva determinazione del 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 capo del capo del governo ora si tratta di come abbiamo avuto modo di sottolineare di argomentazioni che non sono altro che grossolani e spedienti che peraltro prima di allora nessuno aveva mai adottato con riferimento ai minori non accompagnati e che nessun giurista alle prime armi avrebbe mai potuto invocare il ministro evidentemente consapevole di questo assume in dibattimento una posizione diciamo inedita lasciando capire sia a domanda del pubblico ministero che a domanda del presidente che in realtà lo sbarco avviene il 17 perché il 17 finalmente il tribunale per i monorenni nominava i tutori per questi minori ora questa spiegazione non si rivela convincente egli fino allo stesso 17 agosto cioè giorno dello sbarco aveva ribadito l'abbiamo appena detto aveva ribadito fermamente l'assenza delle più basilari condizioni per rilacciare il posto ai minorenni e mai nelle sue lettere e soprattutto quelle in quella di risposta al tribunale dei minorenni per i minorenni ebbe mai a segnalare la mancanza della formale nomina dei tutori come condizione necessaria allo sbarco del resto la nomina del tutore la nomina del tutore non incide non c'è scritto a nessuna parte che possa incidere nell'evento sarre a maggior ragione nella possibilità di sbarco dei minori anzi è lo sbarco che semmai al contrario c'è un rapporto inverso è lo sbarco che provoca la necessità a quel punto non differibile di procedere alla nomina dei minori ora l'insieme di queste riflessioni sulla utilizzo strumentale che viene dato alle norme giuridiche pur di evitare di riconoscere che sussisteva il cogente e urgente obbligo di rilasciare il post ci permette di fare un salto avanti nelle nostre riflessioni e capire e inquadrare al meglio la la condotta dell'imputato e anche la sua consapevolezza dell'illegittimità di questi atti le originali interpretazioni giuridiche del ministro dell'interno si sono rivelate un unicum rispetto alle prassi consolidate la sola novità legislativa era rappresentata dal citato decreto sicurezza bis che però non aveva e concretamente non ha avuto la forza di stravolgere il quadro normativo di fonte primaria eppure neanche di fronte all'intervento del Tare che non fece altro che ricordargli quali fossero le leggi del mare il ministro ritenne di conformarsi alla normativa vigente che l'eccentrica interpretazione della legislazione in materia non fosse addebitabile ad una mera ignoranzia risulta evidente già dal fatto che essa provenisse da un'autorità qualificata che non era tra l'altro la prima volta che si occupava dello sbarco di minori ma l'intenzionalità di quel bizantinismo interpretativo che sconvolgeva ogni certezza del diritto risulta ancora più lampante se si tiene in considerazione quel vero e proprio caos istituzionale a cui quelle inedite posizioni diedero luogo poiché la strategia perseguita fu quella di piegare le norme alla politica dei porti chiusi e non viceversa venne meno l'applicazione delle più basilari disposizioni in materia si da costingere tutte le altre istituzioni ad affrontare soluzioni di fortuna non potendo di certo permettersi di lasciare quei naufraghi senza terra allora eloquente a riguardo è innanzitutto il rifiuto dei ministri Trento e Toninelli che inopinatamente in assenza di rilevanti sopravvenenze si viderono ripresentare la bozza di un nuovo decreto interdittivo sebbene quel primo agosto era stato appena sospesso dal Tar e vi rimando al proposito alle loro dichiarazioni ma particolarmente eloquente è lo stato di enorme difficoltà in cui viene a trovarsi la capitaneria di Porto la guardia costiera in vero a fronte del peggioramento delle condizioni del mare eppur non avendo potuto formalmente assumere il coordinamento dell'operazione di salvataggio perché si trattava di fenomeno di immigrazione clandestina dovette e volle consentire il ridosso dell'open arms presso le coste di Lampedusa queste sono le parole del test di Arda quale ormai unica condizione di sicurezza per evitare tragedie ripeto quale unica condizione di sicurezza per evitare tragedie e ciò perché nonostante l'estrema pericolosità della situazione quel posto continuava a non essere indicato il prefetto Caputo dice sì c'era la preoccupazione che le condizioni meteorologiche potessero porre a repentaglio la vita all'equipaggio in presenza di una difficoltà nell'autorizzare l'attracco della nave lo dice ovviamente in maniera assolutamente prudente ma significa in presenza di una difficoltà nell'autorizzare l'attracco della nave è in assenza della volontà del Ministro di consentire l'attracco della nave e data la drammaticità della situazione MRCC Roma dovette sottolineare nel trasmettere al Ministero dell'Interno l'ennesima richiesta di post dell'Open Arms per quanto attiene questo MRCC non vi sono impedimenti di sorta si prega di far conoscere con ogni ulteriore cortese urgente gli intentimenti di questo NCC in merito alla questione in parola e questo per evidenziare che non si poteva continuare che il Ministero non poteva continuare a sottrarsi all'obbligo il rilascio del post lasciando la guardia costiera con le spalle a muro in enorme difficoltà cosa in effetti sempre in maniera prudente ma comunque riferita dal test ai mancini quando dice insomma la capitaneria di Porto giustamente anche loro avevano le loro esigenze pressavano noi per sapere cosa dovevano fare pressavano noi per sapere cosa dovevano fare perché la guardia costiera sapeva benissimo che a quel punto il post non era più ritardato non è che la guardia costiera si mette facente capo ad un altro ministero si mette a pressare il ministero dell'interno altrettanto è indicativo l'espediente a cui è ricorsa la capitaneria di Porto nel tentativo di trovare una soluzione attraverso le Medevac che sono appunto di competenza ministero salute e ministero infrastrutture e trasporti quando pur consapevole dell'impossibilità di svolgere singole visite di migranti a bordo perché erano ammassate con una Melle del 19 agosto richiedeva la trasmissione di un report medico individuale cioè evidentemente la guardia costiera si augurava che per ciascuno di quei migranti o per la maggior parte di quei migranti venisse indicato uno stato di salute tale in modo da svolgere gli sbarchi individuali seppure non collettivi ma emblematica è la riunione del 15 agosto 2019 del comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica di Agrigento convocata proprio perché in assenza del rilascio del posto le autorità locali si trovarono costrette a far fronte come meglio potevano alla più che fondata previsione che i singoli migranti che avevano la terra di fronte a loro esasperati si sarebbero gettati in mare cosa che poi effettivamente accade adottando misure di contenimento di un grave pericolo per l'incolumità fisica dei singoli e per la sicurezza a bordo del natante generato proprio dalla perdurante omissione del ministro dell'interno una riunione dunque riguardante non le ordinarie questioni connesse allo sbarco ma quelle ben più gravi connesse al mancato sbarco e cioè parole di Caputo portare soccorso a chi si fosse buttato in mare e in effetti diverse persone si lanciarono in acque fino a mettere in crisi gli stessi apparati istituzionali che non potevano far fronte a quelle emergenze tringali sì poi dalla nove e mezza in poi fu un susseguirsi di migranti che si buttavano in mare tanto che mandammo quasi tutte le nostre motovedette con gli operatori specializzati per recuperare i migranti che erano stremati e non riuscivano più a notare e nemmeno erano collaborativi perché non volevano essere soccorsi cioè volevano ritornare a nuoto a terra perché avevano la paura che riportati nell'open arms riprendessero quello stato di restrizione cioè io non trovo assolutamente normale che le istituzioni vengano messe così in ginocchio abbiamo mandammo quasi tutte le nostre motovedette cioè di fronte a un rifiuto che non trova alcuna ragione giuridica ma ancora più importante è lo sbarco quello che avvenne per lo sbarco dei minori oltre alla nota dell'8 agosto del presidente e procuratore presso il tribunale minorenni il cui testo è emblematico della gravità urgenza della situazione anche la deposizione del ministro della difesa 30 conferma l'agitazione dello stesso governo manifestata già prima dell'annullamento dell'annullamento del tar per il fatto che l'odierno imputato non si stava preoccupando nonostante la sollicitazione dell'autorità giudiziana minorile del tema tanto delicato dei minori ho cercato di interloquire con tutti siamo prima della sospensione ho cercato di interloquire con tutti perché dal momento stesso in cui ho ricevuto informazione da parte del tribunale dei minori dell'esistenza a bordo di molti minori mi sono preoccupata soprattutto per loro e dopo e dopo e questo è importante e dopo non essere riuscita a parlare con il ministro Salvini ho parlato comunque con Di Maio con Toninelli e con Conte dicendo che avevo deciso e siamo al di fuori delle regole ma bisognava trovare mezzi di fortuna dicendo che avevo deciso di inviare di chiedere al capo di stato maggiore della difesa di dare l'ordine alla marina di intervenire per poter effettuare il trasbordo dei minori questa è una cosa che doveva essere fatta molto velocemente perché il mare era forza 4 in quel momento e tendeva a crescere quindi operammo in questo senso poi in realtà il mare è diventato troppo grande per poter effettuare il trasbordo per cui le navi seguirono l'open arms pronte ad intervenire anche in una situazione che non era più una situazione di sicurezza anche la guardia costiera con riferimento ai minori ritenne di dover rappresentare la propria distanza rispetto alla posizione assunta dal ministero dell'interno con riferimento ai minori in vero già all'1.03 del 16 agosto scriveva una mail al gabinetto del ministro e la scriveva a tutte in stampatello quasi a voler rappresentare la gravità e l'urgenza della situazione e in cui si diceva pregasi far conoscere con la massima cortese urgenza circa l'assegnazione del posto eccetera eccetera parimenti si richiede altresì di far conoscere le eventuali disposizioni circa lo sbarco dei 31 minori ancora presenti a bordo della nave in parola non era compito della guardia di finanza dire al ministero che cosa avrebbe dovuto fare il ministero era a conoscenza che c'erano i minori non accompagnati a bordo ancora l'indomani 17 agosto sempre la guardia costiera rispondendo al garante per l'infanzia e l'adolescenza ancora prendeva le distanze e rappresentava non solo che le cinque richieste di poste erano state tempestivamente inoltrate dicendo testualmente senza al momento ricevere alcun riscontro ma anche che i mezzi il personale della guardia costiera presenti sull'ampedusa sono pronti a procedere al trasferimento dei 28 minori non accompagnati sull'isola non ravvisando per quanto di competenza alcun impedimento a tale operazione quanto sopra previa autorizzazione allo sbarco da parte della competente autorità pubblica di sicurezza pure lo stesso dipartimento per le libertà civile e le immigrazioni non poteva che assumere la stessa posizione e rispondeva allo stesso modo all'autorità garante nella nota del 16 agosto del prefetto Daniele Parisi inviata per conoscenza al gabinetto del ministro all'interno si rappresentava che per quanto di competenza di quel dipartimento si era tempestivamente provveduta ad organizzare le necessarie misure di accoglienza previste dalle normative vigenti ma che sarebbero state attivate solo al momento dell'autorizzazione allo sbarco altra rilevante testimonianza della perdita della bussola delle regole e lo scambio di corrispondenza intercorso in quei giorni del presidente del consiglio e il ministro dell'interno poiché il primo si trovò costretto a scrivere più volte all'imputato sia prima che dopo l'arrivo in acqua internazionale della nave ricordandogli la portata della normativa in vigore e ribadendogli con forza la necessità di autorizzare lo sbarco immediato dei minori ma questo disordine istituzionale originato dal protrarsi dell'illegittimo diniego del posto riguardò lo stesso ministero dell'interno per l'intenso susseguirsi di interlocuzioni tra IMRCC e NCC sia a causa delle perplessità manifestate all'interno dello stesso personale del gabinetto del ministero dell'interno che non riusciva più a controllare la situazione e non sapeva più che scuse riferire a sostegno di quel ritardo a tal proposito rinvio alle dichiarazioni di Mancini e Martello e di Garroni anche lo stesso governo venne travolto dalla posizione assunta dal ministro all'interno oltre a quanto riferito dal ministro Trenta in merito ai minori che la portò ad assumere iniziative extra ordinem il test di Maio anche lui vice premier in quel momento ha ricordato che all'epoca dei fatti c'erano riunioni informali politiche per affrontare non riunioni informali politiche ma riunioni informali politiche per affrontare la decisione del ministro Salvini che aveva negato il post perché lo metteva in difficoltà l'intero governo anche nei confronti della comunità internazionale e poi allora c'è stata anche la questione dei minori che è stata oggetto di dibattito decisioni queste cioè quelle sul diniego del post che lo stesso governo lo ricordava di Maio ma non solo lui apprendeva dai giornali questo conferma poi anche dell'assenza di ogni condivisione governativa nel diniego del post a tale ultimo proposito altrettanto inedito si è rivelato il rilascio del post da parte della Spagna oggettivamente insensato e contrario alla miriade di norme che prevedono la vicinanza del porto di sbarco e l'agevolazione delle navi soccorritrici per completare le operazioni post della Spagna a cui si è pervenuti solo dopo una serie di lunghe interlocuzioni tra i ministri degli esteri italiani e spagnoli nonostante quello Stato si ritenesse incompetente quello Stato si riteneva incompetente e quindi finì per rinunciare alla propria posizione per non dire alla propria sovranità a causa della drammaticità di quella situazione e della relativa pressione mediatica Moavero le telefonate per cercare di trovare una soluzione a una vicenda che va con notati drammatici c'era una preoccupazione l'avevo letta c'era una preoccupazione del ministro spagnolo sulla vicenda che assumeva anche un rilevo mediatico per la Spagna ma pure inedita è la previsione di una scorta della guardia costiera italiana per condurre i migranti dell'open arms in Spagna non trattandosi in questo caso del mero trasporto ai fini della ricollocazione dei naufraghi ma di soggetti rispetto ai quali il ministro dell'interno aveva declinato ogni competenza quindi che cosa centrava la guardia costiera che si doveva affrontare questo viaggio fino alla Spagna cioè siamo completamente fuori dalle regole lo stesso ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato lo avevamo letto prima ma perdiamo soltanto un secondo per ribadirlo accompagnare una nave ONG a centinaia a chilometri di navigazione attraverso un'embarcazione la guardia di finanza non è un'anomalia di più non può essere intesa come una fattispecie ordinaria quella di cui stiamo parlando e io l'ho semplicemente fatto perché ha dato poi l'ok al mi suggeriscono ha dato il suo assenso all'utilizzo della guardia costiera per questa attività diciamo di scorta l'ho semplicemente fatto perché il Viminale non stava nonostante le richieste a prendere un post in territorio italiano ma anche a livello e questo è anche eh ugualmente grave anche a livello di equilibri internazionali la posizione del ministro Salvini creò una particolare agitazione come riferito ancora dal testemuavero il quale peraltro non esitava a informare l'imputato di questa agitazione e a richiamarlo all'osservanza delle convenzioni internazionali ci sono state riporto le parole del ministro ci sono state prese di posizione alcune di carattere più formale ricordo da parte delle Nazioni Unite e Ginevra ci sono state prese di posizione a carattere verbale nel corso di riunioni presso il ministero della Farnesina con il rappresentante delle Nazioni Unite per i rifugiati con il rappresentante delle Nazioni Unite per le migrazioni esprimevano preoccupazione su quanto accadeva in generale nel Mediterraneo e naturalmente nei vari casi specifici che si sono verificati conclude Moavero faceva parte del mio dovere informare un collega di governo cioè il ministro Salvini di questo tipo di situazioni di lamentele di preoccupazioni e anche richiamando quello che a me sembrava a noi del ministero degli esteri sembrava essere il dettato delle convenzioni internazionali in sostanza e in ultima analisi le norme per come invocate e interpretate a sostegno dell'assenza di un obbligo italiano al rilascio del posto consegnano plasticamente la figura di un ministro dell'interno che procede in direzione opposta rispetto a tutte le altre istituzioni interne e internazionali scomponendo il complessivo puzzle ordinamentale e democratico che è così privato di una delle sue tessere fondamentali cioè la tutela dei diritti dell'uomo perdeva la sua stessa identità questo è un pezzo più lunghetto quando il presidente mi dice mi fermo possiamo proseguire un altro po' oppure quanto ritiene che ci sia ancora per completare la requisitoria per completare il presidente un'ora no anche di più un'ora un'ora un quarto andiamo avanti a meno che non abbia bisogno lei di fermarsi glielo chiedo più avanti grazie va bene dobbiamo chiederci adesso se per caso in quella fattispecie sussistessero elementi che potessero giustificare il ritardo nel nel rilascio del del post e questa domanda diventa quasi obbligatoria perché a un certo punto e anche questa è una posizione inedita il ministro nel corso del suo esame ha precisato che comunque avrebbe rilasciato il post nelle ore o nei giorni successivi al 20 agosto quando i migranti sbarcarono in virtù di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e anche perché ha specificato sempre che l'ipotizzato sequestro da parte dell'autorità giudiziaria altro non era che una modalità operativa stabilita nel corso del tavolo tecnico e con la direttiva per ottenere la ridistribuzione dei migranti è il tema su cui ci soffermeremo diversi sono gli elementi che almeno Presidente facciamo una pausa 5 minuti se non le dispiace abbiamo cambiato idea anche per fare regolare la temperatura dell'aula ok grazie prima dell'interruzione stavamo trattando della possibile sussistenza di elementi che consentissero il ritardo nel rilascio del post anche perché appunto dicevamo che lo stesso ministro Salvini ha poi dichiarato durante l'esame dibattimentale che comunque avrebbe rilasciato il post vediamo dalla deposizione della della la morgese anche la ministro dell'interno nel governo conte due emergono alcuni elementi che si possono considerare ai fini e che possono incidere in qualche modo sul rilascio del post come per esempio la disponibilità o meno di hotspot cioè di centri dove accogliere i migranti la questione della ridistribuzione è la questione se comunque è al di là dell'assenza di hotspot o di ridistribuzione ma su questo in questo momento parlo in maniera imprecisa perché è un argomento molto importante su cui ci soffermeremo se comunque in questi momenti di attesa una nave soccorritrice può o meno considerarsi post temporanea sulla vicenda degli hotspot io rinvio semplicemente alla memoria perché innanzitutto nemmeno l'imputato ha detto che la mancanza di centri d'accoglienza potesse incidere avesse inciso nel fatto che non venne rilasciato tempestivamente il post all'open arms e del resto nel nostro caso da diverse dichiarazioni come i testi di raci questione di agrigento il testo caputo il prefetto di agrigento hanno evidenziato che in quel momento ci fossero problemi di accoglienza per l'ottospot di Lampedusa semmai pare rilevante dire che quando appunto la nave si porta e si trova in porto e l'ottospot è libero non vi sono ragioni di sorta che impediscano di fare sbarcare i naufraghi la domanda infatti posta dalla parte civile ma se l'ottospot è vuoto si devono aspettare alla testa la morgese se l'ottospot è vuoto si devono aspettare il ricollocamento si devono fare sbarcare subito guardi queste sono regole che sono scritte quindi secondo me in questo caso se l'ottospot è vuoto potevano scendere e poi fare la ricollocazione a livello europeo domanda potevano o dovevano se erano in sarra italiana in base a quello che sono le norme salvo che non ci sono problemi di ordine pubblico specifico e allora in quel caso dovevano farli scendere questione di maggiore rilievo è quella inerente la redistribuzione perché l'abbiamo detto all'inizio faceva parte di un progetto politico condiviso quello di coinvolgere maggiormente l'Europa nella collocazione fisica dei migranti e perché appunto lo stesso tavolo tecnico abbiamo fatto riferimento del 2019 prevedeva appunto che durante prevedeva nella procedura del rilascio del posto la possibilità di temporeggiare in in attesa della della redistribuzione europea purché però richiamando la normativa nazionale la nave fosse idonea ad ospitare ad ospitare in maniera sia sicura sia dal punto di vista della tutela dei diritti umani i migranti infatti si dice nel tavolo tecnico valutata preliminarmente la capacità dell'unità medesima cioè riferito alla nave ora in relazione a tale progetto del governo Conteuna vennero avviate diverse interlocuzioni sul piano europeo interlocuzioni e questo è importante sottolinearlo che svolgeva direttamente il presidente del consiglio Conte come dallo stesso dichiarato qua in dibattimento e come confermato anche dal dal test Moavero quindi le interlocuzioni le gestiva il presidente Conte altra cosa che si è accertata con riferimento alla redistribuzione è che avveniva su basse volontarie non si è arrivato a concepire una norma che vincolasse gli stati membri a ospitare i migranti però come ha riferito il test di Maio al momento dei fatti quegli accordi di ridistribuzione erano sempre più avanzati e quindi era un meccanismo che in qualche modo si era consolidato in quel momento il test di Maio dice stiamo parlando di oltre un anno dopo la formazione di quel governo e sicuramente era consolidata la prassi per cui diversi paesi aderivano alle redistribuzioni voglio ricordare che la redistribuzione non era immediata avveniva addirittura per l'equivalente quindi in ogni caso anche quando i paesi aderivano non è che lo sbarco prevedesse uso diciamo forse un'espressione superficiale un pullman targato paese europeo che li prendeva e li portava via c'era un impegno un impegno politico di alcuni paesi il completamento della procedura di redistribuzione non escludo che sia avvenuto anche un anno dopo a volte quindi questo era il quadro della redistribuzione si è anche parlato che il tentativo l'interesse dello Stato italiano era quello di ottenere una redistribuzione exante che significa redistribuzione exante nel senso che avveniva come dice lo stesso Ministro Salvini prima l'accordo e poi lo sbarco in Italia ma non significava non significava assolutamente che fosse previsto l'assenza dello sbarco in Italia nel senso che nel corso di queste trattative a livello europeo poi la nave veniva condotta direttamente quindi senza passare al sole italiano veniva condotta direttamente negli altri paesi ma anche questa della redistribuzione exante cioè di raccogliere immagini in tempi brevi la disponibilità degli altri paesi a raccogliere i migranti prima che questi sbarcassero sul suolo italiano era diciamo un'aspirazione del nostro governo così come confermatoci dai testi Moavero ma anche dal test Massari di cui abbiamo acquisito il verbale di non l'abbiamo sentito nell'udienza abbiamo acquisito il verbale delle sue dichiarazioni rese innalza al gruppo di Catania quindi nessun impegno formale né nessuna norma era stata prodotta che potesse incidere su invece una procedura che è normata che è quella appunto del rilascio del post tant'è che non era previsto alcuna come dire propedeuticità dell'accordo redistributivo rispetto alla concessione del post e del resto se così non fosse stato diciamo quell'insistenza poteva anche rivestire seppure latamente i connotati estorsivi nei confronti dei paesi europei e del resto così ci conferma il presidente Conte non c'era nessuna pregiudizialità di questo tipo assolutamente né io l'ho mai posta né pubblicamente né internamente così anche lo stesso Massari era un'azione politica di sprone di impulso di chiamata alle responsabilità tenendo presente che i salvataggi in mare sono un obbligo internazionale al quale l'Italia ottempera la stessa cosa l'ha affermato il ministro Lamorgese non c'è stato un collegamento stretto tra dare posse e avere contemporane anche i numeri di relocation da parte di altri paesi la stessa cosa dice il ministro Di Maio anche da un punto di vista politico dice non c'era nessun automatismo politico in questo senso quindi il rilascio del post rimane del tutto estraneo rispetto l'accordo distributivo rimane del tutto estraneo rispetto alla procedura del rilascio del post potrebbe essere diversamente trattandosi appunto di accordi addirittura di tentativi di accordi che non hanno a che fare che non possono ovviamente modificare la normativa e in effetti anche la posizione dell'imputato durante il suo esame è esattamente sulla linea sulla stessa linea dei testi che ho appena citato dice infatti anche egli ha evidenziato che il meccanismo della redistribuzione ex ante era comunque un meccanismo aleatorio perché poi non contando su automatismi non si poteva per ottenere a monte la disponibilità agli altri paesi non si aveva poi la possibilità di esigere il rispetto degli impegni eventualmente assunti dice il Ministro Salvini la redistribuzione che peraltro non sempre veniva non sempre gli impegni presi telefonicamente ovviamente venivano mantenuti non era infrequente il caso in cui un paese straniero si impegnava per un certo tipo di ospitalità e poi non lo faceva in ogni caso nonostante gli intervenuti impegni di ricollocazione assunti prima dello sbarco sempre secondo Salvini i migranti arrivavano su suolo italiano comunque e forse soltanto in occasione per quello che erano i suoi ricordi e la collocazione ex ante aveva evitato l'arrivo in Italia per casi antecedenti pubblico ministero per casi antecedenti all'open arms ci sono stati episodi in cui la redistribuzione avvenisse direttamente eccessivamente del preventivo sbarco dei migranti in Italia cioè dalla nave su cui erano stati soccorsi davano direttamente nei paesi disposti ad accoglierli Salvini quello accadde nel caso Aquarius non ricordo se accadde ma se accadde accadde raramente quindi certamente non si aspettava che la redistribuzione ex ante portasse allo sbarco anche questo per il ministro Salvini portasse direttamente allo sbarco negli altri paesi europei quanto ai tempi necessari e questo è importante in epoca antecedente allo sbarco per ottenere la disponibilità degli altri stati ad accogliere i migranti l'imputato ha precisato che certamente trascorrevano alcuni giorni noi cominciavamo subito quando c'era un ingresso nelle acque italiane in alcuni casi si riusciva in pochi giorni in altri casi servivano più giorni eccetera eccetera con riguardo agli eventuali tempi massimi che il ministero dell'interno era disposto ad attendere per esitare le domande di post durante la trattativa degli altri paesi l'imputato ha correttamente evidenziato che fatto salvo che lo sbarco c'è sempre stato comunque imposto e disposto subito lo sbarco comunque c'è sempre stato il tempo doveva essere ovviamente umanamente e anche politicamente e mediaticamente contenuto perché poi la pressione e anche i rischi di salute ovviamente aumentano queste sono le parole rese dal ministro Salvini nel corso del suo esame in sostanza anche per l'imputato l'accordo di ricollocazione fino allora inidone ad evitare lo sbarco in Italia tramite il diretto trasferimento dei migranti nello stato di accoglienza non incideva sull'obbligo di rilascio del post infatti dice lo sbarco c'è sempre stato ma poteva influire sui tempi di rilascio che erano di qualche giorno almeno per il governo Conte 1 che però dovevano restare contenuti a salvaguardia della salute dei migranti e a tal proposito vale la pena specificare che il tempo ragionevole previsto dalla normativa nazionale per il rilascio del post traducibile appunto nello stesso tempo contenuto a cui si ispirava lo stesso ministro Salvini significa l'evidenza che la postergazione dell'indicazione del posto sicuro in vista delle trattative europee doveva tenere conto della situazione concreta e in particolare delle condizioni della nave soccorritrice e dei naufraghi a bordo dunque si trattava di un sistema chiaro anche per l'imputato ora se il sistema della ridistribuzione appunto quello che abbiamo illustrato emerge che nel caso dell'open arma non c'era la ridistribuzione innanzitutto non aveva potere giuridico di entrare a far parte della concessione del posto ma non era nemmeno fattibile oggettivamente quel ritardo e poiché si trattava di una situazione drammatica lo ha sottolineato lo stesso ministro Moavero e l'open arms non poteva definirsi un post temporaneo sulla capacità dell'open arms di essere post temporaneo ci sono stati diversi testi non sono quelli che hanno testimoniato la grave situazione a bordo per non parlare dei migranti che a un certo punto hanno cominciato a lanciarsi in acqua ma anche alcuni testi con precise competenze tecniche che dicevano che quella nave abilitata per 19 persone non poteva considerarsi assolutamente post temporaneo questo non significa che l'open arms essendo omologata per 19 persone non avrebbe potuto compiere l'attività di salvataggio perché come diceva anche la ministra Lamorgese nelle sue dichiarazioni rese a Catania che abbiamo acquisito agli atti quando c'è un'operazione di soccorso o il soccorso può avvenire anche con una zattera una cosa è il soccorso e un'altra cosa è la capacità poi di una nave di garantire situazioni di vivibilità per i migranti a bordo del resto quel ritardo in attesa della redistribuzione era inutile perché comunque lo sbarco non sarebbe ugualmente avvenuto in Italia Di Maio dice che addirittura i migranti venivano redistribuiti per equivalente o addirittura un anno dopo quindi non c'era motivo alcuno ancora per teborreggiare nei confronti dell'Open Arms in attesa della restribuzione ma soprattutto la cosa più rilevante della nostra vicenda è che a un certo punto la redistribuzione era comunque avvenuta e nonostante la redistribuzione fosse già stata realizzata il Ministro dell'Interno ha continuato a negare il POS evidentemente che a questo punto risulta in maniera chiara e lampante scollegato il diniego risulta completamente scollegato dalla redistribuzione allora l'ingiustificabilità di quel temporeggiare alla luce dello svolgimento di accordi di ricollocamento in sede europea diventa ancora più evidente se si considera che tale obiettivo di condivisione dell'accoglienza dei migranti era stato raggiunto così come formalmente veniva comunicato all'imputato con la lettera del 16 agosto a lui indirizzata dal Presidente Conte il quale dava atto che diversi paesi e li indicava singolarmente erano disponibili a condividere queste sono le parole scritte dal Presidente Conte erano disponibili a condividere gli oneri di ospitalità non solo ma all'epoca come affermato dal testo di Maio si era riuscita a sensibilizzare le altre nazioni sicché non occorrevano più non occorrevano più posizioni di forza questo è sempre Di Maio sicuramente un anno dopo si era si era andato consolidando un meccanismo a livello europeo che era figlio proprio dell'azione politica di quel governo quindi non si capiva più il perché si dovesse in qualche modo agire in quel modo sapevamo che c'erano dei paesi disponibili a prendere una parte di quei migranti domanda quando dice non si capiva perché agire in quel modo perché agire in quel modo esattamente a quale comportamento a quale decisione del Ministro Salvini fa riferimento di Maio negare il POS e negarlo così a lungo e poi allora c'è stata la questione che è stata anche oggetto di ribattito eppure quindi nemmeno l'ampia realizzazione del progetto di ricollocamento fece ritenere al Ministro degli Interni che fosse venuto meno qualche ostacolo di natura politica ma non certo giuridica perché dal punto di vista giuridico lo ribadiamo non c'erano ostacoli al rilascio del POS che invece continuò a omettere di rilasciare palese sintomo questo che le ragioni dell'inadempimento del proprio dovere non vanno certamente ricercate nel sostegno al disegno politico governativo di ottenere una maggiore solidarietà europea l'obiettivo era raggiunto ma al destro si rivela a questo proposito il tentativo dell'imputato in udienza nel corso del sesame di dire che in realtà la questione europea non era risolto domanda del pubblico ministero ora di fronte a questa manifestazione di disponibilità che la comunicava il presidente del consiglio in data 16 agosto lei ha intervisto riscontrato ulteriori ostacoli al rilascio del POS ma noi stavamo noi stavamo lavorando alla redistribuzione al 16 agosto non si era concluso assolutamente nessun tipo di accordo tanto che io ho una mail del 21 agosto e poi dice un'altra mail del 22 agosto da cui insomma si ricaverebbe che gli accordi erano ancora in corso di realizzazione ora questa posizione non ci pare assolutamente convincente posto che intanto i contatti con gli altri stati non erano di competenza del ministero dell'interno l'abbiamo detto all'inizio riguardavano il presidente del consiglio il quale si assunse la responsabilità di dire che quegli accordi erano avvenuti e lo scrisse nero su bianco nel ministro dell'interno si fece parte dirigente per andare a sollecitare il presidente del consiglio per sapere a che punto erano a che punto fossero gli accordi in ambito europeo in modo da poter rilasciare quel posto come confermato dal presidente Conte nel corso dell'esame il quale dice io non ricordo di essere stato investito da una sollecitazione del viminale del resto l'eventuale prova di non veridicità delle rassicurazioni che offerte dal capo del governo sarebbe giunta a conoscenza il ministro Salvini con quelle due mail una del 21 e una del 22 agosto mail che all'evidenza sono successivi allo sbarco avvenuto il 20 a dimostrazione dunque del fatto che quantomeno dal 16 al 20 agosto cioè dal 16 il giorno della rassicurazione da parte del presidente del consiglio al 20 dove poi avvenne lo sbarco per in assenza di un provvedimento amministrativo e quindi quantomeno dal 16 al 20 agosto avrebbe potuto indicare il post salvo poi scoprire che taluni paesi non erano effettivamente disponibili all'accoglienza del resto l'imputato sapeva benissimo che la questione europea che era basata sulla volontarietà non poteva essere definitivamente risolta in quel preciso momento cioè doveva risolvere quella vexata question in quel momento proprio attraverso l'open arms che non tollerava più strumentalizzazioni di sorta essendo giunta come abbiamo detto prima ad un punto di non ritorno ma l'imputato sapeva benissimo anche che la suddetta questione non poteva e non doveva essere risolta dalla singola persona del ministro dell'interno autonomamente rispetto al presidente del consiglio che si era assunto l'incarico di trattare con gli altri paesi sul posto temporaneo non mi soffermo oltre e andiamo alla presunta volontà a questo punto del del ministro dell'interno di rilasciare il posto come evidenziato nel dibattimento e lo ha detto a dimostrazione che il suo di fatto non si trattava di un diniego ma di un legittimo differimento essendo quel sequestro dice lui una modalità operativa di quel tavolo tecnico come ha precisato nelle dichiarazioni spontanee ora la posizione di volere rilasciare di volere rilasciare quel posto seppure in un successivo momento è smentita da tutti gli atti da lui provenienti che abbiamo analizzato e comunque dall'avvenuta redistribuzione una volta che era avvenuta l'accordo di redistribuzione non si capisce qual altro motivo poteva residuare al rilascio del posto del fatto che non volesse del posto il fatto che non volesse rilasciare il posto emerge anche da fonti dello stesso ministero dell'interno sentiti in dibattimento come Mancini e Garroni alle cui deposizioni rinviamo Garroni addirittura precisava che molti all'interno del ministero invece erano convinti che come avveniva in passato che il post andava rilasciato ed è comunque smentita questa sua volontà da una serie di post che abbiamo e di sue dichiarazioni rilasciate alla stampa che abbiamo acquisito agli atti del dibattimento sul divieto di sbarca all'open arms siamo soli contro tutti contro NG tribunale Europa e ministri impauriti gli italiani hanno bisogno di un governo forte non è ammessa timidezza quando sono in gioco la sicurezza e i confini della patria continuo e continuerò a negare lo sbarco a chi pretende di portare i clandestini sempre e solo in Italia finché sarò ministro non autorizzerò mezzo sbarco ed è poi proprio del 20 agosto quella diretta di cui abbiamo parlato all'inizio quella diretta facebook fatta subito dopo o in contemporanea all'intervento della procura di Agrigento in cui prende molto le distanze dallo sbarco del resto quindi non si capisce da dove viene non c'è traccia di questa sua volontà di aspettare qualcosa e in che cosa consiste questo qualcosa non è dato sapere che in base a cui avrebbe dopo il 20 agosto rilasciato il post rilascio che avviene dopo il 20 agosto in ogni caso sarebbe stato tardivo rispetto ai tempi ragionevili che indica la legislazione internazionale per il rilascio del post definiti dallo stesso ministro Salvino tempi contenuti in relazione allo stato di salute e tutte le altre circostanze quindi un rilascio del post qualora questa fosse stata l'intenzione dopo il 20 agosto sarebbe stato tardivo perché abbiamo visto che diversi migranti si stavano lanciando in mare abbiamo escluso dunque che ci potessero essere elementi di fatto elementi di diritto che esonerassero il ministro dal rilascio del post e anche elementi che gli consentissero di postergarlo a dopo il 20 di agosto vediamo ora in positivo se sussistevano elementi che obbligassero il ministro a rilasciarlo e a rilasciarlo quando ora la vicenda si può scomporre in tre segmenti temporali quella dall'uno già tutti ripercorsi nel corso della nostra discussione quella la prima va dall'uno al tredici agosto rinviamo a riguardo alla memoria però diciamo che in questa fascia temporale già come anche del resto sottolineato dal tribunale dei ministri vi era la possibilità dello Stato italiano di rilasciare il posto in quanto Stato di primo contatto in quanto aveva manifestato con il decreto interdittivo un esercizio della giurisdizione che secondo la giurisprudenza europea comunque poi portava lo Stato ad occuparsi in contemporanea dei diritti fondamentali dei soggetti a cui quel divieto era rivolto e comunque in relazione al fatto che non poteva essere applicato il decreto interdittivo seppure ancora non sospeso perché si riferiva perché appunto ci trovavamo di fronte a una situazione di salvataggio quello che il Tribunale dei Ministri dice che in questo momento si è vero che lo Stato italiano era già nelle condizioni di dover rilasciare il posto però non si palesa fino al 14 agosto l'esclusiva responsabilità dell'Italia e quindi per queste ragioni il tempo del commesso reato decorre appunto a far data dal 14 agosto però questi eventi precedenti dall'1 al 13 agosto sono comunque rilevanti perché dimostrano che si trattava di una vicenda drammatica i cui contorni erano conosciuti fin dall'origine dal governo italiano prima ancora dell'arrivo in acque nazionali e che fin dall'origine invece si era stata assunta a una posizione di assoluta chiusura una posizione di assoluta diniego non possibilista sganciata poi dal susseguirsi degli eventi quindi nemmeno il fatto che l'Italia era nell'amore divenuta stato di primo contatto per quanto riguarda invece il secondo segmento che più ci interessa che è quello del 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 14 di agosto va analizzato comunque alla luce di quello che accadde il 13 agosto perché era già in grado di preannunciare i profili di emergenza che si sono poi manifestati appieno nella data del 14 il 13 a causa delle indicazioni meteorologiche sul significativo feggioramento alle condizioni del mare previsto per le prossime ore la ONG già nelle prime ore del mattino chiedeva un ridosso per ottenere un riparo richiesta rivolta in primis a Malta che la rifiutava e poi perfino alla Tunisia che invece omise di rispondere sempre il 13 agosto il medico Alessandro di Benedetto salito a bordo offriva due importantissimi elementi di valutazione il primo riguardante lo stato generale dei migranti che tanto che riferiva che c'era il rischio di perdere il controllo della situazione queste sono le sue parole nonché il secondo rischio riguardava le condizioni del mare che erano proibitive e che lo portarono a lasciare presso la nave e condizioni che tra l'altro impedirono ad un elicottero di portare a termine un'evacuazione medica la grave situazione portava poi l'open arms a partire dal pomeriggio del 14 agosto a richiedere ripetutamente il posto sia a Malta che all'Italia alle 21.17 Malta chiudeva i rapporti con l'ONG gentile signora Montes riferimento alla sua richiesta si prega di notare che Malta non fornirà un posto per lo sbarco sicché un minuto dopo un minuto dopo 21.18 l'open arms torna a chiedere il posto all'Italia specificando la chiusura netta da parte dell'autorità maltese quindi dal definitivo esimersi di Malta dunque alle 21.18 del 14 agosto lo Stato italiano rimaneva l'unico responsabile di quell'evento SAR e l'unico responsabile per il rilascio del posto ma se ciò non bastasse dopo la richiesta di posto delle 21.18 si verificano due fatti di fondamentale importanza il primo è la sospensione all'arrivo del provvedimento di sospensione del Terlazio con l'ingresso in acque nazionali dell'open arms che scrive a MRCC dicendo trasmette il provvedimento del Terlazio e scrive dicendo annunciando la nostra nave si sta dirigendo nelle acque territoriali italiane per poter cercare il rifugio dalle avverse condizioni meteo e procedere alle relative richieste per la salvaguardia la sicurezza e la salute delle persone a bordo quindi abbiamo sospensione del decreto e ingresso in acque nazionali altro fatto che si aggiunge a questo è il cosiddetto quarto evento SAR così definito dal Tribunale dei Ministri perché in quel momento le condizioni del mare si aggravano e e che si trattasse di un ulteriore evento SAR è dimostrato dal fatto che la guardia costiera pur non potendo assumere formalmente la gestione dell'evento fece comunque l'impossibile per garantire il ridosso e ciò fece a partire dalla concessione appunto del ridosso a Lampedusa nella notte tra il 14 e il 15 agosto essendo in presenza di una difficoltà essendo appunto come avevamo detto prima l'unica condizione di sicurezza per evitare tragedie e persino i soccorritori avevano difficoltà a soccorrere nemmeno un mezzo della guardia costiera riuscì ad avvicinarsi all'open arms perché si metteva a rischio la sicurezza queste sono le parole di Tringari si metteva a rischio la sicurezza anche dei ragazzi della motovedetta e rinvia a tutte le altre deposizioni in tal senso i giorni successivi siamo al terzo seguimento della vicenda 15-20 agosto mettono ancora più in risalto la necessità di quel post infatti quei giorni furono caratterizzati da una situazione concreta a bordo della nave che era sensibilmente peggiorata e da alcuni migranti che iniziarono a lanciarsi in mare a tal proposito l'imputato nel tentacitivo di giustificare l'inerzia a domanda del presidente ha riferito che la situazione per lui non era a rischio che era continuamente rassicurato in tal senso e escludeva però questo è importante urgenze sanitarie dei singoli migranti quindi senza avere in considerazione il complesso della nave il complesso dei migranti e soprattutto senza tenere in considerazione al di là delle esigenze di natura medica la privazione della libertà personale di quelle persone che erano a bordo né in questo seguimento la la sopraggiunta indicazione del POS da parte della Spagna poteva sentire far sentire sollevato il ministro a partire dal quantomeno a partire al 18 agosto dall'obbligo di rilasciare il POS obbligo a cui a quella data come abbiamo visto il cui inadempimento a quella data si era abbondantemente maturato d'altra parte quando le trattative con la Spagna erano ancora in corso e sussisteva riguardo a una situazione di incertezza quando ancora non si capiva quale POS la Spagna volesse più che potesse concedere l'indomani 19 agosto senza attendere quindi la definizione della questione spagnola il ministro per la prima volta come visto rispondeva con un diniego alle richieste ripetute di POS allora in sostanza la sintesi dei fatti evidenziati dimostra che l'imputato pur a conoscenza sin dal 1 agosto dell'operazione di soccorso intraprese dall'open arms sin dal 6 agosto della presenza a bordo dei minorenni non accompagnati sin dai giorni immediatamente successive delle traversie della nave e dei suoi passeggeri sin dal 14 agosto del legittimo arrivo della ONG in acque nazionali e delle numerose richieste di post avanzato e sin dal 15 agosto dal precipitare della situazione dei migranti che si lasciavano in mare non ritenne mai di intervenire anche solo per negare il POS e si da consentire a quel natante di dirigersi altrove qualora ciò gli fosse stato possibile così come l'open arms si fece a fronte dei reiterati e netti rifiuti di malta solo il 15 agosto negò il POS per i minorenni e solo il 19 per gli adulti allora quell'omissione si concretizzò effettivamente a partire dal 14 agosto essendosi già prospettate tutte le condizioni che lo obbligavano a provvedere e per di più in senso positivo condizioni che peraltro non si erano palesate all'improvviso essendo a conoscenza di tutti gli eventi accaduti dall'1 al 13 agosto per quanto riguarda la situazione dei minori nulla gli consentiva di attendere nemmeno per un solo attimo di non provvedere o di provvedere negativamente o di provvedere in ritardo i minorenni non accompagnati per l'ordinamento interno e internazionale non sono migranti regolari o irregolari ma sono vittime altamente vulnerabili il cui trattamento inadeguato come sottolineato dall'acedu e come verificatosi nel caso concreto nella sentenza del 28 febbraio 2019 provoca sentimenti queste sono le parole dell'acedu provoca sentimenti di paura di angoscia inferiorità avvelimento umiliazione e che questa fosse nella realtà la situazione peraltro più volta segnalata di quei minori a bordo è stato testimoniato tra gli altri dal medico di bordo dell'ogos per questi minori lo stato assicura già da quando si trovano alla frontiera una corsia preferenziale di accoglienza e di trattamento dedicato e nei loro confronti certamente in nessun momento poteva ritenersi che potesse operare il decreto interdittivo del primo agosto allora il non rispondere o rispondere negativamente rende l'assenza del posto immediatamente illegittima non potendosi in questo caso invocare impedimenti logistici o di politica migratoria che cedono inesorabilmente di fronte alla superiore esigenza di tutela di quei minori per gli adulti sbarcati il 20 agosto il risultato non cambia seppure per ragioni diverse intanto come detto chiaramente dalla testa alla morgese quando una nave soccorritrice è già nel porto italiano i migranti devono sbarcarlo ma l'open arms omologata per 19 persone giunse legittimamente in acque nazionali dopo 14 giorni di navigazione con 147 migranti a bordo provati per problemi psicologici e fisici e qui giunse vittime se stessa di un evento SAR la nave dell'open arms tutto era in quel momento tranne che un posto sicuro temporaneo anche in questo caso dunque il ministro non aveva scusanti di sorta per non concedere o ritardare il posto non vi era l'indisponibilità di strutture di accoglienza nella politica della redistribuzione ormai ben avviata aveva ulteriore bisogno di consegnare all'Europa l'immagine di 47 di 147 migranti in situazioni estreme l'omissione prima e il rifiuto poi dunque non trovano anche in questo caso una giustificazione giuridicamente fattualmente e umanamente apprezzabile poniamoci ora per completare il quadro quantomeno dell'elemento oggettivo del reato se il mancato e il rilascio del posto abbia determinato la privazione della libertà personale dei migranti nell'affrontare questo tema si rinvia alla memoria per quanto riguarda tutte le impostazioni giuridica dell'elemento oggettivo del reato di sequestro di persona con riferimento all'idoneità del comportamento omissivo con riferimento alla situazione della vittima che può essere già ristretta o che può essere destinata a ulteriore restrizione con riferimento alla lesione del bene che può essere anche una mera del bene della libertà che può essere che non necessariamente deve essere assoluta ma può essere una mera limitazione rinviamo sempre sulla giurisprudenza europea in merito allo stato di confinamento dei soggetti che sono lasciati dallo Stato a bordo di una nata appare invece più proficuo anche per accorciare i tempi appunto a proposito dei tempi riflettere sui tempi minimi necessari per integrare la fattispecie e sul tempo sul tempo su commisse i delicti quanto con riferimento ai tempi minimi necessari la giurisprudenza parla di un tempo apprezzabile tempo apprezzabile che può essere anche breve proprio perché lo dice più volte la Suprema Corte anche perché vengono in gioco i diritti fondamentali è tanto breve che un caso proprio riguardante un centro di accoglienza dei migranti uno dei migranti venne condannato venne ritenuta la responsabilità personale per sequestro di persona perché aveva chiuso il cancello impedendo altre persone di uscire per un tempo di 30 minuti qua nel caso dell'Open Arms ovviamente parliamo di giorni che vanno ben oltre i 30 minuti e giorni che vanno anche apprezzati in relazione alle condizioni in cui quei migranti si trovavano per quanto riguarda il Tempus commissi delicti che si individua nel momento in cui l'azione si rivela idonea a ledere il bene giuridico nel caso di specie è indubbio che già all'arrivo dell'Open Arms in acque nazionali le 147 persone non avevano a disposizione spazi vitali che consentissero una pur minima libertà di movimento già a bordo della nave significativa riguardo la testimonianza del dottore Asaro gli spazi a disposizione erano minimi quindi avevano poco da fare potevano stare o seduti o sdraiati o all'impiedi non c'era niente c'erano soltanto queste persone c'erano soltanto queste persone anche per i medici del CISO era impossibile svolgere visite sanitarie a causa della massa indistinta di migranti sul ponte no questo non è stato possibile perché era impossibile in quelle condizioni erano tutti sul ponte non c'era un luogo certamente si è fatta la situazione era antecedente al 14 di agosto e quindi non può essere addebitata all'imputato però è pur vero che era nota ben priva dell'avvio dell'open arms in acque nazionali sicché in tale momento cioè nel momento in cui al 14 agosto la nave arriva in acque nazionali generato sin dubbiamente l'obbligo di indicazione di un posto sicuro il ministro era ben consapevo che il suo non provvedere perpetuava sin da subito un impietoso e legittimo stato di restrizione di 147 persone in ogni caso il successivo protrarsi dell'inerzia non ha fatto altro che incidere aggravandolo sullo stato di privazione di libertà personale dando luogo ad un'evidente lesione del bene giuridico sotto il duplice profilo della possibilità del libero movimento sulla stessa nave e della possibilità del libero movimento al di fuori della nave a riprova della particolare idoneità della condotta dell'imputato a ledere la libertà personale basti ricordare soltanto che i migranti ai fini autolisonistici rispetto a uno status insopportabile ma più spesso allo scopo di riottenere la loro libertà personale iniziarono sempre più numerosi a lanciarsi in mare e tali episodi consegnano plasticamente lo stato di chi è fisicamente ristretto e tenta una vera e propria evasione nonostante i gravi rischi per la propria incollumità come unico mezzo per riacquistare la libertà che gli era stata negata passiamo all'elemento soggettivo grazie a tutti non sto qui a parlare della sufficienza del dolo generico per il delitto di sequestro di persona specificamente indicato dalla giurisprudenza elemento soggettivo che consiste quindi nella consapevolezza di infliggere alla vittima un'illegittima restrizione in realtà si ritiene che il presupposto di tale consapevolezza sia come presupposto logico del reato la consapevolezza sulla illegittimità della propria condotta che ha appunto come effetto la privazione dell'altrui libertà personale ora quanto finora rappresentato è prova di tale consapevolezza e non è il caso di ripercorrere seppure sotto quest'altro punto di vista appunto dell'elemento soggettivo del reato bastando ricordare appunto quel caos istituzionale che non poteva che restituire all'imputato la consapevolezza della illegittimità dei suoi provvedimenti del suo diniego che non trovavano tra l'altro conforto da precedenti prassi del ministero dell'interno ne hanno trovato poi nei tempi successivi semmai più utile appare soffermarsi sulla linea difensiva a riguardo in sintesi secondo quanto ha dichiarato l'imputato nelle sue dichiarazioni spontanee non avrebbe fatto altro che rispettare le previsioni del tavolo tecnico del 2019 secondo cui dovevano avviarsi le interlocuzioni europee per la redistribuzione mentre le more della nave era considerato un posto temporaneo nonché le sue stesse direttive dello stesso anno secondo cui nel caso un evento soccorso si sia verificato in acqua di responsabilità libiche sia stato compiuto di iniziativa di una nave soccorritrice non sussistono i criteri dettati dalla Convenzione per l'attribuzione di un posto in Italia concludeva pertanto che questo sequestro terrorizzato non è altro che una modalità operativa che abbiamo adottato durante tutto il governo Conte orbene come pure si è rappresentato tanto il tavolo tecnico che la direttiva del ministro si risolvono strumenti borderline di cui si è voluto adottare lo stesso imputato a sostegno della propria politica ma questo in questo momento nemmeno rileva anche perché né un tavolo tecnico né una direttiva possono prevalere sulle leggi di fonte primaria in ogni caso quanto alle disposizioni del tavolo tecnico si è visto che considerano la nave post-temporaneo a condizione che essa possa essere tale è scritto e affermato chiaramente nel tavolo tecnico quindi l'imputato siccome ben sapeva che l'open arms non godeva delle dovute caratteristiche per fungere da posto sicuro provvisorio e sapeva pure che le trattative della redistribuzione si erano concluse non neanche nel cioè neanche rispettando ha ritenuto meglio ha ritenuto di non rispettare neanche le previsioni del proprio tavolo tecnico che prevedevano una perdita di tempo in virtù della redistribuzione ma purché la nave potesse costituire post-temporaneo quindi neanche le indicazioni del tavolo tecnico poterono incidere sulla sua volontà di rilasciare il post quindi erano le sue stesse regole che venivano violate quanto alla direttiva è pacifico che essa non possa essere applicata alla vicenda in esame in cui solo il primo evento di soccorso si era verificato in zona salibica e anche perché poi lo stato come abbiamo detto era divenuto stato di primo contatto e l'open arms aveva fatto ingresso in in acque in acque italiane del resto anche tale posizione si rivela contraddittoria con le dichiarazioni dello stesso imputato insieme di esame allorché ha affermato che il post sarebbe stato rilasciato ammettendo così che in quella situazione in realtà il post doveva semplicemente essere rilasciato quanto alla quindi sulla consapevolezza dell'illegittimità dell'omissione non abbiamo dubbi sulla consapevolezza e volontà dell'illegittima privazione della libertà personale altrui insomma credo che ci sia poco da dire bastando sottolineare che se un ministro agendo scientemente contra Ius sa di non permettere il legittimo sbarco e di non averlo permesso per più giorni diventa la palissiano che sapesse anche che quei 147 migranti non potevano sbarcare indirettamente rappresentativa di questa consapevolezza è il ridimensionamento da parte del ministro della situazione a bordo in palese contrasto con le macroscopiche evidenze che gli avvenivano rappresentate facendo leva invece sulle urgenze sanitarie e mai ponendosi il problema della questione della libertà personale ma a tale proposito è emblematica la risposta che l'imputato ha offerto al presidente circa i migranti che ormai esasperati si lanciavano sempre più numerosi in acqua le chiedevo se fosse stata a conoscenza di alcuni migranti che si erano buttati in acqua sì sì noi seguivamo io tramite il capo di gabinetto ma c'erano assicurazioni che non ci fossero situazioni emergenziali a bordo non è stato il primo caso non è stato l'ultimo quelli dei migranti che si sono gettati presidente beh non è proprio il massimo Salvini no non è usuale fortunatamente fortunatamente non è usuale ma non è neanche presidente ma non è neanche molto tranquillizzante il fatto che i migranti si buttino in acqua insomma lascia pensare che la situazione a bordo sia un po' pesante Salvini gli elementi che avevamo ci dicevo che comunque la situazione non era a rischio allora anche il termine non usuale utilizzato dall'imputato è indicativo della sua consapevolezza della gravità della situazione la straordinarietà di quell'evento quindi non usuale ha maggior ragione doveva fargli apparire la drammaticità della situazione e la conseguenza la conseguente non rinviabilità del rilascio del post del resto il lanciarsi il mare non poteva risolversi anche agli occhi del ministro in una vera e propria fuga da una situazione di restrizione sappiamo che le finalità specifiche non hanno rilevanza per l'integrazione dell'elemento soggettivo però non vogliamo esimerci dal considerare una certa giurisprudenza del 2003 secondo cui deve escludersi la configurabilità del suddetto reato parliamo di sequestro di persona allorché la privazione della libertà costituisca il risultato di una condotta che sebbene oggettivamente illegittima sia contrassegnata soggettivamente dalla finalità di realizzare l'esercizio di un potere del quale la gente sia legittimamente investito e non si caratterizzi come comportamento privo di ogni legame con l'attività istituzionale si tratta di una decisione forse poco condivisibile che se non interpretata con la massima prudenza si può risolvere nel fine che giustifichi i mezzi inammissibili per il nostro ordinamento giuridico ma interpretiamola letteralmente deve trattarsi dunque di un soggetto intimamente convinto di esercitare un potere riconosciutogli dalla legge questa sentenza non può assolutamente aggiungere altro nel caso che ci occupa intanto perché il ministro non poteva essere intimamente convinto di esercitare legittimamente un potere che gli era stato conferito perché nessuno gli aveva conferito il potere di negare il pos gli era stato conferito invece il potere o meglio il dovere non si trattava neanche dell'esercizio di un potere ma dell'adempimento di un dovere che era quello della indicazione del post l'imputato non poteva nemmeno ritenersi convinto di perseguire una finalità istituzionale governativa come è affermato nelle sue dichiarazioni spontanee dove dice in sostanza che la sua azione era collocata nell'ambito della realizzazione del programma della maggioranza che aveva delineato queste sono le sue parole una politica chiara e condivisa sulla gestione dei fenomeni migratori che prevedeva il coinvolgimento dell'istituzione europea e che tendeva a contrastare il traffico di esseri umani programma che aveva sto riassumendo che aveva comportato sempre l'assunzione di scelte collegiali dell'intero governo fino a quando delineatasi una frattura governativa per la crisi politica i suoi ormai exalleati contrariamente alle posizioni assunte in circostanze precedenti come nel caso della motonave 18 improvvisamente rinnegarono le azioni del ministro dell'interno il quale invece ritiene di aver fatto un servizio utile al paese e comunque meno partenze meno soldi per i trafficanti ora è inutile dire che anche più altri obiettivi politici devono essere perseguiti attraverso le leggi vigenti ferma arrestando la personale responsabilità del singolo ministro per gli atti posti in essere nell'esercizio delle sue funzioni responsabilità penale personale una possibile piena condivisione da parte del governo dei disegni dell'imputato sul tema dell'immigrazione in ogni caso mai avrebbe potuto legittimamente autorizzarlo a violare le leggi del mare il cui contenuto sovranazionale impegnava fermamente lo Stato italiano a conferma di ciò ad esempio laddove ce ne fosse bisogno il ministro Trenta pur componente di quello stesso governo non esitato a evidenziare in dibattimento c'è un limite alla politica del resto che la linea del governo fosse ovviamente quella di perseguire gli obbertini comuni gli obiettivi soltanto nel rispetto delle leggi vigenti emerge plasticamente dal fatto che quando il provvedimento di sospensione del TAR pose fine al sogno dei porti chiusi e quando in contemporanea diventene pubblica la questione dei minori non accompagnati ristretti sulla nave sia i due ministri controfirmatari sia lo stesso Presidente del Consiglio si ritennero in dovere di intervenire i primi due non controfirmando il decreto interdittivo e addirittura il nuovo decreto interdittivo e addirittura la ministra 30 premurandosi per trovare delle navi per andare a prendere i minori e il Presidente del Consiglio con le lettere a cui abbiamo fatto riferimento quindi quantomeno dal 14 si era interrotto il nesso causale tra la politica governativa e l'azione del Ministro che diventava assolutamente personale e rientrante nella sfera della propria responsabilità penale personale perché essere alleati non significa essere correi le finalità perseguite in dal dal Ministro Salvini quindi quali potevano essere abbiamo escluso che si trattava di finalità istituzionali anche perché a fronte della redistribuzione continuò dell'avvenuto accordo di redistribuzione qualora fosse quello l'obiettivo continuò a negare il post quindi la prosecuzione di quella linea intransigente non può che affondare le sue motivazioni in fattori diversi rispetto agli impegni assunti con il contratto di governo tali ragioni oltre che intuibili le ha evidenziate l'istruttoria dibattimentale Presidente Conte il clima anche che diventava un po' incandescente rispetto a una probabile competizione elettorale e a sviluppi politici futuri si voleva rappresentare il Presidente del Consiglio come quello che era debole diciamo nella gestione del fenomeno migratorio mentre il Ministro all'interno era quello che diciamo che invece avevano posizioni di rigore in quel momento in un contesto politico particolarmente acceso con un'opinione pubblica particolarmente attenta sensibile al tema dei migranti il fatto di dire il Presidente ha una posizione lasca una posizione debole eccetera io invece una posizione rigida per lui diventava motivo di utilizzo strumentale lo stesso Presidente Conte nella lettera petta di cui avevamo dato lettura prima diceva anche comprendo la tua fedele ossessiva e concentrazione nell'affrontare il tema dell'immigrazione riducendola a una formula di porti chiusi se è un leader politico e se è legittimamente proteso a incrementare i tuoi consensi dichiarazioni di analoga portata sono state rese anche dal Ministro Di Maio e quindi domanda quindi non concedere il posto ritardarlo è uno strumento di campagna elettorale di acquisizione del consenso diciamo risponde Di Maio su questo non credo che ci sia un problema a dirlo pubblicamente sì credo che tutto quello che veniva fatto era sicuramente aveva un fine che era quello del consenso lo stesso dico si per il Ministro Toninelli non esisteva più il governo esisteva una persona che andava in giro e parlava con parole pesanti per arrivare alla pancia delle persone della parte migratoria intendo dire che la loro Ministra Salvino ormai agitava agiva in totale autonomia era in campagna elettorale si stava cercando di monetizzare diciamo così al massimo il consenso stressando un argomento molto dibattuto in quel periodo lo stesso il testimone De Falco che riferisce di una discussione con la Ministra Trenta ma rinvio alla memoria si tratta ovviamente di interpretazioni offerte dai suddetti però qualificati testi che tuttavia offrono una lettura coerente di quelle condotte che ormai esulavano dal disegno comune e condiviso e così estreme e oltrone rispetto alle originali finalità da risolversi in un'auto verosimilmente in un'auto promozione rispetto a chi la stessa fermezza del Ministro non aveva palesato l'ho dimostrato del resto lo stesso imputato lo stesso giorno dello sbarco quando con quel post in cui con la diretta Facebook in cui affermava ai suoi elettori che avrebbe testardamente continuato a difendere i confini e ribadiva la propria coerente opposizione contro i clandestini e chiedeva il sostegno degli elettori rimane da trattare sarebbe da trattare il rifiuto di atti d'ufficio però come sappiamo pur tutelando beni giuridici diversi ha una struttura diciamo che già in qualche modo è stata analizzata sia per quanto riguarda il dolo generico sia per quanto riguarda appunto la la sussistenza della 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 condotta omissiva e del 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 suo rifiuto possiamo dire che il riguardava il rifiuto riguardava un atto qualificato per ragione di sicurezza pubblica di ordine pubblico infatti i migranti si lanciavano in mare se non erano dovute intervenire le motovedette della guardia costiera e vi erano anche ragioni di igiene e sanità data la condizione della open arms in generale e dei migranti in particolare e il fatto che si trattasse di un atto di un atto indifferibile su questo insomma credo che ci siamo spesi abbastanza quindi giungiamo alle nostre conclusioni riteniamo che il dibattimento abbia dimostrato che almeno dal 14 agosto 2019 sul sistema era il chiaro e preciso obbligo per il ministro italiano e di nessun altro di rilasciare il posto che tale posto doveva essere rilasciato senza indugio non un'ora dopo rispetto al momento in cui era stato richiesto che il deniego avvenne in assenza di qualunque ignoranzia ma nel consapevole e intenzionale spregio delle regole che l'intenzionale e consapevole spregio delle regole non avvenne per ragioni di natura preventiva repressiva né per la tutela dello stesso migrante ristretto né per un altro bene tutelato dall'ordinamento giuridico che l'intenzionale e consapevole spregio delle regole non avvenne nemmeno nel tentativo di proseguire un disegno politico governativo magari con qualche forzatura giuridica non giusta ma quantomeno tendente alla giustizia che dunque il deniego consapevole e volontario allesso la libertà personale di 147 persone per nessuna ma proprio per nessuna anche solo apprezzabile ragione in questo processo è mancata la presenza della gran parte delle persone offese perché anche per poter essere persone offese bisogna nascere fortunati la maggior parte di loro è irreperibile irreperibile in questo caso è più di ogni altro non vuole dire fuggitivo non vuole dire criminale e nemmeno che sia rimasto illeso dei giorni di restrizione sull'open arms ma significa essere senza casa e senza e senza mezzi allora la loro assenza fisica così come il fatto di considerarle un insieme cioè l'insieme dei migranti o peggio l'insieme dei clandestini potrebbe non fare percepire l'esatto disvalore del fatto leggeremo ad uno ad uno il nome di queste persone per ricordarle nella nella loro individualità perché è anche per ciascuna di queste persone che ci accingiamo a chiedere la condanna dell'imputato oltre che per difendere i confini i confini del diritto per questi motivi chiediamo alla luce di quanto si non è esposto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati contestati e di condannarlo considerato il vincolo della continuazione interna e esterna per entrambe le fatti specie alla pena di anni 6 di reclusione oltre alla pena accessoria di legge grazie e depositiamo la memoria va bene il cancelliere ha preso nota delle conclusioni del pubblico ministero la memoria l'abbiamo portato deposita memoria la dobbiamo rinviare adesso il processo per il proseguo all'udienza che avevamo calendato per il giorno 20 per la per la discussione delle parti civili come rario quello delle 9.30 e seguenti l'aula questa della B2 mi pare che sia B a B02 di Pagliarelli va bene Presidente per la discussione per l'udienza successiva è sempre confermato il 18 ottobre è confermato il 18 ottobre per la discussione della difesa sempre quest'aula e ci sono previsti dei rinvii successivi per eventuali repliche immaginiamo attenzione è possibile lo sapremo diciamo va bene detto questo l'udienza è tolta una buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti